Sì, facevo parte di Cosa Nostra. Può dire quando e dove è stato combinato formalmente? Sono stato combinato nel 1976 nella famiglia di Porta Nuova. Ricorda dove? Sì, un'abitazione nella zona di Palermo. Chi era presente alla cerimonia della sua affiliazione? Pippo Calò, che lui era per me allora, ma lui ancora il cavo mandamento di Porta Nuova, Masino Spataro, Nicola Milano, Mangano Vittorio, Lipari Giovanni e qualche altro che a un momento non mi ricordo. Senta, lei ha detto che apparteneva al mandamento di Porta Nuova? Sì. Ci può dire che ruolo ha rivestito in seno a questo mandamento? Ma prima come soldato, dopo come capodicina e poi sostituivo Calò. Senta, per quali motivi ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria? Ma principalmente tutte le malefatte che ci sono state, mi ero sconcertato in questo periodo a fare parte di questo male e piano piano ho capito che ero in una strada sbagliata. in particolare c'è stato un giorno che il signorina ha dato ordine di ammazzare i bambini di sei anni, tutti quelli che appartenevano a parenti dei pentiti, senza risparmiarli nemmeno uno. Appena compiono sei anni li possiamo ammazzare. Tutte queste cose io non me le sentivo più di fare parte di questo male. Poi c'è stata anche un'altra cosa, diciamo, che mi è servita, mi ha aiutato a prendere questa decisione, che non è stata, attenzione, una decisione facile. Questo ve lo voglio dire, è stata una cosa molto difficile, difficilissima. Però grazie l'ho preso, che Raffaele Ganci un giorno mi disse che c'era stato un incontro con Provenzano e quando ce ne siamo andati mi disse se ti mando un appuntamento non andare a nessun posto. Non mi ha dato altre spiegazioni, niente. Comunque ripeto, questo mi è servito per fare questo salto. Principalmente è stato questo qua. Sì, ma quelle parole di Raffaele Ganci che significato avevano? Guardi, io con tutta onestà non posso dire che lui mi ha dato un segnale forte che ci poteva essere un male per me, assolutamente. La cosa che a me mi è convinto di più era che io mi ero sconcertato di fare parte di questo male. In particolare quelle parole di Riina che ha dato ordine, che si dovevano ammazzare, fino a ventesimo grado di parentela sono state queste le parole, i bambini di sei anni che sono parenti dei collaboratori di giustizia. Questo qua mi ha fatto tanto male, è una cosa inaccettabile. Sì, ma lei come interpretò quell'avvertimento, quella frase di Raffaele Ganci? Se ti danno un appuntamento non c'è tanta idea. Sto parlando dell'interpretazione che diede lei. Sì, io rispondo per quello che io... l'impressione che lui mi ha dato. Ripeto, la cosa più forte di io fare questo passo è stata quello che ho detto prima. Questo qua mi ha dato una spinta, diciamo, in più, però se lei mi dice ma perché ha capito perché lo volevano ammazzare, ha capito qualsiascosa cosa, io onestamente non sono in grado di dire è stato per questo. Ripeto, lui mi ha detto pure queste parole. E posso dire che mi ricordo proprio in questo momento che lui c'era stato che Bagarella mandava in quel periodo, mandava a chiamare, faceva qualche appuntamento a Bagheria. Mi ricordo benissimo che lui ha fatto un gesto scorretto, se il Presidente me lo ordina lo posso anche fare, di dire, ha fatto quel gesto, dice perché non mi manda a chiamare a me Bagarella, che io ci vado. Quindi c'è stato tutto questo. Vorremmo capire questo gesto. Lo so che vuoi dire. Se la signoria vostra lo potesse destina. Questo gesto non lo potremmo registrare, Avvocato, non possiamo riprendere la collaborazione. Va bene, può dare altro lei, Presidente, lo descrive. Non lo ha fatto il gesto, Avvocato. Ma non è necessario, nessuno gli sta dicendo... Scusi, nessuno sta dicendo di farlo. Poi diventerebbe problematico verbalizzare il gesto, Avvocato. Sì, sì, no, Presidente, abbiamo... Senta, possiamo riprendere, Presidente? Signor Pancemi, lei ha detto che la sua decisione è stata difficile, anzi difficilissima. Ecco, ci vuole spiegare più precisamente questo passaggio della sua risposta. In che senso è stata difficile, difficilissima? Ma è stata difficile perché... Vi posso fare un esempio... Sì, sì, certo. ...magari un pochettino non piacevole per i giudici. Come dire un giudice andare a fare parte di Cosa Nostra? Potete immaginare che cosa significa. Perché fino al 22 luglio del 93 i giudici, i poliziotti, i carabinieri erano i miei nemici. Quindi poi l'importanza, diciamo, della collaborazione, la famiglia, tutto, diciamo, ecco, tutte queste cose messe insieme è stata una cosa molto difficile, molto travagliata dentro di me. Non è stato facile, quello che vi dico io. Senta, lei aveva disponibilità di risorse finanziarie all'epoca in cui svolgeva quell'attività dentro Cosa Nostra? Sì. E dove? Che ne è stata di questa disponibilità finanziaria? Non ho capito bene. Dove l'aveva questa disponibilità? Ma in particolare l'avevo in Svizzera che io questi soldi l'ho fatto ritrovare ecco, nella mia collaborazione mi ho voluto spogliare anche di questo e ho indicato dove erano e li abbiamo ritrovati dove io l'avevo nascosto sottoterra. Ma quanto ammontava questa disponibilità finanziaria? Sei in grado di... Ma sì, sicuramente più di 4 miliardi. Quindi lei l'ha fatto ritrovare senza che vi fossero elementi dai quali si poteva ricavare l'esistenza di questo... No, assolutamente no, perché io non è che l'avevo in banca l'avevo sottoterra e l'avevo messo io con le mie mani e quindi se non ci andavo io nessuno li poteva trovare. Può dirci quando esattamente ha intrapreso la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria? Il 22 luglio del 93. Quindi può precisare le modalità con cui è iniziata questa... questa nuova fase della sua vita, diciamo, questa collaborazione? Ma io una mattina appunto del 22 luglio del 93 spontaneamente mi sono presentato i carabinieri e di qui è iniziata la mia collaborazione. Ma si è presentato, mi faccia capire, esistevano provvedimenti restrittivi della libertà contro di lei, quella mattina, quel periodo? Guardi, io non avevo nessuna condanna. ero libero, per esattezza, aveva un'ordinanza di custodia cautelare come mandante di alcuni omicidi. Però precedentemente già ne aveva avuto un altro come mandante e la Cassazione me l'aveva annullato. Quindi io ero libero, non avevo nemmeno un giorno di condanna, avevo anzi queste cose a favore mio della Cassazione. Ho capito. Lei ha detto che si presentò dai carabinieri. Può dirci in quale caserma si presentò, presso quale ufficio, presso quale comando dei carabinieri? Sì, io sono andato a Piazza Verde, mi sembra che questa la chiamo la caserma Carini. A Palermo? Sì. Senta, Sio Cancemi, sinteticamente può esporre alla Corte i reati in relazione ai quali ha confessato la propria responsabilità? Cominciando proprio questo che c'è in corso, questo processo, ha omicidi, stupefacenti, estorsione, tutte queste cose. Con quale autorità giudiziaria ha collaborato? Con quale autorità giudiziaria ha collaborato? Ma all'inizio Palermo, Cartanissetti e poi quasi con tutti. Senta, attraverso le sue dichiarazioni o le sue indicazioni, lei sa se sono stati catturati latitanti? Ma io credo di sì. E in particolare può specificare quali latitanti sarebbero stati arrestati, rintracciati o indagati attraverso le sue dichiarazioni? Ma indagati sicuramente centinaia. Non mi ricordo, diciamo, perché ho fatto delle dichiarazioni, i carabinieri o la polizia poi ha fatto gli arresti, diciamo, anche dei latitanti, ho dato delle informazioni dove poterle rintracciare, catturare. Senta, lei ha contribuito a far ritrovare anche tracce di reati come stupefacenti, droghe, in generale tracce di reato. Sì. Lei poco fa ha parlato di un incontro con Raffaele Ganci, nel quale, di una conversazione, meglio ancora, nel corso della quale Ganci le disse che se Provenzano lo mandava a chiamare, lei non sarebbe, sarebbe stato preferibile non andarci, se non ho capito mai. È così? No, non è così. Lui non mi ha fatto il nome di Provenzano. Ha detto se ti mandano qualche appuntamento non andare in nessun posto, ma non facendo nessun nome. Ma poi qualcuno lo mandò a chiamare effettivamente a lei? Sì. Poi proprio quella mattina del 22 luglio c'è stato proprio il Provenzano che mi ha mandato un appuntamento tramite Callo Greco, Callo Greco che è il sottocapo della famiglia della Guadagna, con i poteri di capomandamento assieme a Petraieri. e questa è stata la mattina che io sono andato di Carabinieri. E Carlo Greco che cosa le ha riferito? Carlo Greco mi aveva mandato un appuntamento, un biglietto scritto. Un biglietto scritto? Sì, che c'era questa mattina che il Provenzano mi voleva parlare. Quindi quando lei ha ricevuto questo biglietto scritto, cosa ha realizzato, cosa ha compreso? Ma l'ho detto prima che io già ero deciso di fare questo passo. Poi con questo appuntamento, quelle parole di Ganci mi hanno dato una spinta maggiore, diciamo, a fare quello che ho fatto. Ho capito. Senta, lei ha iniziato la sua collaborazione attraverso quale accusa in particolare? Cioè qual è stato il primo delitto, la prima attività delittuosa di cui lei si è accusato? Ma io, come ho detto prima, è stata travagliata questa mia collaborazione, perché, come lo ripeto, non è una cosa facile, è una cosa molto difficile. E io voglio essere un momento presuntuoso, voi non lo potete capire, quanto è difficile la collaborazione. C'è stato, diciamo, mi sono accusato dell'omicidio della Fiura e altri. Senta, lei come ha appreso dell'esistenza, cioè, io, è inutile che dico questo, lei ha detto di essere stato nel mandamento di Porta Nuova, di essere stato uomo d'onore, eccetera, quindi ha saputo che esiste una commissione provinciale a Palermo. Sì. Come ha saputo, le regole che presiedono all'organizzazione di Cosa Nostra. È così? Sì. Allora, come ha appreso l'esistenza di questa commissione provinciale? Guardi, quando uno ence a fare parte di Cosa Nostra, poi viene spiegato tutta l'organizzazione, appunto come è composta la famiglia, che esiste questa commissione, ci spiegano come funziona, quali sono i capi, i sottocapi, i capi decine, i capi mandamenti, spiegano tutti. Io, in particolare, l'ho appreso... Mi scusi, signor Cageli, questa spiegazione avviene in un'unica volta, appena si entra? No, diciamo, mano a mano, diciamo, se va avanti, vanno spiegando. Sì, può venire anche, diciamo, quando uno fa parte di Cosa Nostra, magari il giorno dopo, subito dopo, però la cosa più che succede, piano piano, diciamo, vanno spiegando la composizione della famiglia, della commissione, così. Ho capito. E quindi, ci vuole dire che cos'è questa commissione provinciale? La commissione è composta che tutti i capi mandamento fanno parte della commissione. Il capo mandamento è composto che c'ha due, tre, quattro, cinque famiglie aggregate nel suo mandamento e c'è un capo mandamento. Quindi, nel caso di Portanova, Giuseppe Calò. Eh, c'è i mandamenti che ci sono. Quindi, questa poi è la commissione, è l'organo che decide le cose più egratante, le cose più grave da fare. Quindi, quali sono esattamente i poteri e i compiti di questa commissione in relazione specificamente agli omicidi eccellenti? E appunto, di decidere le cose più grave, una morte di un giudice, di un politico, e di un pezzo dello Stato. Questo è qua. Ma, scusi, mi faccia capire, decide in che senso? Che senza questa decisione non si possono commettere questi delitti? Sicuramente sì. Non si possono commettere perché la commissione è quella responsabile appunto di tutto di queste cose grave che sappiamo che poi succede delle conseguenze e quindi devono essere tutte a decidere perché le conseguenze poi sono sono di tutti. Quindi è questo il motivo per cui deve subentrare la decisione della commissione? Sì. Ma lei come l'ha appreso questa regola specificamente? Ma io all'inizio quando mi hanno combinato appunto mi hanno detto che Pippo Calò era capomandamento e faceva parte della commissione l'ho saputo da lì pari Giovanni e allora mi sembra che erano sotto capo capo di Cina non mi ricordo e poi man mano diciamo io l'ho saputo da tanti altri anche mi ricordo che nell'83 io personalmente accompagnai Giuseppe Calò a San Giuseppe Ato in una tenuta di Bernardo Brusca e appunto qua c'è stata una riunione di commissione nell'83 e io l'ho visto tante persone che fanno parte di Cosa Nostra e fanno parte della commissione come Michele Greco allora c'era la presente Totò Riina Pippo Calò Nenei Geraci Bernardo Brusca e altri Pippo Gambino Gancir Raffaele Salvatore Buscemi queste erano tutte presenti in quella riunione dell'83 cosa sa dire cosa si discusse in quella riunione no perché io allora mi ricordo ero capodecino ero un soldato accompagnai Pippo Calò loro hanno discusso queste persone che io ho detto sono entrate dentro questa casa però non mi ricordo che Pippo Calò mi presentò Riina Michele Greco perché mi sembra che era la prima volta che io l'avevo vista però quello che hanno discusso non me l'ha detto lei sa dire chi faceva parte della commissione al momento in cui fu eseguita la strage di Capaci in cui perirono il giudice Falcone la dottoressa Morvillo gli agenti di scorta che è oggetto di questo processo sì Riina Salvatore e Bernardo Provenzano questi per quali per quale se può specificare per quale mandamento anche sì questi fanno parte del mandamento di Colleone tutte e due insieme sì 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 poi Salvatore Bucemi che fa parte del mandamento di Bocca di Farco Salvatore Montalto che fa parte del mandamento di Villabate Raffaele Canci che fa parte del mandamento della Noce Pippo Gambino che fa parte del mandamento di San Lorenzo Francesco Madonia che fa parte del mandamento di Resuttana e altri ce ne sono lei ricorda gli altri mandamenti dell'epoca di cui stiamo parlando sì ecco ce ne vuole precisare mandamento per mandamento con la persona incaricata di comandare il mandamento sì mi può sfuggire qualcuno attenzione questo è chiaro casomai tutte queste che ho detto poi c'è il mandamento di Caccamo lei sa che voglio dire il codice di procedura penale stabilisce questo tutto quello che lei ha dichiarato al pubblico ministero ha un certo valore adesso lei deve dichiarare le sue dichiarazioni davanti alla corte d'assise costituiscono prova qui in questo dibattimento e quindi in certo qual senso è come se tutto ciò che lei ha dichiarato prima non avesse valore mi sono saputo spiegare sì sì ecco quindi ecco perché stiamo facendo queste domande allora andiamo avanti quindi allora dobbiamo elencare tutti ricominciamo da capo ricominciamo da capo e a mandamento per mandamento sì quindi allora abbiamo Corleone Corleone Totorrina e Bernardo Provenzano sì poi abbiamo Belmonte Mezzagno Belmonte Mezzagno Benedetto Spera sì poi abbiamo Caccamo sì Antonino Giuffre sì poi abbiamo Villa Abate Salvatore Montalto sì poi abbiamo Sciaculli che oggi lo dobbiamo chiamare Brancaccio i fratelli Graviano Giuseppe Filippo e Benedetto sì Palermo che porta nuova Pippo Calò Noce Raffaele Ganci Bocca di Falco Salvatore Buscemi Resuttana Francesco Madonia San Lorenzo Pippo Gambino qualche altro che momentaneamente mi spugge senta sa se esiste un mandamento che si chiama guadagna sì vabbè Presidente l'ho detto prima ma l'aveva già citato l'ho detto prima Pieta ieri aveva citato non con riferimento al comandamento ma a proposito di un altro passaggio che adesso mi sfugge di dell'appuntamento dell'appuntamento esatto sì sì e io lo stiamo facendo specificare San Giuseppe Ato Bernardo Brusca Senta a Palermo ricorda se ci sono altri mandamenti oltre a quelli da lei riferiti Palermo Città sicuramente qualcuno mi sfugge però come Palermo Città io non so lei che cosa intende Palermo Città Palermo Centro è il mandamento di Portano Palermo come città diciamo della geografia ecco è quello di di Resuttana di San Lorenzo di Brancaccio sì della Noce ascolti lei conosce Matteo Motisi sì Matteo Motisi il vecchio attenzione non fate confusione perché questo Matteo Motisi lo conosco benissimo lui è il capomandamento di Pagliarelli però all'epoca della strage sì questo questo mandamento è stato fatto nell'82 83 sì quindi lui è il capomandamento di Pagliarelli però attenzione non fate confusione di queste Motisi perché c'è chi dice Matteazzo Motisi no non è così Matteazzo Motisi è un soldato della famiglia di Pagliarelli il capomandamento è Matteo Motisi che sono parenti sono parenti ma sono due completamente diversi il capomandamento è Matteo sì no anche quello si chiama Matteo sì senta per quanto riguarda il territorio fuori di Palermo lei sa quali sono i mandamenti quali erano i mandamenti all'epoca della strage fuori di Palermo sì c'è il mandamento di Mazzara Mazzara del Vallo c'è il mandamento di Marsala c'è il mandamento di Agrigento Canigattì c'è il mandamento di Catania questi qua e qualche altro sicuramente che mi sfucci lei conosce Giuseppe Farinella sì lui è capomandamento di San Mauro Castelveino San Mauro Santo Mauro di Ganci qua questa zona di qua sì lui è capomandamento Giuseppe Farinella sì e conosce Nennè Geraci sì lui è capomandamento di Partinico il vecchio attenzione perché qua ce ne sono due si chiamano il vecchio e il capomandamento di Partinico signor Cancemi lei faceva parte della commissione sì dopo l'arresto di Calò dopo qualche annetto un anno e mezzo due anni così io facevo parte sì e quindi quando hai iniziato a presenziare alle riunioni della commissione ma come ho detto prima dopo qualche anno e mezzo due anni dopo l'arresto di Calò perché Irina prima doveva stare stava molto attento di di fare partecipare uno in commissione diciamo che sì lo conoscevo c'aveva avuto a che fare ma non c'era quella conoscenza tale quella fiducia diciamo che piano piano tramite i ganci diciamo poi ci andavo anche io lei conosce Pietro Aglieri sì che ruolo svolgeva Pietro Aglieri è capo mandamento unitamente a Carlo Greco della guadagna bene ci vuole dire sinteticamente brevemente a quale riunione della commissione ha partecipato in epoca vicina alla strage ma per esempio quando quando hanno ammazzato il fratello di Spera c'è stata una riunione di commissione io ho partecipato quando hanno ammazzato Pietra Ucello non so se lo pronuncio bene quello di Misilmeri che Irina ha dato ordine di ammazzare tutti quelli che lui le riteneva avversi di Petra Ucello e qua ho partecipato pure io e i diversi quelle di Lima e tanti altri dove si sono svolte queste riunioni? ma quelle due prima che ho detto si sono svolte in una casa nella zona di Passo di Rigono e così chiamata la chiamavamo così dietro nella casa del pollaio perché qui in questa casa c'erano i gallini vicino diciamo questa casa e si chiamava così alla casa del sole di Passo di Rigono di Diecio che questa abitazione è a disposizione di Michelangelo la Barbera poi diversi nella villetta dietro la villa Serena del proprietario di Gutto Girolamo che questo con tutta onestà non fa parte di Cosa Nostra e lui non sapeva niente quando io ci chiedevo la casa per fare queste riunioni la buio di tutto Nel tempo queste riunioni si sono svolte sempre con le stesse modalità no perché Riina aveva i suoi informatori pezzi dello Stato che ci facevano sapere quando c'era lui diceva usava il revuglio se la corte non lo capisce le spiego che cosa significa il revuglio cosa vuol dire che c'era movimento che c'erano operazioni in corso cose e quindi lui per motivi di sicurezza le faceva gruppette diciamo 3 4 così non faceva quelle riunioni di 10 15 20 persone appunto per motivi di sicurezza quindi il motivo era quello della sicurezza per evitare che in caso di controlli fossero tanti soggetti presenti che potevano essere tutti diciamo come dire identificati arrestati è così se ho ben capito questa è deduzione no questo scusi questa è una richiesta di esplicitazione di questi motivi ha detto motivi di sicurezza è una deduzione senza dire quale risponda alla domanda dunque non è un mio pensiere è un discorso che faceva Rina che io glielo sentevo dire che lui diceva stiamo attento perché c'è il revuglio io anzi chiedi tutti assieme vedo a gruppette così lui diceva ci vediamo due tre quattro quindi lo diceva lui quindi non è un mio pensiero ma dico anche se si riunivano a gruppetti la commissione aveva sempre lo stesso potere si era compiti no? si si questo lui non l'aveva detto né cose la riformula però devo chiedere scusi le domande io le devo fare ma c'è un modo per fare le domande no no assolutamente allora signor Cancemi lei ha detto che prima la riunione avveniva in forma plenaria diciamo della commissione poi chiamiamola così per motivi di comodità poi ha detto dice Riina li faceva riunire a gruppetti a tre a quattro ho capito bene benissimo è così allora io voglio sapere questa diversità di modo di svolgersi della riunione era segno di una diversità che erano cambiate le funzioni della commissione pure Presidente c'è opposizione il pubblico ministro deve dire di che cosa era segno perché non credo che sia una domanda legittima come la deve porre avvocato la domanda implica la risposta ma no signore avvocato guarda è ovvio qual è il significato quello che dice lei è un'altra domanda è un'altra che io già ha risposto io sto facendo un'altra domanda ancora quello che dice lei dice se la commissione è composto da dieci persone e si riuniscono in cinque è legittimo chiedere questa domanda che il pubblico ha lo stesso valore o meno perché la mia domanda è precisa e desiderano sapere questo cioè sono cambiate le modalità ma le funzioni non sono i compiti sono pure cambiate questo volevo sapere assolutamente no le funzioni le modalità erano sempre quelle e sono sempre quelle solo per motivi di sicurezza Rina diceva che faceva così bene senta signor Calcemi io vorrei che lei precisasse una cosa importante cioè lei poco fa su mia domanda quando ha parlato dei capimandamenti dei capomandamenti ha dichiarato che per due tre mandamenti vi erano due persone o tre addirittura non so adesso io vorrei che lei precisasse che significato ha che in un mandamento c'è un solo una sola persona che comanda in altri mandamenti ce ne sono due sì ecco questo è possibile è regolare come avviene questo fatto sì ce lo vuole precisare sì dopo l'81 quando Rina ha fatto ammazzare Stefano Bontade Salvatore 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 in Serillo e quelle della sua cordata nei vari mandamenti Irina ci ha messo persone sue di fiducia quindi lui non aveva più quelli problemi di dare soddisfazione a chi a nessuno perché era lui con Provenzano e quindi quando lui vedeva che nei mandamenti per dire c'erano due persone che avevano la stessa fiducia la stessa stima lui la contentava così per dire alla guadagna sì quello che si sapeva era per ieri il capomandamento però lui ci ha messo a fianco anche Callo Greco pure con potere di capomandamento quindi ci dava un contentino a quelle due persone che lui li stimava uguale diciamo non aveva differenza non si voleva dispiacere né a uno né a un altro quindi la cosa da quell'epoca è andata avanti così sì e quando c'erano due capi due a capo del mandamento avevano gli stessi poteri sì per esempio io quando ho partecipato nella riunione di di quando hanno ammazzato il fratello di Benedetto Spera nella riunione c'era Callo Greco e Petraieri c'erano tutte e due quindi questo significa che significa che insomma che la cosa funzionava da quell'epoca andava avanti come voleva Riina senta cosa succede quando uno dei componenti della commissione è detenuto o assente ma lui Riina più volte più volte io ci sentivo dire che per i caccerati ci penso io me la sbrigo io so io quello che devo fare più volte lui diceva così quindi il mio pensiero dico il mio pensiero che sicuramente non è un pensiero è una certezza che era lui a comunicare aveva lui il canale per comunicare con i detenuti e quindi che ruolo rivestivano Salvatore Riina e Bernardo Provenzano all'interno della commissione ma io addirittura le posso dire di più che a me me l'ha spiegato Ganci Raffaele Pippo Calò e qualche altro che andando indietro nei tempi dice che si andava a sedere in commissione quando c'era il badalamente quando c'era quella cordata di Stefano Bontà e andando indietro addirittura ci andava il Provenzano a sedersi in commissione e Riina diciamo non ci andava poi dice quello che mi hanno detto che Riina non rimaneva tanto contente diciamo a tipo che il Provenzano non ci sapeva fare come diceva lui e quindi si sono accordato fra loro due e ci andava il Riina in commissione però con l'accordo diciamo da tutte e due senza che c'è stata diciamo nessuna su di verb niente hanno preso questo accordo e ci andava in Riina ecco questo qua senta le decisioni stiamo parlando sempre di diritti eccellenti eccetera in che modo venivano prese all'interno della commissione ma nel modo che Riina riunivano riunivano i capomandamenti per dire lui diceva quello che si doveva fare si doveva ammazzare questo giudice per questi motivi di qua di là e tutti erano d'accordo di quello che si doveva fare così la decisione non è che vi deve sembrare sa che cosa diciamo che ci sono miracole si siedono e lui apre il discorso e tutti sono d'accordo di quello che si deve fare è una cosa semplice o tra virgolette lei ha detto di aver sentito direttamente Riina dichiarare che per i detenuti ci pensava lui è vero? sì e invece per gli assenti mettiamo latitanti persone che potevano stare fuori ma lui latitanti come veniva raccolta la sua l'assenso di queste persone no i latitanti non c'erano problemi assolutamente perché lui li incontrava anzi lui era più più contento di incontrare un latitante e non uno che era libero perché il latitante magari era più sicuro che non poteva avere sbirre di diecio invece quello che era libero era più preoccupante infatti lui ci faceva fare strategie prima di incontrare uno che era libero questo lo so io e quindi li incontrava i detenuti i caccerati non diceva detenuto lui diceva i caccerati e ci penso io lo so io me la sbrigo io come ce lo devo fare sapere quello che devo fare quindi mi scusi il detenuto o l'assente da chi viene rappresentato? ma attenzione il rappresentato lui diceva queste parole rappresentato della sua comunicazione che lui comunicava questo è quello che lui diceva questo che lui diceva ma in generale per gli affari di qualunque tipo anche per le questioni importanti no se noi il detenuto o l'assente veniva rappresentato da qualcuno sì se noi per dire parliamo di cose minore il sotto capo quello che si occupa delle cose minore della famiglia nel mandamento il consigliere il sotto capo questi qua se poi parliamo di quelle quelle tipi di decisione lui diceva così che picacerate ci penso io lo so io come devo fare per cose minore si occupava il sotto capo il consigliere il capo di Cina senta sa se Cosa Nostra esiste in altre province della Sicilia sì e in quali ce lo puoi dire ma escludendo escludendo Messina Siragusa e Ragusa quello che so io quello che mi hanno detto a me appunto quando spiegano quando uno entra a fare parte di Cosa Nostra poi in tutti i province della Sicilia c'è Cosa Nostra lei ha mai sentito o sa di un organo dell'esistenza della composizione di un organo denominato commissione regionale o commissione interprovinciale sì io qualche cosa l'ho sentito che per dire Irina si incontrava con una volta più volte l'ho visto pure io con Maria Nagate del giapponese con Antonino Ferro di Agrigento e Santa Paola di Catania questi qua e per Caltanissetta sa chi era il rappresentante sì il rappresentante Giuseppe Madonia rappresentante il capomandamento Giuseppe Madonia per Enna non lo so senta sa quali compiti aveva questa commissione questo organismo ma appunto quello che ho spiegato prima diciamo delle cose più importanti delle cose per dire che c'era una responsabilità comune un danno che poteva causare a tutti ma che compiti aveva? non ho capito bene la domanda quando si riuniva riformo la domanda nell'ambito di questa commissione interprovinciale o regionale quando si riunivano coloro che ne facevano parte avevano poteri di decisione certo scusate allora questo è il motivo della riunione di questa qua per decidere accetto che avevano il potere di decidere tutti quelli che ne facevano parte sicuramente lei sa dove avvenivano le riunioni di questa commissione? ma guardi non è che c'era un luogo fisso assolutamente se no significa che Cosa Nostra era un'organizzazione di ragazzini i luoghi erano diversi appunto per motivi di sicurezza ma come località può precisare qualcuno dove avvenivano queste riunioni? ma come località nel Mazzarese sulla Grincettino sul Palermetano tutti questi posti qua nel Palermetano qua lei può dire con quale frequenza si svolgevano queste riunioni? no non è che c'era una regola per dire ogni dieci giorni ci dobbiamo vedere quando c'era la necessità si riuniva la commissione lei come ha appreso queste notizie? ma ripeto all'inizio quando combinano uno piano piano poi spiegano come è composta Cosa Nostra le regole tutto così io direttamente da Calò da Giuseppe Lipare allora sotto capo mi sembra della famiglia di Portanova e da tante altre e poi di più da Ganci da Rina stesso da tutti senta lei è a conoscenza di episodi specifici in cui si sono di casi specifici in cui si sono effettuate riunioni di questa di questa commissione interprovinciale o comunque di incontri tra Rina e quelle persone che rappresentavano le province guardi io le posso dire che Raffaele Ganci a volte io lo incontravo e mi diceva che aveva impegni perché il suo tuccio Totò Rina si doveva incontrare con cape mandamente di tutta la provincia lui mi diceva mi diceva così però dove avveniva diciamo la riunione io non sono in grado di dirlo tutta la provincia di Palermo no no tutte le province tutte le province della Sicilia dove c'era cosa nostra signor Cancemi ci vuole dire in termini generali in termini sintetici se lei ha avuto un ruolo e in caso positivo quale nella strage per cui è processo sì io sono andato con Raffaele Ganci in una velletta di Capace dove là ho visto queste persone che ora dico ci sono andato tre volte una volta abbiamo trovato un ucchietto nel cancellino e non siamo entrati due volte siamo entrati chi eravate lei con chi era io là ci sono andato con Raffaele Ganci con Raffaele Ganci e poi dopo mi sembra la seconda volta dopo un quarto d'ora venti minuti che io ero là con lui che c'era Salvatore Biondino poi è arrivato Bagarella Giovanni Brusca Ferrante oggi posso dire la Barbera perché io non lo conosceva diceva uno magro un altro che era un po' grossotto che oggi so che l'ho indicato uno questo grossotto che io non lo conosceva questo Rampulla un certo che io pensavo che era il proprietario della casa un certo Giovanni Battaglia Antonino Troia questi qua sì ma lei per quale motivo si recò in questa in questa abitazione in questa villetta in questa casa ma il motivo è quello là che il Biondino 15-20 giorni prima di questo attentato aveva aveva comunicato ecco qua c'è il discorso per motivi di sicurezza qua siamo nei motivi di sicurezza aveva accennato che il suo tuccio aveva c'era pronte per metterci una bomba a Falcone quindi era stato io mi trovava in una costruzione a Piazza Principe Camporreale dove c'era Ganci Zaffaele io ero di solito ci andava a Ciovallo e qui Biondino ha comunicato cosa le disse esattamente Biondino che il suo tuccio era pronto e si doveva fare questo attentato a Falcone e poi puntuale è avvenuto io un giorno di queste tre volte che ci sono andato che una volta scusi il discorso di di Biondino adesso approfondiamo un attimino questo aspetto che lei aveva già iniziato a toccare Biondino le disse dice Rina eccetera manda a dire mi pare se non ho capito male dobbiamo fare questa mettere una bomba eccetera le disse qualche altra cosa Biondino perché era Biondino che le comunicava si ha detto no non l'abbiamo visto presidente perché non l'abbiamo sentito non ha risposto e allora perché sta facendo un'altra domanda non poteva sentire la risposta senta le domande io vi faccio prima come meglio credo come meglio credo se non sta rispondendo evidentemente e allora io immagino che la mia domanda non è stata compresa per la verità e quindi la sto riformulando ha fatto un genio di perplessità il votato la sua interruzione e quanto mai in opportuna e quanto mai in opportuna c'era una domanda precisa che presupponeva io posso registrare l'espressione del collaboratore l'ha fatto un genio di perplessità per dire non ho capito e quindi il pubblico ministero io sto traducendo un'espressione una mimica dell'imputato non l'abbiamo visto né io né il pubblico ministero suppongo io pur non avendolo visto l'ho intuito avvocato ma è bravo il pubblico ministero è bravo è un bagaglio è un bagaglio di esperienza comune nel colloquio tra persone scusi avvocato veramente io non l'ho capito questa cosa era perché era utile sapere se siete chiedo non lo so insomma chiedo di di non essere interrogato avvocato ho dato atto che non c'è stata una risposta le ho tradotto la mimica facciale e non può ripetere la domanda cortesemente signor presidente no io non la ripeto la domanda perché le domande le lezioni visto che lei era stato poco felice nell'espressione ma questo lo dice lei che sono stato poco felice e se non ha capito il pubblico ministero fa le domande che ritiene di fare se a me mi tiene che fosse importante se la noti mi deve consentire da soltanto per registrare la risposta a una domanda ma siccome non è stata una risposta perché non è che ha detto non lo so non lo ricordo non voglio rispondere questa sua interruzione mi fa capire che proprio lei oggi è accorto di argomenti in maniera assoluta io sono accorto di argomenti e quindi non sa dove affigliarsi si affiglia la nostra di esistenza pubblico ministero per favore avvocato la prego avvocato pubblico ministero questa è la stessa spiegazione fino ad ora siamo andati avanti in modo sereno e civile io direi che se continuasse su questo obbligario mi scuso con lei signor presidente no no avvocato sto dicendo evitiamo perché poi la bagarre monta e diventa incontrollata e incontrollabile è peraltro di poca importanza dunque signor Tancemi io quello che desideravo capire del suo racconto era il motivo per cui proprio biondino era venuto da lei a comunicare questa decisione di Rine questo era il senso della mia domanda c'è un'opposizione presidente perché questa sottolineatura proprio biondino mi pare che suggerisca qualcosa perché proprio biondino ripeto un fatto solito perché biondino e non ad esempio non lo so Sempronio risponda alla domanda io da me è venuto Brondino Biondino Salvatore da me da ganci se era un altro diceva che era venuto un altro però vi spiego perché biondino perché biondino Salvatore è una delle persone più importante per Rina biondino Salvatore era quello unitamente a ganci che tutti gli appuntamenti che Rina faceva tutte le cose più delicati appunto vi dimostro che Salvatore Biondino è stato arrestato con Rina Salvatore Biondino era quello che che sapeva dove dormiva Rina io non lo sapevo e quindi ecco perché Salvatore Biondino perché Salvatore Biondino faceva parte della commissione il vero capomandamento che faceva parte della commissione era Pippo Gambino però il biondino era quello che come era una figura pulita incensurato era quello che girava di più e quello che spostava Rina negli appuntamenti negli incontri più delicati ecco là è venuto Salvatore Biondino a venire a dire quello che ho detto per quale mandamento faceva parte la commissione San Lorenzo ma perché venne a comunicarlo a lei questa decisione no io ero là assieme a ganci di Raffaele eravamo là a ganci di Raffaele e lui siccome anche io facevo parte della commissione quindi perché se per dire io non facevo parte della commissione lui lo comunicava solo a ganci e quindi se io ero un soldato uno diceva eh si appartava lo comunicava a ganci quindi l'ha detto in quell'occasione ha trovato a me l'ha detto a me era a ganci doveva essere comunicata anche ad altri sì mi ricordo benissimo che Biondino disse che si stava facendo il giro per incontrare altre persone ah le disse stava facendo il giro per incontrare altre persone ma sì esattamente sicuramente l'argomento era quello persone che fanno parte della commissione l'argomento che avevamo era quello là le disse chi doveva incontrare non ha fatto il nome diciamo onestamente in nome specifico e ora vado là però disse che stava andando in giro per comunicare ai personaggi che fanno parte della commissione quello che ha detto a noi era lui che materialmente doveva fare questo giro cioè si doveva arrecare in qualche posto sì il Biondino perché come ho spiegato prima il Biondino era la persona è la persona più pregiata più più giusta più di fiducia diciamo di Salvatore Rina se tutti i capi mandamento sono stati informati di questa decisione o comunque di questo progetto sicuramente sì perché come è avvenuto da noi a Dillo ha andato a tegliarci l'ha detto che stava facendo i giro per comunicarla a tutti lei può dire se qualcuno di questi capi mandamento si sia opposto si sia ribellato abbia manifestato il proprio dissenso a questo progetto di eliminare il dottor Falcone no a me non mi risulta ne risulta che anche i capi mandamento detenuti all'epoca della strage siano stati informati dell'eliminazione del dottor Falcone si vecchia Rina ripeto ancora diceva quando si presentava una cosa di queste diceva per caccerate non pegate le preoccupazioni penso io so come faccio a sapere questo qua quindi lei ha provveduto a informare il suo capo mandamento detenuto Giuseppe Calò no io personalmente no ma l'ha fatto Rina e quindi lei per quale motivo non ha provveduto perché lei era cos'era il rapporto a Calò che compiti svolgeva lei no io non è che erano i rapporti cattivi con Calò siccome Rina diceva che per caccerate ci penso io io assolutamente non mi permettevo di fare una cosa diciamo diversa di quello che diceva lui c'è quindi tutto qua poi lei sa se effettivamente Rina abbia provveduto direttamente sì lui lo diceva che lo diceva che per caccerate ci pensava lui e quindi Rina non è che vendeva fumo cosa dire con quali attraverso quali canali di quali canali disponeva per comunicare con i detenuti guardi lui aveva delle delle canali delle vie delle cose diciamo che queste non li sbanderava così se li dava a lui però sicuramente usava persone che lui li poteva usare diciamo che arrivavano a portarci questa comunicazione senta chi era presente nel cantiere quando Biondino si mise al corrente vi disse quello che stava facendo quello che stava vi comunicò quella decisione lei mi pare che già ha detto ha fatto il nome di Raffaele Ganci lei c'era qualche altro? no là c'era qualcuno diciamo di quelle della costruzione però che qua non fanno parte di cosa nostra diciamo non c'entrano niente a questa situazione io Raffaele Ganci mi ricordo tra i capi mandamento detenuti sa dire se ve ne fossero di particolarmente legati e fedeli a Riina Corleonese diciamo guardi dopo l'81 che Riina ha ammazzato quelli che si sono opposti a lui perché non c'è stata una guerra come dicono la guerra di mafia chi dice così sbaglia Riina ha ammazzato quelli che si sono opposti a lui Riina e Provenzano quindi nei mandamenti che sono stati fatti mi ricordo nell'82 un poco più avanti dell'82 ma qua verso la fine dell'82 tutti i capi mandamenti che lui ha messo nei mandamenti sono tutti persone di sua fiducia perché lui stava venendo di una situazione quella che era quindi non poteva mettere in un mandamento una persona che lui non aveva fiducia quindi tutti i mandamenti erano composti di persone di fiducia cieca per Riina ritorniamo al cantiere può dire esattamente dove vi trovavate all'interno del cantiere ma dietro diciamo la costruzione c'era una specie di ufficetto così un corpo basso e qua dentro questo ufficetto se così lo possiamo chiamare era un magazzino un sgabuzzino così da chi è gestito questo cantiere ma io ho saputo che lo gestiva meola e corso però con tutta onestà questi vedete che non fanno parte di Cosa Nostra sono estranei a Cosa Nostra dunque adesso ne mostriamo un filmato sul monitor se vuole illustrare riproduce riguarda la domanda che ho appena fatta fa parte del fascicolo del dibattimento non fa parte del fascicolo del dibattimento avvocato è il filmato che abbiamo già visto nel corso di esami di testi tra l'altro compare l'imputato no senta prima che venga proiettato questo filmato le faccio una domanda anticipandola quella che deve essere fatta subito dopo quando Biondino venne al cantiere e vi comunicò quella cosa di cui già lei ha parlato fece nomi di altri capimandamento che dovevano essere che dovevano essere che dovevano essere no no fece nomi ha detto su questo la sua precisa domanda ha risposto aveva già comunque se vuole precisare non lo so ha risposto non fece nessun nome ieri sono state ripetere le stesse domande i nomi dei capimandamento che avrebbero dovuto ancora essere avvisati guardi presidente io le posso dire questo che la presenza di salvatore biondino nel cantiere che ha comunicato a me a ganci quello che ho detto e disse io ora mi sto facendo il giro per andare degli altri è questo qua appunto di andare a comunicare a quell'acce capimandamento che ancora lui non aveva avvisato questa situazione che ha detto a noi quindi non è che non vece nomi no onestamente non l'ha fatto l'aveva già detto sì scusi desidero fare una contestazione nel verbale del 4 novembre davanti al pubblico ministero di Caltanissetta 4 novembre 1993 delle ore non siamo più precisi delle ore 16 e 45 pagina 266 quella generale diciamo affoliazione di carattere generale lei 18 18 va bene lei disse dell'ora 16 in quella stessa occasione Biondino disse che stava facendo il giro per comunicare la decisione di Salvatore Rina nominò Carlo Greco Igraviano Pietro Aglieri Giovanni Brusca Michelangelo Labarbera come le persone dalle quali era andato o sarebbe dovuto andare per comunicare la decisione di Rina ovviamente tutti i predetti dovevano essere informati nella loro qualità di capimandamento e anch'io in tale veste seppure in sostituzione di Pippo Calotto quindi ricordati questo brano sì ma un attimo vedi a volte voglio spiegare per me diciamo è una cosa scontata che lui deve fare lo deve comunicare diciamo a queste persone qua quindi al momento che ho fatto questo verbale ho detto che lui il giro è questo che deve fare perché quando dice io ora devo fare il giro per dirlo agli altri i componenti della commissione per me sono questi qua quindi il discorso è questo qua va bene benissimo senta allora andiamo al filmato ci vuole illustrare cosa riproduce questo filmato lei lo vede davanti il monitor sì 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 qua questa è la costruzione dove quelli corpi bassi dove io andavo a trovare Raffaele Gance dove è venuto Salvatore Biondino a comunicarci quello che ho detto là dove c'è questa cosa marrone che aggancia questi due palazzi quella specie di ponte diciamo sì questo ponte che lega le due costruzioni sì sì i colpi bassi che ci sono accanto là era dove io andavo a trovare a Gance senza quanto tempo si trattenne Biondino nel cantiere ma che sono mezz'oretto 40 minuti così sa dire come arrivò in quale momento della giornata ma io mi ricordo che è stato verso le 10 e mezzo le 11 se mi ricordo non mi tradiscono l'ha entrata a piede perché deve attraversare io l'ho visto entrare a piede la macchina sicuramente l'ha lasciato fuori a Piazza Principe di Camporeale oppure di un'altra entrata che c'è di dietro questo palazzo senta la Piazza Principe di Camporeale qual è in questo riquadro del filmato se è visibile sì dove c'è questi due palazzi che c'è questo ponte che li unisce questo qua quindi è quella antistanza a questo palazzo sì Biondino arrivò da solo o era in compagnia di altri io là lui è entrato da solo se aveva qualcuno in macchina che l'aspettava non l'ho visto lei si era incontrato in altre occasioni all'interno del cantiere con altri uomini d'onore sì e con chi si incontrava di solito io di solito diciamo andavo là e incontravo Ganci Raffaele ma più volte ci andava anche il Biondino io lo vedevo per motivi che parlava con Ganci magari motivi di interesse di cose diciamo sempre cose di cosa nostra una volta ho visto Callo Greco pure qua in questa in questa costruzione i figli di Ganci Raffaele li incontrava pure? sì sì anche i figli di Ganci Paolo Anselmo che è il sottocavo della famiglia della Noce ci andava pure sì e Biondino quante volte l'ha incontrato in questo campione? ma più volte diverse volte diciamo l'ho visto di che cosa discutevate? ce lo può dire? ma certe volte anche Biondino parlava con me per motivi che so di cose di cosa nostra per dire di lavori che si dovevano fare nel territorio o di San Lorenzo o di Portanova di queste cose qua veniva sempre è venuto sempre da solo Biondino? ma io una volta mi sembra di avere che siamo usciti così fuori mi sembra che c'era nella macchina no mi sembra sono sicuro Giovanni Ferrante con lui nella macchina senta signor Cancemi adesso le mostreremo un filmato che è sempre relativo al cantiere in cui vi sono delle persone che lei potrebbe riconoscere allora possiamo far vedere a beneficio dell'avvocato Scozzola diciamo che fa parte del fascicolo del dibattimento ovviamente che documento è? lei lo dovrebbe conoscere perché fa parte del non sono non me lo ricordo non posso fare nulla allora signor Cancemi cosa ci può dire cosa ritrae questo filmato questa persona con la maglietta gialla chi è? sì questo sono io è quello accanto di Raffaele Canci e qua dove siete esattamente? qua siamo nel cantiere e cosa state facendo? ma io mi ricordo che in quell'occasione io avevo avuto la notizia che c'erano state le ordinanze di custodia in carcere dall'omicidio Lima e io sono andato là a avvisarlo da chi l'ha avuta lei la notizia? io l'ho avuta da uno da uno dal tribunale di Palermo però non mi faccia dire altro perché ci sono indagini in corso e appena lei l'ha comunicata a Canci quindi stavate andando via sì sì ci stavamo mettendo in macchina e siamo andati via c'erano altre persone che non si vedono in questo filmato che erano presenti? no io mi sembra che sono andato là in compagnia di un di un ragazzo che conosco io un certo Tummenia che non fa parte di Cosa Nostra assolutamente e poi io sono sceso ho dato la notizia a Ganci e siamo andati via bene allora possiamo chiudere allora a beneficio della registrazione potremmo dare le coordinate di questo documento così è facilmente individuabile aspetta aspetta prego questo che viene buscato sono una caffetta che viene nella registrazione chiaramente capitolo ottavo della richiesta di parole documentali pagina 32 dunque mi pare che lei ha fatto riferimento per indicare il giorno in cui è avvenuto questo incontro ha fatto riferimento a un episodio specifico cioè che lei era andato lì per avvertire Ganci di una certa notizia lei ricorda il giorno in cui è avvenuto questo incontro guardi io mi ricordo che appunto avevo saputo questa notizia di questi mandati di cattura e quindi io sono andato là ma guardi il 20 il 20 ottobre del 92 così comunque è legato il giorno all'esecuzione diciamo così dell'ordinanza di custodia cautelare relativa al processo Lima sì con assoluta certezza io per questo motivo andiamo andiamo un attimo al ritorniamo a una fase diciamo che lei aveva toccato precedentemente poi abbiamo fatto una grande parentesi quella della comunicazione di Biondino nel cantiere eccetera ora ritorniamo al tema che era stato toccato precedentemente quando io avevo fatto la domanda che ruolo aveva svolto lei nella strage lei mi aveva detto se non ricordo male mi ero recato nella nella villetta di Capaci eccetera lo ricordo eravamo partiti da lì dunque allora vogliamo dire con ordine quando e con chi si è recato la prima volta presso questa villetta di Capaci io ci sono andato con Raffaele Ganci che io mi trovavo come ci siete andati con quale mezzo di trasporto con una macchina di proprietà di Ganci che tipo era se lo ricorda un auto 80 un auto 90 così sì dunque allora lui la prima volta mi sembra che quando ci siamo andati mi è venuto a prendere nella mia macelleria siamo andati là la sua macelleria dove è ubicata in via Portello nella via regione siciliana sì era di mattina la prima volta in cui siete andati sì guardi qua c'è stato due volte una volta ci siamo andati di mattina sì e una volta ci siamo andati di pomeriggio quindi siamo andati là se è stata la prima volta che abbiamo trovato mi sembra l'occhietto chiuso c'era un occhietto un catenaccio nel cancellino ma scusi scusi prima di una domanda preliminare Ganci quindi venne a prenderla nella macelleria nella sua macelleria sì e la condusse in questa villetta a Capaci sì le spiegò il motivo per cui dovevate andare a Capaci ma il motivo già c'era stato venti giorni prima quindi lei già lo sapeva sì quindi siamo andati là mi ricordo in particolare qualche parolina perché Ganci non era uno che faceva un romanzo diciamo qualche parolina così nella macchina il suo Lucio si è incontrato con persone importanti mi ricordo questo particolare quindi siamo andati là e non mi ricordo bene se è stata quella volta che abbiamo trovato Lucchetto poi ci siamo ritornati di pomeriggio e quindi è stata quella volta che l'abbiamo trovato Biondino questo battaglia Giovanni il suzzonino il suzzonino Troia mi sembra che si chiama Troia e dopo venti minuti un quarto d'ora è venuto Bagarella Giovanni Brusca la Barbera Rampulla e qualche altro mi sembra che c'era e quindi c'è stato diciamo che Ganci si appartò un po' di metri così con Biondino Salvatore sono parlati e poi si sono allontanati venti minuti mezz'ora così con la macchina poi è ritornato è ritornato là e io con Ganci dopo un po' di minuti così ce ne siamo andati questa è stata la seconda volta se non ricordo male però attenzione che posso fare un po' di confusione perché sono state queste diciamo le volte che io sono andato là sono andato là poi ci siamo ritornati ancora e quando siamo andati là c'erano sempre queste persone e ho visto all'angolo perché qua entrando c'è un macciapiede davanti una verandina tipo così non una veranda diciamo proprio ma una specie di verandina e poi c'è un'abitazione che si entra dentro e all'angoletto così di fronte all'angolo dell'abitazione c'erano dei bidoncini bianchi con le maniche scuri e Ganci mi disse che là c'è la polvere per l'attentato a Falcone e c'è stato che siamo stati in accia mezz'oretta là così abbiamo parlato e Ganci sempre si appartava un po' con Bacarella un po' con con Biondino siamo stati un pezzo di tempo e poi ce ne siamo andati e io là non ci sono ritornato più poi non c'è stata un'altra volta che io sono andato là quindi posso sbagliarmi di qualche virgola diciamo i miei ricordi perché purtroppo ha un po' di tempo diciamo lo vuole descrivere questa villetta di cui ha parlato è la zona attorno un po' più dettagliatamente sì la villetta si trova andando verso Capaci uscendo il paese di Capaci andando verso Carine perché mi sembra di qua che la strada porta a Carine facendo che so 500 metri sulla destra c'è un'altra stradina stretta camminando dritto c'è una specie di viottolo che non si può entrare con la macchina che noi abbiamo posteggiato la macchina fuori c'è un cancellino e poi mi sembra che c'è un altro cancellino ancora sempre in questo viottolo e si entra in questa villetta casa non lo so come la vogliamo chiamare una casetta pulita lei c'è mai entrato dentro questa casa? no io non mi ricordo che sono entrato là perché è proprio attaccato con il macciapiede diciamo c'è il macciapiede e le persiane che portano dentro questa casetta adesso le mostriamo dei rilievi fotografici che ritraggono la casa per verificare se si tratta di quella di cui stiamo parlando sa dire che cosa ritrae questa fotografia si questa è la strada che io ho detto prima quella è uno dei cancellini che abbiamo attraversato e qua c'è un viottolo appunto che ancora non si vede l'abitazione il cancellino qual è? quello in fondo? si quello in fondo si si possiamo vedere un'altra foto ci spiega cos'è questa cosa stiamo vedendo qui? si questo qua è appunto quel cancellino che io dico che lo chiamo cancellino che siamo attraversati questo cancellino poi si gira sulla sinistra della mia posizione così come è messo il cancellino e andiamo verso questa abitazione questa villetta andiamo avanti sai indicare che cosa cosa ritrae in questo cosa ritrae questa fotografia si così la vedo male diciamo si è è una di quelle quella bassa diciamo è una come dire una visione panoramica una visione d'insieme si di qua non lo so è ripresa dall'arte non lo so ecco qui invece si qui si vede meglio si è quella là quale perché qui si vedono quattro unità chiamiamole così quattro edifici si qual è quella di cui stiamo parlando? ma è quella la più bassa accanto a quella a quella alta cioè lo vuole indicare che c'è una freccetta la diriga questa freccetta verso la vista dove è la freccia? si ecco dove si deve dirigere questa freccia in alto in basso a destra a sinistra per indicare il la villetta la casa di cui stiamo parlando si io posso dire che quella questa qua portando la freccia un pochettino sulla sinistra sulla sinistra un pochettino sulla sinistra dove? ancora avanti oppure si questa ancora avanti? no no questa dietro questa alta questa qui? no 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 andando sulla sinistra ecco ah questa si ho capito va bene andiamo avanti c'è un filmato vero? grazie grazie ecco lo sto vedendo questo complesso si è qui che c'era quella in questa foto no? in questo fotogramma si si va bene senta quando siete arrivati in questa casa c'era qualcuno proprio al momento in cui siete arrivati si io mi ricordo che quando siamo arrivati c'era biondino con questo su giovane che io non lo conoscevo non sapevo chi era questo che è uno bassino questo la mattina o il pomeriggio? il pomeriggio si mi ricordo il pomeriggio e e poi lei ha spiegato tutti i vari movimenti che avete fatto eccetera ma lo scopo di questa visita chiamiamola così qual era? da parte sua e da parte di Ganci ma lo scopo era quello lì perché poi quelli che sono rimasti là hanno individuato il posto dove collocare questo questo esplosivo diciamo Raffaele Ganci si è allontanato pure mezz'oretta con biondino e è andato pure a vedere questo il posto dove mettere questa cosa e lei che cosa ha fatto? io sono rimasto là nella villetta con questo su giovane e qualche altro di quelli che ho detto prima sono rimasto là quando è che siete rientrati poi a Palermo? ma è tutto dopo qualche oretta che eravamo là che Ganci si è allontanato così dove è stato riaccompagnato lei? io mi ricordo che Ganci poi mi ha lasciato di nuovo nella macelleria lei ricorda l'itinerario che avete seguito quando siete andati in questa casa lei e Ganci quando eravate insieme in macchina sì la strada nella via regione siciliana che va a Capaci diciamo questa qua abbiamo passato le gallerie e quando siete arrivati a Capaci dove è stata posteggiata l'autovettura? ma l'abbiamo lasciato fuori fuori intendo dove c'è questa abitazione c'è una strada un pochettino più larga appunto Raffaele Ganci l'ha messo accostata al muro perché là dentro con la macchina non si poteva entrare che c'è un viottolo si va a piede e l'abbiamo lasciato là fuori senta la prima persona che avete incontrato chi è stato? là? sì là ma io ricordo che c'era questo su Giovanni su Troia Antonino e poi c'era il Biondino ma su Giovanni come lo sa che si chiamava su Giovanni? perché là lo chiamavano così quando chi l'ha chiamato? Biondino Ganci Raffaele lo chiamavano su Giovanni io ero quella la prima volta che lo avevo può descrivere questa persona dettagliatamente nelle sue sembianze fisiche? sì è uno bassino che so poi non è che l'ho misurato attenzione un metro e sessanta che so un pochettino più alto di un metro e sessanta uno bassino diciamo di statura bassino di corporatura normale che so sui 45 anni posso sbagliare poi ha capito o ha preso come si chiamava questo zio Giovanni? sì io poi ho saputo che si chiamava Battaglia poi lei mi pare già ha detto ma vorrei che fosse sottolineato fosse precisato ha detto che giunse ad altre persone se non l'ho capito male o sbaglio sì sa dire chi esattamente arrivò dopo che arrivaste voi siete incontrati con questo zio Giovanni ma io mi ricordo che è arrivato con certezza Bagarella Giovanni Brusca la Barbera questo Rampulla ma è qualche altro sicuramente scusi la Barbera chi? la Barbera oggi so che è il collaboratore per chi allora non lo conosceva c'era anche Biondino lo ricorda? sì sì Biondino era là sì prima era arrivato prima quindi c'era anche e c'era anche Ferrante sì sì c'era anche Ferrante però Presidente non può essere così non si possono dire Presidente non l'aveva detto e l'aveva fatta aggiungere non l'aveva detto per parecchie volte scusate di chi stiamo parlando Ferrante era stato nominato perché io l'ho scritto ma lui quando ricostruisce mi consente quando ricostruisce partitamente gli episodi non lo inserisce sì ma era stato citato perché io l'ho annotato era stato citato anche per altro verso però il problema è che lui ha ricostruito due volte gli episodi e non l'aveva citato ha detto c'era qualche altro poi gli è stato detto e quindi sta precisando Avvocato io l'ho annotato nulla il contrario a che è preciso io Presidente quello a cui ci opponiamo è che lo precisi su indicazione evitiamo la domanda suggestiva ma era stato già citato ma voglio aggiungere questo ma voglio aggiungere questo Presidente questa volta questa volta ha fatto una elencazione di persone indicate con certezza ed escludendo Ferrante Ferrante è venuto dopo quella domanda infelice poi sentiremo la registrazione perché infelice dunque andiamo avanti sa dire queste persone come giunsero a quella casa a quella villetta e là sono arrivato a piedi non lo so io non l'ho visto perché qua c'è la strada è stretta non lo so dove hanno posteggiato sicuramente la macchina come sono arrivato però là dentro sono arrivato a piedi ci dice che cosa è avvenuto esattamente in questa villetta in questa casa dopo l'arrivo di queste persone si popa io mi ricordo che quando sono arrivate loro c'erano queste bidoncine come ho detto prima e credo che è stato popa che era arrivato da qualche minuto quando si era allontanato Ganci Raffaele e Biondino Salvatore e poi e poi si parlava quello Biondino parlava con Ganci con Bagarella si giravano lei ha ascoltato quello che dicevano eh sì dicevano che dovevano cercare la maniera migliore si dovevano trovare la maniera migliore per piazzare questo questo esplosivo ricorda quanto è durato questa conversazione questo colloquio ma io mi ricordo che siamo stati c'è quarti così diciamo 40 minuti così e gli altri presenti che cosa facevano nel frattempo ma gli altri erano là diciamo in attesa che peghiavano questa decisione dove dove dovevano trovare questo posto migliore per fare preparare questo attentato tutti là insomma pronti per intervenire andare a mettere questo cosa senta signor Canciermi lei sa se siano stati effettuati dei sopralluoghi per individuare il luogo più idoneo per effettuare l'attentato ma io come ho detto prima Ganci si è allontanato con Biondino appunto per andare a vedere qualche qualche posto diciamo dove mettere questo esplosivo poi se il posto è stato quello dove è andato Ganci oppure è stato un altro quando poi lei lo sa perché era presente a questo sopralluogo no io ero nella villetta là diciamo e appunto Ganci quindi come lo sa che poi Ganci quando si è andato con Biondino quando è ritornato mi disse che è andato con Biondino per vedere dove trovare il posto migliore ma il posto migliore di cui stiamo parlando a che cosa qual è il posto migliore a quale posto per ricollocare questo cosa diciamo questo esplosivo per vedere si quindi quello che poi risultò essere sull'autostrada sicuramente ma siccome sappiamo che l'esplosione come è avvenuta poi guardi io poi là non ci sono andato più quindi come loro si sono organizzati con precisione io non sono in grado di fornirlo però le posso dire che dopo io dopo giorni una settimana non mi ricordo preciso dopo giorni io ho incontrato Giovanni Brusca nella via regione siciliana a Palermo e lui mi disse che era proprio a lui che era stato assieme a Biondino che dice che aveva anche a Biondino accanto che era quello che aveva premuto il telecomando questo quello che a me mi disse Giovanni Brusca però poi come loro si sono appostati diciamo la io ripeto me ne sono andato non ci siamo ritornati più lei è mai più ritornato dopo questa volta di cui questo episodio che ha riferito nella stessa villetta no dopo di quelle volte che ho precisato no non ci sono andato più cioè lei mi spieghi quante volte ci è andato in questa villetta ci siamo andati tre volte una volta non abbiamo trovato nessuno c'era l'occhietto messo nel cancellino non si è menciato e due volte quelle due volte la seconda volta abbiamo detto quando la seconda volta è stata uno o pomeriggio oppure il pomeriggio sì siamo andati questa volta invece quando il pomeriggio o e allora lui interviene e dice quindi il pomeriggio no signor Presidente non è giusto facciamo finire c'è la risposta registrata il pomeriggio o voleva dire che non è sicuro della seconda volta no no volevo dire o poi quando ci siamo andati la cia volta è stato di mattina questo un pomeriggio mi ricordo benissimo che è stato che ci siamo andati sì d'accordo la mia domanda è questa tra la seconda e la terza volta qual è stato lo spazio diciamo lo spazio di durata che distanzia queste due volte sono stato chiaro nell'intervallo di tempo sì l'intervallo di tempo tra la seconda ma qualche giorno mi sembra che è stato qualche giorno qualche giorno sì sì mi ricordo così ora parliamo di questa terza volta lei con chi c'è andato sempre con ganci sempre con ganci dove si era dove si incontrò con ganci io mi ricordo con ganci che mi è venuto a prendere nella macelleria nella mia macelleria o è stata la prima volta o è stata la seconda volta c'è stata una di queste volte che siamo andati al macello a Palermo a macello e quindi quando siamo usciti dal macello siamo andati là una volta mi è venuto a prendere nella macelleria l'altra volta ci siamo andati quando siamo usciti dal macello ho capito ho capito perfettamente lei può essere più preciso riguardo alla terza volta in cui si recò con ganci nella villetta con riferimento all'orario all'epoca al momento della giornata ma io mi ricordo che una volta non conta perché non abbiamo trovato nessuno è stata una volta di pomeriggio e una volta mi ricordo che è stato verso le 11 così diciamo di mattina mi ricordo così bene e questa ennesima volta avete fatto sempre lo stesso tragitto per recarvi a Capaci sì mi ricordo sì la stessa strada parliamo sempre di questa di questa volta quando siete arrivati nella villetta chi era presente? ma io mi ricordo che c'era su Giovanni il biondino appunto con con pernante che c'era il biondino Grazie a tutti. 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 Io spesso entro in ipoglicemia. In tutti i viaggi, in tutte le aule, sempre porto qualche cosa, o zucchero, o qualche cosa da mangiare. Come l'ho portato in questi giorni. Questa mattina avevo una mela, un formaggino e due tette biscottate. Sono stato obbligato di non portarli, se no, non mi facevano venire qua. Ora io prego la signora, ora io prego la signora di dire a questo caporeparto, che l'ha fatto diverse volte, come lunedì, dopo aver avuto l'ordine del capo, non so, il comandante del caccio, di darmi acqua, mi ha fatto stare tutta la serata, sino all'indomano senza acqua, non mi ha portato acqua. Io la prego di tenere presente questo, signor Presidente, grazie. Questi alimenti non li hanno fatti uscire dal carcere o sono qui a disposizione della scorta? No, no, me l'hanno fatto uscire dal carcere. Ho capito. Il caporeparto. Va bene. Il capoposto, come l'ha chiamato. Va bene. Possiamo procedere. Poi, magari in una pausa dell'udienza, il capo scorta dei carabinieri, se può conferire con me, nel senso che di far sapere alla direzione sanitaria del carcere che essendo un'esigenza sanitaria è giusto che il detenuto venga fornito di quello che gli serve per superare le crisi ipoglicemiche. Poi, magari, il capitano o il maresciallo tenga conto di questa mia disposizione, può riferirlo all'ufficio matricolo o alla direzione sanitaria del carcere. Presidente, discusi. Sì. Avvocato Scozzola. Presidente, io, prima che inizia l'udienza, volevo chiedere di poter produrre alcuni verbali di udienza dell'esame, chiaramente, dell'imputato Cangemi Salvatore, resi in altri procedimenti penali. E alcuni, per la verità, mi dicono i colleghi che forse già ci sono. Presidente, però, dico, il contabundate non visate. Dunque, abbiamo il processo penale numero 994, tenuto avanti la Corte di Assise di Palermo, nel processo Rina più 27, udienza 4 marzo 95, per la precisione sarebbe il processo Lima. Questo c'è, c'è già. Già c'è, giusto? Sì, sì. Allora, questo qua, chiaramente, già ce l'ho, non lo produciamo. Poi, udienza 10.295, processo 635, barra 94, registro generale del Tribunale, è il procedimento penale tenuto davanti al Tribunale di Palermo, sezione quinta penale, nel processo contro Biondino Geronimo, a più 23. Ed, infine, l'udienza del 25.396, registro generale 8.95, della Corte di Assise di Palermo, udienza tenuta davanti alla terza sezione penale, della terza sezione della Corte di Assise di Palermo. Il processo è a carico di Madonia più 12 e sarebbe il processo, comunemente detto, degli omicidi Cassarà e Montrano. Quindi, per esempio, questi due verbali, chiaramente quello del procedimento Lima, dato che già c'è... Quindi sono 10.295 e 25.396 verbali dibattimentali. E la richiesta è motivata da quale esigenza, avvocato? A esenso del 468 quarto comma bis, essendo atti sopravvenuti chiaramente alla lista, specie quello di omicidio, quello del 96, del 25.396, quindi non producibile antecedentemente, sezione del 493 terzo comma del codice di procedura penale, è poiché in questi atti, in questi verbali, si parla, per quanto mi attiene alla posizione chiaramente dei miei clienti, del problema della cosiddetta commissione di cosa resta. Su questa richiesta i pubblici ministeri non la osservano, quindi i pubblici ministeri non la osservano, gli altri difensori si associano. La difesa canzibbi si rimette. Il presidente è chiaramente il verbale di trascrizione, non è il verbale sintetico, è inutile produrre il verbale sintetico. Certo, la trascrizione integrale. Trascrizione integrale, devo dire. C'è messo tutto. Però a me mancano due pagine. Non c'è. Ehi. Presidente, noi lo dobbiamo esaminare attentamente questo verbale, non è che si può procedere all'esame, quindi chiaramente c'è una riserva di esame, di analisi, di valutazione di questo verbale, e speriamo che entro i confini dell'esame del cancemi si possa fare questa valutazione e allo stesso tempo se ne possa tener conto. ma voglio dire, non è che ci sono delle difficoltà, ecco. Questo che presumibilmente dovrebbero essere utilizzati in sede di controesame, intanto possiamo procedere all'esame. E il Presidente concede un termine ai pubblici ministeri per esaminare compiutamente i verbali di cui il difensore ha chiesto l'acquisizione. Intanto iniziamo con l'esame dell'imputato. Presidente, mi scusi la dottoressa Falzone, poiché tra un'ora circa dovrei allontanarmi. Per la posizione della Barbera rimane in sostituzione dell'Avvocato Livotti il collega Geraci, così per non disturbare posti. E' già una nomina? No. Solo per la Barbera, vero? Sì, solo per la Barbera. Allora, l'Avvocato Falsone dovendosi allontanare... Presente anche per la posizione della Barbera. Anche per divertire naturalmente. Dovendosi allontanare tra un'ora, nomina... Presidente, mi scusi, io sono già sostituto processuale per quanto riguarda la Barbera, per Di Matteo... E allora non ci sono problemi, perché il Di Matteo è già assistito all'Avvocato Geraci che è presente. Sì, che rimane anche in mia sostituzione, ma la posizione della Barbera rimane in sostituzione. Mentre per... allora, solo per la Barbera. Per l'imputato la Barbera Gioacchino... Nomina proprio sostituto, l'Avvocato Geraci, presente. Allora, facciamo accomodare il cancemi. Prima di effettuare qualunque... Evidentemente le riprese del collaboratore sono vietate. Prima di effettuare anche riprese audio, abbiate la pazienza di aspettare che interpelli l'imputato se ci sono ragioni di particolare cautela che sconsigliano la registrazione della voce. Grazie. 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 Dove erano esattamente? Dove si trovavano esattamente? Fuori in questo mazzapiede che ci è, diciamo, attaccato con questa casetta, questa villetta, come la vogliamo chiamare ci può descrivere che cosa è accaduto appena vi siete visti, subito dopo cosa avete fatto? ci siamo salutati i canci si allontanò così due passi con biondino si sono scambiate due parole, così e poi c'è stata quella volta che la seconda volta si sono allontanati con la macchina sono mancate una mezz'oretta, così, venti minuti e poi sono ritornati sa di che cosa parlavano? ma il discorso era quello di trovare questo posto più adatto più meglio, più favorevole a mettere questa cosa dopo è arrivato qualcun altro? e poi sono arrivati quelli che ho detto, Brusca Bagarella la Barbera questo Rampulla e sicuramente qualche altro c'era che questo momento non non mi viene in mente oppure io non non ho avuto modo di conoscerlo meglio ma qualche altro c'era ma è certo lei che queste persone vennero dopo scusate la mia non era era una domanda per sottolineare quello che lei ha detto ma se ha da contestare contestano è che l'ha detto che vennero dopo che domanda è è certo scusate ha detto sono venute dopo se ci sono queste dichiarazioni passa alla contestazione ma che stiamo andando la domanda del pubblico ministero l'ha capita? si guarda Presidente io posso fare qualche confusione però una confusione attenzione no di una cosa che non esiste una confusione per dire che magari ho il ricordo che siamo sono andato là con ganci e magari questi l'abbiamo trovato là oppure magari io mi ricordo che sono arrivate ma quelle erano là non ci piove non c'è dubbio con assoluta certezza ecco questo qua quello che può succedere della mia confusione non è che può succedere una confusione che io sto facendo in nome di una persona che non c'era non esiste ecco dovete capire diciamo non è che uno ha un ricordo ci può essere diciamo non esatto stiamo parlando sempre di quest'ultimo episodio si è fatto riferimento specifico all'attentato che doveva essere fatto si come no siete entrati tutti nell'abitazione no io nell'abitazione e qualche altro l'abitazione le intende dentro la casa dentro la casa no io ero ma è attaccata diciamo l'abitazione con i macciapiedi diciamo a due passi così non è che è distante c'era questa questa persiana là questa abitazione che c'erano accanto nell'angoletto queste biduncine diciamo bianche con le maniche scure là davanti sì vuole dirci quello che avete fatto in che senso cioè quello che è avvenuto lei ha detto siamo regati lì sono incontrato eccetera ero con ganci poi successivamente sono sopraggiunti altri si è parlato eccetera è accaduto qualcosa lei avete fatto in questo senso ci descriva come è avvenuto tutto l'incontro tutta la non so come siamo arrivati là con ganci siamo arrivati là con ganci Raffaele e poi sono arrivati questi qua e ganci con biondino si è allontanato una mezz'oretta poi è ritornato eravamo tutti là nel macciapiede di questa abitazione qualcuno entrava dentro come Sussu Giovanni o Antonino Troia entrava dentro l'abitazione uscivano e chiudeva la porta così con questi bidoncini all'angolo anzi mi ricordo dei bidoncini dove esattamente all'angolo diciamo dove c'era l'ingresso della porta su un macciapiede così io l'ho visto là all'angolo quanti ce n'erano quanti ce n'erano lo sa ma posso dire così un otto che so dieci otto così c'erano abbastanza diciamo non è che era anzi mi ricordo mi ricordo che Sussu Giovanni ha preso una tenda e l'ha messo diciamo che c'era per non fare vedere della strada diciamo che passava qualche macchina ci ha messo una tenda diciamo per non fare vedere la villetta ha coperto diciamo la visione di questa villetta nel filo l'ha messo che c'era un filo l'ha messo per quale motivo ha coperto appunto per non fare vedere queste persone tutte là che cosa stavano facendo quelle persone o che cosa dovevano fare non ho capito no lei ha detto dice ha coperto la visione dall'esterno se non ho capito male la visione della casa della casa sì la visione della strada diciamo della strada sì perché passava qualche macchina vedeva il suo gruppo di persone perché si vedeva diciamo della strada lui per prudenza ha messo questa tenda là senta lei può dire con assoluta certezza se questi bidoni quando li vide questi bidoni delle due quale delle due volte li notò questi bidoni io se non faccio confusione mi sembra la terza volta quando io dico terza volta perché una volta non ho la terza volta è giusto quale delle due volte in cui lei ha potuto vedere concretamente qualcosa perché la prima ovviamente sappiamo sì la terza volta è in grado di descriverli questi bidoni questi bidoncini non so come sì erano bidoncini no grande diciamo che so 50 centimetri un po' di altezza sì grossette diciamo sa dire di che colore erano se se lo ricordano sì bianchi con le maniche scure vi sembra avevano dei manici questi bidoni era il cavallo bianco di Garibba ha saputo o ha visto se erano pieni se erano contenevano qualcosa sicuramente sì perché Gance mi disse dentro i bidoncini c'è l'esplosivo per la strage Gance le disse se c'era tutto l'esplosivo che doveva essere impiegato no questo non me l'ha detto mi disse che c'erano pieni che c'era l'esplosivo ma se era tutto se poi ce n'era un altro questo non me l'ha detto lei è in grado di stabilire dopo quanto tempo da quell'incontro da quella riunione chiamiamolo così avvenne la strage ma che so dopo otto giorni dieci giorni lei sa se il giudice Falcone fu venne osservato veniva seguito da qualcuno a Roma nei suoi spostamenti sì io ho saputo appunto da Gance di Raffaele che lui ha dato l'incarico a un suo uomo d'onore uno che fa parte di Cosa Nostra che è il consigliere della famiglia un gettoino sciarabbo sciaratta non so se lo pronuncio bene che è il consigliere della famiglia di Raffaele Gance e mi disse che lui ci aveva dato l'incarico di vedere i spostamenti di Falcone e ero in contatto con lui e eventualmente di comunicare a Gance come si spostava quando per venire a Palermo così mi ha detto questo Gance le disse dove abitava questo sciarabba questo sciaratta ma io ho saputo anche da Calò Giuseppe che questo sciarabbo sciaratta e lui aveva un negozio abitava qui a Roma però sto parlando di un po' di anni indietro quando me l'ha detto Calò che questo era sposato e aveva un negozietto aveva un negozio qui a Roma di stoffa di cose intime insomma di questo genere di qua e Gance però a me non me l'hanno detto se abitava a Roma oppure abitava a Firenze non me l'hanno detto però che aveva questo negozio qui a Roma questo con assoluta certezza l'ho saputo sia da Gance e sia da Pippo Calò lei ha detto che Gance le disse che c'era questo sciarabba che aveva avuto l'incarico di osservare di seguire i movimenti del giudice Falcone quando avvenne questa conversazione e dove lo puoi indicare con Gance ma io con Gance Raffaele mi vedevo ogni giorno mi vedevo nella mia macelleria mi vedevo nella macelleria di via Lancia di Brodo da Gance mi vedeva Amici a Tavola da Gance mi vedeva in via Francesco Loiacono dove c'è un'altra macelleria quindi è stato uno di questi incontri mi ricordo che stavamo andando a macello a macellare a Palermo a macello comunale di Palermo in macchina che stavamo andando verso verso il macello che lui mi disse che aveva dato incarico a questo Inuccio lui lo chiama Inuccio che ci aveva dato questo incarico Senta abbiamo una foto che ritrae una macelleria vediamo se la riconosce se quanto allora andiamo avanti poi la facciamo vedere dopo perché c'è un po' di tempo Senta signor Gancemi lei può dire se i componenti chiamiamoli del comando operativo insomma coloro che erano stati incaricati di eseguire la strage si siano avvalsi per le comunicazioni tra di loro di telefoni cellulari sì io sempre da Gance ho saputo che suo figlio Mimmo Mimmo Gance e Calogero appunto loro usavano questi cellulari per comunicare con quelle che si sono appostate appunto a Rai in quella zona e ricorda quando glielo disse Gance questa circostanza ma sicuramente non ancora non era avvenuta la la strage non era successo ancora un po' prima ricorda cosa le disse specificamente Raffaele Gance con riferimento all'utilizzo di questi tipi di telefono sì che i suoi figli erano in possesso Mimmo Calogero di questi cellulari appunto che comunicavano con quelli che erano appostati là ci sta pensando Mimmo e Calogero per comunicare diciamo con quelli che tipi di apparecchi glielo disse no 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 non lo so ma comunque erano apparecchi con cui si poteva comunicare tranquillamente sì questo lui onestamente non me l'ha detto comunicano tranquillamente mi disse che Mimmo e Calogero avevano questi cellulari per comunicare con quelli che erano appostati là poi lei ha mai visto Domenico e Calogero Gance in possesso di apparecchi cellulari nel periodo precedente alla strage sì lei sa se vi erano delle persone di fiducia della famiglia Gance che disposte a intestarsi le utenze cellulari che poi materialmente venivano utilizzate da Calogero Domenico e Raffaele Gance ma loro sicuramente persone di fiducia ne avevano tantissime non uno due ne avevano tantissime che si prestavano alle sue comodità senta le mostriamo una foto che ritrae una un luogo che lei dovrebbe riconoscere può dire cosa ritrae questa fotografia ma io qua se non faccio confusione mi sembra amici a tavola cioè è la macelleria amici a tavola mi sembra così senta con riferimento all'approvvigionamento e alla fornitura dell'esplosivo utilizzato nell'attentato lei è in grado di riferire qualche circostanza? no chiedo scusa volevo sapere una cosa poi nel verbale che riferimento avremo noi a questo fotogramma mostrato al al collaboratore c'è comunque la videoregistrazione dell'immagine che è stata visionata comunque se possiamo dare ecco se si potesse dare un'indicazione specifichiamo i dati va bene nel frattempo io vado avanti ma lei non seppe mai nemmeno da chi era stato procurato questo esplosivo c'è la risposta no? che non lo sa no ha detto ha detto non so nulla sul riferimento dell'esplosivo sulle modalità se poi con l'input circostanze riguardo alla fornitura dell'esplosivo da dove proveniva aveva già risposto faccia la contestazione se non è contestata ma da dove rispondo no io non lo so non l'ho sentito non mi ricordo non l'ho sentito senta lei è in grado di stabilire di riferire come venne collocato l'esplosivo nel condotto insomma nel luogo in cui che era stato scelto per l'esecuzione dell'attentato io le posso dire qualche cosa che ho sentito da Ganci che l'avevano messo c'era un tubo sotto sotto la strada e l'avevano collocato dentro questo tubo dicevo qua Ganci mi aveva spiegato così le lo spiegò quando ma dopo dopo l'attentato le disse anche chi partecipò alle operazioni di sistemazione di questo tubo di questo condotto ma io lui mi disse che in particolare Bagarella e Brusco Biondino mi ha fatto questo nome sicuramente Alce Presidente se continuano queste domande siccome ha parlato di tubo chiamiamolo solo tubo se è possibile la domanda era stata modalità di collocamento nel condotto cioè in Plaviglia ha detto no così ma siccome ha parlato di tubo continuiamo a fare domande sul tubo senza aggiungere con chiare finalità altre parole mi chiede che in Italia non sappia come siano avvenute le modalità di questo attentato e questo è un motivo in più per chiamarlo tubo Presidente prego Pubblico Ministro signor Cancemi Raffaele Ganci le fece una spiegazione un'elencazione analitica oppure veramente indicativa così sintetica di come erano avvenuti questi fatti si mi ha fatto questi nomi sicuramente mi ha fatto qualche altro nome di questi qua ma i nomi che io mi ricordo momentaneamente sono questi che ho detto ma sicuramente ce ne sono degli altri quindi lei sa dire chi materialmente si sia trovato il 23 maggio 1992 sul posto come componente del comando operativo a Capaci si Giovanni Brusca che io l'ho incontrato dopo mi disse che è stato quello che ha premuto il telecomando mi disse che c'era anche Biondino con lui là il nome che io ho sentito sono questi qua Ganci glielo disse Brusca mi disse pure Ganci che c'era Ferrante Giovanni dove i suoi figli comunicavano Mimmo e Calogero anche con questo Ferrante che era appostato nella zona di Punta Rice mi ha detto pure questo ricordo le circostanze precise in cui dove e quando glielo disse questa ma uno degli incontri che ho avuto con lui stavo mandando a Macello sicuramente perché mi vedevo ogni giorno con lui non è che era un caso per dire quindi c'è un ricordo particolare ci vedevamo tutti i giorni quindi per me era una cosa normale erano presenti altri oltre a queste no 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 sa se erano presenti Domenico e Calogero Ganci a Capaci si lui mi disse che i suoi figli avevano questi cellulari avevano i contatti con quelli che erano appostati là Mimmo e Calogero quindi che ruolo svolgevano non puoi dire lei si quello che mi ha detto lui aveva il ruolo di comunicare con quelli i spostamenti che facevano se era arrivato se non è arrivato questi qua e Raffaele Ganci sa che ruolo ha svolto in questo in questo attentato in questa strage io le posso dire che Raffaele Ganci il ruolo quello che ha partecipato con me che siamo andati là ha incaricato a questo charabba di vedere gli spostamenti poi se magari c'è stato qualche altra cosa che io momentaneamente non era con lui e lui sicuramente ha fatto perché lui era la parte attiva della situazione magari momentaneamente io non era con lui e io oggi non la so diciamo però queste cose qua la parte di Ganci era questa qua poi si ha quindi lei per quanto riguarda Giovanni Brusca ha detto che aveva azionato il telecomando se non ho capito male sì questo con assoluta certezza me l'ha detto lui a me personalmente che l'ho incontrato nella zona della Villa Serena nella circovallazione mi disse che era stato lui e mi disse che c'era Biondino mi ricordo avesse fatto qualche altro nome momentaneamente non mi ricordo ma sicuramente mi ha fatto qualche altro nome sa se Brusca si interessò a procurare l'esplosivo per l'attentato io quello che ho saputo da Ganci lui Ganci mi ha fatto mi ha detto mi ha fatto capire così che quelli che si stavano interessando erano Bagarella Brusca questi qua diciamo Presidente c'è da chiedere che non venga indicata inammissibile questa risposta a questa domanda a meno che non dobbiamo ogni volta reiterare l'opposizione perché aveva già detto che e l'ha detto due volte no sono due domande diverse che non sapeva chi avesse procurato l'esplosivo no 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 sono due domande diverse io prima avevo fatto la domanda sulla fornitura dell'esplosivo adesso se si interessò a procurare che cosa ben diversa inutile che lei ma come è diversa la prima la prima è corretta la seconda è suggestiva tanto per dare un no ma perché è suggestiva non si può chiedere quale ruolo abbia avuto se abbia avuto ruolo dettagliato il problema diverso era sulla domanda che riguardava l'approvvigionamento ma è parzialmente diversa per la verità è parzialmente diversa ad ogni modo Presidente se le posizioni venissero fatte dopo la proposizione della domanda e non dopo la risposta sarebbe meglio potremmo fare una breve pausa Presidente come decide lei vi dispiace sento avvocato buonsignore io non le consendo queste battute né a lei né ad altri queste non sono pause di riflessione vuole sapere perché ci sono bisogni fisiologici impellenti da parte di giudici popolari da parte del Presidente se vuole devo fare una telefonata a Reggio Calabria a collega Gup che ha il processo per l'omicidio Scopellitti e c'è una concomitante udienza quindi queste battute delle pause di riflessione se me le risparmi avvocato io invece devo riflettere Presidente io devo riflettere vuole sapere che si riferiva all'altro io in ogni caso è un imputato e come tutti avete sottolineato potrebbe conoscerli a memoria agli atti e potrebbe risporne lo so legittimamente io invece eviti le battute avvocato ma ho parlato con lei che mi ha detto che è disposto a differire a spostare la sua udienza perché si è reso conto delle nostre esigenze almeno spero che si sia risolto grazie 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 allora possiamo proseguire proseguire con lei allora preliminarmente diamo atto che quella fotografia della macelleria di Amicia Tavola è stata tratta dai ritievi effettuati in data 28 aprile 95 si tratta di una fotografia che fa parte del fascicolo del dibattimento è inserita nel capitolo ventottesimo pagina 106 della richiesta di prove documentali presentato dal pubblico ministero allora signor Cancemi lei sa se Antonino Gioè avesse avuto un ruolo nell'attentato io mi ricordo che un giorno mi trovavo nella macelleria qua proprio amici a Tavola di Ganci Raffaele e proprio Ganci Raffaele mi disse che questo Gioè questo qua aveva avuto aveva partecipato anche alla strage di Capaci quando glielo disse lo ricorda ma dopo la strage non mi ricordo diciamo il giorno preciso non mi ricordo senta lei sa dire se in epoca successiva all'attentato vi sia stata una riunione inerente da strage per cui è processo una riunione mi fa capire meglio una riunione inerente all'attentato di Capaci a cui hanno partecipato membri della commissione ma io quello come ho spiegato prima diciamo che c'è stato il biondino che ha avuto l'incarico di farsi giro appunto per motivi di sicurezza e andare a comunicare a tutti i componenti della commissione di quello che si doveva fare senta e li sa se ci sia stata una riunione sul buon esito dell'attentato ah si adesso si si c'è stato dopo qualche mese così mi posso sbagliare un po' di giorni c'è stato che c'è stata una riunione ordinata da Rina nella villetta di proprietaria di Udo Gironamo che ripeto questo con tutta onestà non fa parte di Cosa Nostra e non c'entra a niente lo dico ancora si ma lo voglio dire ancora perché è giusto dillo che lui non c'entra a niente Irina quando è avvenuta questa riunione lo sa precisare ma qualche mese dopo dopo la strage si e quindi Irina ha ordinato a ganci Raffaele di prendere una bottiglia di champagne e presente c'ero io Bagarella Biondino Gance Rina Michelangelo Barbera questi sono i nomi che mi ricordo sa se fosse presente anche Giovanni Brusca posizione Presidente la domanda è ammessa io onestamente non mi ricordo di Giovanni Brusca voglio dire le cose che mi risultano non mi ricordo però questi nomi che ho detto con assoluta certezza non mi ricordo e quindi ha dato ordine a Raffaele di prendere una bottiglia di champagne per brindare a buon esito che tutto è riuscito bene dobbiamo contestarle che nel corso del verbale del 4 novembre 1993 a pagina 13 foglio 261 lei ha menzionato tra i presenti anche Giovanni Brusca ricorda di averlo detto sicuramente se è scritto l'ho detto non ci sono dubbi però in questo momento non mi viene in mente ma se l'ho detto vuol dire che allora aveva ricorde meglio ricorde più limpide diciamo questo qua può essere senta vuole dirci chi si incaricò per organizzare questo incontro Ganchi Raffaele appunto che Rina ci aveva dato l'incarico di comprare una bottiglia di champagne per brindare a buon esito del risultato lei si attivò per l'organizzazione sì nel senso che io ho trovato la casa diciamo che di solito ci andavo io da guddo sempre per farmi dare questo appuntamento quando Rina si doveva incontrare con persone sì senta vuole descrivere questa abitazione di Girolamo Guddo dicendo anche come qui si accede sì questa abitazione è all'interno della via Margifaraci diciamo dove c'è la villa serena che ce l'ha presente via regione siciliana alle spalle per via aria c'è un chilometro così diciamo ci sono giardini c'è un portone verde un cancello si entra c'è una palazzina c'è pian terreno e primo piano c'è una scala interna che porta nell'appartamento sopra senta lei ha detto in precedenza che Gangi le ha richiesto di procurare la disponibilità di questa abitazione di Girolamo Guddo lei ricorda quando e dove Gangi ti ha fatto questa richiesta per trovare la comodità l'appartamento si per avere la possibilità di utilizzare ma questo per me questo per me era una cosa diciamo come dire una cosa facile non è che devo avere un ricordo particolare diciamo per dire io mi trovavo e Gangi mi incontrava e mi diceva sai parla con Mimmo Mimmo è appunto Guddo che un sudotuccio si deve fare un incontro per dire in questa casa io vedevo a Guddo e ci diceva sai mi serve di pomeriggio mezz'oretto un'ora quello che era e lui si metteva a disposizione ripeto che lui non sapeva niente e non fa parte di cosa nostra ma quanti giorni prima della della riunione le ha fatto la richiesta Gangi se lo ricorda ma guardi io abito là quindi non è che avevo di bisogno un arco di tempo diciamo per un giorno prima due giorni prima la Gangi mi vedeva e mi diceva questo io passavo di là e glielo dicevo diciamo era una cosa facile senta lei ha indicato prima le persone che erano presenti sa dirci come e quando sono arrivati questi partecipanti ma di solito di solito diciamo quelli che l'avvisavano appunto era sempre o Biondino Salvatore o Ganci Raffaele e di solito diciamo noi loro arrivavano un po' prima perché questa era un'abitudine di Riina che lui arrivava dopo quando già erano tutti là sa se in quale momento della giornata sia stata effettuata la riunione sia stata fatta di mattina o di pomeriggio lo vuole specificare no mi ricordo che è stato di pomeriggio verso di pomeriggio verso le 5 così ricorda in quale piano dell'abitazione si è svolta la riunione si a primo piano quanto è durata complessivamente questa riunione grosso modo ma che so un 40 minuti tre quarti così e vuole raccontare dettagliatamente cosa è successo nel corso della riunione chi prese la parola che cosa è stato fatto e cosa è stato detto ma la parola diciamo l'ha preso a Riina appunto ci ha detto a Ganci di procurare una bottiglia di champagne per brindare poi dopo che si è brindato mi ricordo che Ganci e Riina perché qua è un salone un po' grande diciamo grandetto si sono appartati e c'era un divano si sono seduti là parlavano sottovoce e poi io ci ho sentito dire a Riina cefalozzo la responsabilità è mia quindi è meglio così insomma ci ha detto queste due parole un po' agitato diciamo nel discorso che loro avevano che io non ho potuto afferrare bene quello che dicevano ma sa dire a cosa si riferisse Riina con quell'espressione ma io ripeto come ho detto prima diciamo non ho capito bene le parole però il discorso era secondo me che Ganci ci avrebbe detto qualche cosa diciamo di l'umore della situazione cosa o qualche cosa che dovevano preparare ancora insomma qualche cosa del genere e lui ci disse faluzzo la responsabilità è mia meglio così va bene così insomma era un pochettino agitato del discorso che aveva senta lei a che distanza si trovava il rosso modo da Riina e da Ganji quando ha sentito questa espressione ma qua è un salone ho detto un pochettino grande noi eravamo seduti nel tavolo e all'angolo diciamo nella mia posizione dove mi trovo qua sulla sinistra c'era un divano due divanette in pelle erano seduti là a distanza che so cinque mesi senta cos'altro è avvenuto nel corso di questa riunione ma si parlava diciamo appunto Riina era gioiva della di quello che era successo insomma queste parole grossomodo della situazione sa se vi sia stato un brindisi si mi sembra che vuole specificare per quale motivo è stato fatto questo brindisi e se tutti i presenti abbiano aderito a questa iniziativa a questo brindisi si il motivo è stato quello che ho detto prima che è il buon esito diciamo della situazione che appunto lui gioiva che tutto era andato bene e tutti nessuno ha detto no io non voglio brindare assolutamente senta lei ha detto che tra i presenti vi era pure la Barbera Michelangelo e la Barbera quale significato ha assunto questa partecipazione in che senso nel senso diciamo il fatto che fosse presente anche la Barbera Michelangelo posizione domanda in questa forma non può essere posta l'avvocato mi deve lasciare finire le domande quando il pubblico ministero sta per porle un'opinione io mi oppongo poi il presidente deciderà quello che ritiene opportuno vediamo di fargliela formulare compiutamente poi vediamo se il suggestivo o meno allora signor Cancemi vuole dirci che rapporti intercorrevano tra Riina e Michelangelo e la Barbera ma io questo l'ho spiegato un'oretta indietro che quando Riina nei vari mandamenti ha messo queste persone queste sono tutte persone di fiducia di Riina quindi qua entriamo in questo discorso che io ho fatto Salvatore Busceme e Michelangelo e la Barbera persone di Riina quindi questa è la situazione senta che cosa ha provocato in lei rivocare per la prima volta l'episodio del Vindisi di cui si è fatto ora menzione dinnanzi al nostro ufficio ma io onestamente è stata una cosa vergognosa per me nei vostri confronti di parlare di questa cosa però ho voluto anche parlare di questa cosa ma ho provato vergogna senta sa dire con quali modalità i partecipi alla riunione abbandonarono la stessa chi se ne andò per primo ma di solito Riina usava questa forma di sicurezza pure se se le persone presenti erano intimi ma era un'abitudine che Riina usava veniva l'ultimo e se ne andava prima è uscito lui con Biondino poi mi ricordo se ne andato Bagarella insomma e via via senta lei ha parlato di un Vindisi vuole dirci come è stata procurata questa bottiglia o questa bottiglia utilizzata per effettuare il Brindisi ma come ho detto prima Riina ci ha dato l'incarica a Ganci e Ganci nella scala interna è sceso giù o è andato assieme a Gud a comprarla oppure ci ha dato Ganci perché io sono rimasto sopra con lui e poi è arrivato Ganci con questa con questa bottiglia senta lei con chi è ritornato? come? assieme a chi è ritornato? chi? lei non ho capito come lei quando ha ultimato quando ha ultimato la riunione e si è allontanato assieme a chi si è allontanato? ma io di solito me ne andavo sempre con Ganci ecco sì ricorda cosa le disse Raffaele Ganci nel tragitto di ritorno? sì mi ricordo benissimo riferendosi a Rina che questo ci vuole consumare a tutti questo ci vuole rovinare a tutti e cosa voleva dire Raffaele Ganci? non mi ha detto niente ma mi ha detto tante cose vuole essere più chiaro più vicino la posizione ha riferito la frase non può dire non può fare interpretazione o esprimere opinioni a mio avviso no lo posso spiegare chiaramente cosa volevo dire il pubblico ministero ha chiesto all'imputato di precisare il significato di quest'ultima frase che è dell'imputato ci ha detto poco ma ha detto molto qualcosa l'espressione mia stessa il suo pensiero chiedo scusa perché il signor Cangemi mi ha risposto come se l'opposizione fosse fatta a lui io mi ero opposto a che il pubblico ministero formulasse la domanda chiedendo che significava la frase che cosa significava lo deve chiedere a Ganci a Cangemi può chiedere che cosa ha detto Ganci non può vedere il significato della frase che si fa mi formoliamo la domanda io almeno l'ho interpretata così senta lei che cosa ha capito di questa frase io ho capito di questa frase di questa frase così con queste poche parole di Ganci e che Irina voleva continuare di commettere di commettere gradanti però si è limitato a dirmi solo queste parole senta signor Cangemi lei ricorda di aver partecipato ad altre riunioni presso l'abitazione di Girolamo Guddo sì in quali circostanze ma per esempio quando abbiamo parlato di Lima quando la morte quando hanno ammazzato il fratello di Spera perché quella di Petrocello è stata nel pollaio questa è stata qui nella villetta di Gutto e tanti altri e con specifico riferimento alla riunione svolta in occasione dell'omicidio Lima vuole dire chi provvide a procurare l'appartamento guardi lo dico per una volta e per sempre quando si trattava il Gutto ero sempre io in occasione di questa riunione avvenuta prima dell'omicidio Lima sa dirci chi partecipò oltre a lei Rina Ganci Biondino Michelangelo Barbera senta e di cosa si è discusso nel corso di questa riunione si è parlato di che da fare per questo Lima Rina ha fatto un discorso che ce l'aveva con questo Lima perché ce l'aveva con Lima Presidente opposizione non è che stiamo facendo il processo Lima ma lei non sa bene che ha rilevanza l'avvocato è inutile che si opposta io non credo che abbia alcuna rilevanza perché ha partecipato alla fa parte fa parte come noi abbiamo specificato nell'esposizione introduttiva ma che poi andiamo a specificare l'oggetto dell'omicidio di Lima la discussione la cosa in seguito mi sembra che non sia più che non abbia alcuna rilevanza per questo processo anche perché non credo e non ritengo che ci possa essere un nesso è fortuno però che lei avvocato si ricordasse della scarsa pertinenza di molte domande che vengono poste dai difensori in ordine alle quali spesso neanche la presidenza è in grado di cogliere il nesso col tema decidendo eppure vengono ammesse perché io confido in una pertinenza che magari verrà esplicitata più avanti qua invece mi pare che la pertinenza è più che evidente non merita commento prego ritiene che sia pertinente la ponga voglio dire che le opposizioni devono avere un minimo di fondamento non devono essere pretestuose poi la presidenza decide non decido io va bene allora signor Cancemi se ricorda la domanda no scusi avvocato ho ammesso la domanda avvocato scosola non è stato lei che stamattina ha depositato il verbale proprio che dice il procedimento non c'è bisogno che il pubblico ministero ho specificato che le ho depositate mi ha ricordato l'altra parte ha specificato no no ho specificato che le ho depositate solo esclusivamente perché si parla di commissione di regola di commissione come si ririva non riporto per l'omicidio rima quindi lei scusate perché dobbiamo continuare a discutere se io ho già ammesso la domanda e ho chiedito le regioni per le quali ritengo che la domanda sia ammissibile no no ma comunque era bene sottolineare alcuni passaggi che io mi permetto di qualificare come incoerenti nella richiesta di opposizione da parte dell'avvocato scosola non sono incoerente le ho detto perché non sono incoerente perché l'avvocato io l'ho depositato per il tipo di funzionamento avvocato guardi ci fa specie davvero questo suo intervento denota proprio un atteggiamento cosa? bene proseguiamo per favore va bene lasciamo stare prego signor Cancemi risponda si gentilmente mi ripete la domanda per evitare polemiche allora nel corso di questa riunione lei ha detto che si è fatto riferimento all'IMA e che appunto si doveva eliminare l'IMA per quale motivo bisognava eliminarlo? ma il motivo il vero motivo è che per il Machiessi processo perché Irina non era stato contento dell'esito del Machiessi processo il Machiessi 1 quindi lui diceva che ci era girato le spalle questo Lima Andreotti e che cosa disse ricorda le parole precise usate da Irina si disse che ci doveva rompere le conne ci dobbiamo rompere le conne a questo Lima cos'altro disse Irina nel corso della riunione sempre con riferimento al mancato interessamento di Lima appunto lui era arrabbiato perché non era successo quello che lui desiderava e lui dava la colpa a Lima Andreotti perché le cose non l'avevano portato a complimento quello che lui desiderava lei sa per quale motivo Lima non avesse adempiuto al suo dovere chiamiamolo così ma lui Irina diceva che che c'era stato un intervento di Farcone c'era stato un intervento di Martelli allora ministro carnevale e quindi era questo che lui spiegava poi c'è stato che carnevale ha fatto sapere a lui si è giocato l'ultima carta ha suggerito ha fatto sapere a Rina non so onestamente con quale canale che questo processo di fare il tentativo tramite gli avvocati di farlo a sezione uniti perché lui se l'aveva visto che il processo non l'aveva più nelle mani il carnevale quindi di fare la sezione uniti così lui partecipava anche nel collegio giudicante e questo qua diciamo lui era arrabbiato su questo punto che aveva saputo queste cose senta sa dirci per quali ragioni si è deciso di eliminare il dottor Falcone ma io quello che ho sentito direttamente nella bocca di Rina proprio il vero motivo è questo che ho detto prima che prima perché diciamo era un giudice che combatteva cosa nostra e la cosa diciamo che lui di più ha impazzito è stato appunto questo processo che ci hanno ci ha fatto levare tramite lui a a carnevale questo era lui che ripeteva ripeteva sempre queste parole e lei sa dire perché si sia deciso di eliminarlo proprio il 23 maggio 1992 il dottor Falcone ma guardi diciamo lui su questo punto non si apriva diciamo più di tanto però io posso pensare che era un momento delicato che c'erano le votazioni e quindi voleva dare una botta a Andreotti voleva dare una botta a Lima diciamo appunto perché lui non era stato accontentato perché lui voleva che questa sentenza doveva essere annullata se la faceva a carnevale lui si sentiva lo diceva dice noi con carnevale non abbiamo problemi quindi il punto diciamo quello più forte è stato questo qua perché anche Andreotti voleva dare un colpo è perché lui Andreotti Andreotti Lima erano la stessa cosa diciamo ecco questo era il giro che si faceva senta lei ha fatto riferimento all'intervento del dottor Falcone e dell'onorevole Martelli per fare in modo che il processo non venisse trattato dal giudice Carnevale a questo proposito vuole spiegarci quali notizie lei ha preso sull'andamento del maxiprocesso e sulle sui tentativi che si stavano effettuando per cercare di influenzarne l'esito ovviamente questo nel corso del tempo sì nel corso del tempo io ho saputo che siccome Rina una sentenza definitiva c'era andata bene quella del macchissetel che aveva avevano scagionato tutti e tre grade la commissione quindi in questo lui voleva andare a contrastare quella sentenza del macchissi 1 così c'erano due sentenze diversi quella del macchissi 1 che dava la responsabilità alla commissione e quella del terri che le scagionava quindi lui diceva che Farcone era il responsabile principale che ci aveva levato questo processo a carnevale tramite martelli l'interessamento che loro avevano avuto per non ci fare celebrare questo processo a questa prima sezione della Cassazione e questo qua lui quello che sempre ripeteva era queste parole diciamo che lui diceva senta questo particolare dell'interessamento vuole dirci in che circostanze lo ha appreso ma le circostanze erano diciamo ogni giorno diciamo di questo qua perché appunto mi ricordo mi ricordo che lui ha mandato a chiamare tramite canci un certo mastro ciccio che è Francesco Messina chi è questo Francesco Messina? questo è uno un capomandamento di Mazzara che sostituiva Maria Nagate della zona del Trapanese e in mia presenza ci disse a questo mastro ciccio ciccio prende l'aereo subito e vai dall'avvocato dove? vai dove? un momento io vai dall'avvocato io nel modo di come Rina ci ha detto a lui vai dall'avvocato sicuramente non era un avvocato per dire un avvocato che doveva difendere Rina o qualche altro imputato era una parola sottintesa questa vai dall'avvocato appunto perché già lui aveva saputo che questo processo ci stavano ce lo stavano levando delle mani di carnevale quindi l'interessamento c'era giorno per giorno non è che c'è stato un solo discorso per dire e poi non se ne è parlato più tutti i giorni lui aveva questo chiodo fisso perché era per cosa nostra era una cosa importantissima una vittoria perché che il Rina lui aveva paura di coinvolgere la commissione che lui usava dell'espressione diceva a me me ne sto fregando se io mi devo fare 4-5 anni attaccato a una branda legato nella branda quindi la paura era questa qua perché coinvolgendo la commissione la responsabilità di tutto quello che era successo a Palermo era della commissione invece di quel modo c'era 4-5 anni di associazione insomma lui diceva che si faceva legate nella branda quindi l'interessamento era forte e c'era ecco per questo diciamo lui è impazzito su tutto quello che poi è successo Senta lei sa dove in quale città si dovesse recare Francesco Messina per parlare con questo avvocato lo posso dire con assoluta certezza perché lui ci ha detto ciccio prenda l'aereo e vai a Roma quindi si trattava a Roma lei sa dire chi è questo avvocato no Senta lei ha fatto riferimento al fatto che Rina aveva saputo che stavano togliendo il maxiprocesso a Carnevale lei sa dire come l'abbia appreso Rina questo particolare no non lo so lei sa dire che tipo di intervento doveva porre in essere questo avvocato ma guardi io lui non ha spiegato più di tanto là in mia presenza l'intervento era quello che ho detto prima tramite questa persona che sicuramente per me non era un avvocato tramite qualche avvocato vero era quello lì di fare di fare fare questo processo a sezioni uniti così Carnevale partecipava anche nel collegio giudicante questo qua era il punto lei in precedenza ha fatto riferimento al fatto che Rina puntava per l'aggiustamento su Lima Andreotti ecco vuole dirci come o meglio vuole dirci se questo l'ha preso anche da altre persone sì io l'ho sentito l'ho sentito da Rina più volte anche mi ricordo un'altra espressione di Ganci io ero latitante e con Ganci mi vedevo un incontro che ho fatto con Ganci in una rivista un giornale mi sembra che era una rivista c'era un articolo delle dichiarazioni di Di Maggio Di Maggio il collaboratore quindi io ancora facevo parte di Cosa Nostra e Ganci stava leggendo con gli occhiali io mi ci sono avvicinato così scusatemi e ci ho detto minchia il suo cornotazzo quanto fesseri sta dicendo il riferimento a Di Maggio io ancora facevo parte di Cosa Nostra e dovevo dire quelle parole i Ganci si è levato gli occhiali mi ha guardato in faccia io chiedo scusa alla corte devo ripetere le parole che ha detto Ganci e ci sta minchia Di Maggio sta dicendo fesseria quello che dice è la verità signor Presidente se può fare in modo che questi commenti non vengano effettuati da parte dei detenuti prego continui sta dicendo la verità perché dice i rapporti con Lima Lima Andriotte Di Maggio i cugini salvo dice ci fa tenere a Di Maggio dice la verità quello che sta dicendo quindi anche da parte di Ganci ho sentito questo racconto che ho fatto dove vi trovavate quando Ganci le disse queste cose se lo ricorda sì era dove mi nascondevo io dove mi nascondevo io senta vuole dirci che cosa sa con riferimento a incontri tra Rina Lima e Andriotti ma io quello che so è questo che ho detto poi in particolare io sapevo che questo Lima l'avevano nelle mani Salvatore Buscemi capomandamento Nino Buscemi Salvatore Buscemi capomandamento di Bocca di Falco e fratello Nino che ci stavano l'avevano nelle mani a Lima e Giro era quello che ho detto prima Lima Andriotte per ottenere le cose ma vuole spiegarsi meglio sul punto cioè vuole essere più preciso sì voglio dire questo che le necessità di Cosa Nostra le necessità di Cosa Nostra diciamo li sfruttavano tramite questo Lima aggiustamenti in Cassazione Andreotti questi qua voglio dire diciamo l'interessamento era questo senta le Cosa ha appreso da Vittorio Mangano con riferimento al Dottor Carnevale io da Vittorio Mangano un giorno mi disse che che il Carnevale era il pupillo di Andreotti era la la persona una persona importante per Andreotti appunto per aggiustare i processi mi disse pure che il professore Ricò il professore Ricò era intimissimo con Carnevale e addirittura ci scriveva quello che mi ha detto Mangano addirittura Ricò ci scriveva qualche sentenza a Carnevale senta in quali circostanze di tempo e di luogo Vittorio Mangano le fece queste confidenze le circostanze erano quelli che io che il professore Ricò era l'avvocato mio l'avevo io quindi in queste circostanze che appunto me l'ha suggerito lui di prendere questo avvocato che lui sapeva che aveva tutti questi agganci con Carnevale e quello che ho spiegato queste erano le circostanze se c'è qualche avvocato che ride i discorsi sono questi qua sì sono questi in queste circostanze che io mi difendevo a me appunto mi chiedete per prendere questo avvocato che è fortissimo senta lei ha fatto riferimento ai tentativi di aggiustamento del maxiprocesso quello per capirci istruito al dottor Falcone lei cosa sa inoltre con riferimento alla possibilità di cosa nostra di aggiustare i processi ma io ne so qualche altro per esempio posso fare l'esempio quello del macchiesse terre e in macchiesse terre c'è stato anche l'aggiustamento ecco con quali modalità è avvenuto come? con quali modalità sì e per esempio c'è stato il primo grado che l'ha fatto il dottor Princevalli e qua c'è stato hanno usato i sordini che io ho saputo direttamente da Ganci Raffaele e anche da Rina e da Biondino che ha usato queste parole queste sono parole di Ganci che Princevalli si fottì una buzzere piccola quindi questo è stato il primo grado poi c'è stato anche il secondo grado e c'è stato pure l'aggiustamento perché lui voleva diventare forte in questi tre gradi appunto per andare a contrastare quella sentenza del macchiesse 1 e qua c'è stato anche parlato il dottor D'Antoni presidente della corte d'appello di questo processo del terri anche giudice all'atere Librizi è stato pure parlato da Tommaso Cannella rappresentante di Prizzi questo Tommaso Cannella e poi in Cassazione da Carnevale e mi ricordo in particolare che io ero imputato in questo processo e sono venuto a Roma il 24 giugno del 92 ho assistito all'Udiense e là c'era pure Tommaso Cannella è stato avvicinato dopo una pausa erano in camera di consiglio io sono stato avvicinato da Cannella che io lo conoscevo e mi disse se tu vedi Primoz Totuccio Totorrina ci dice che tutto apposto la commissione è scagionata Carnevale ci ha fatto sapere che la commissione è scagionata poi mi disse pure che in camera di consiglio e lui mi disse queste parole che l'avvocato Spazzali ci disse a Cannella io dico ci disse che lui mi ha fatto il nome di questo avvocato che Carnevale ha pronunziato dentro la camera di consiglio invece c'era una pausa gli indegni ancora ne devo vedere passare bare davanti a me quindi il discorso che faceva Carnevale era stato che qualche giorno prima c'era stata depositata una sentenza che era il riferimento a Macchessi 1 una sentenza che andava a contrastare l'operato di Carnevale non lo so non posso essere più chiaro di tanto perché non so di che cosa si tratta mi era stata una cosa depositata poco qualche giorno prima appunto che andava a contrastare la decisione che lui già aveva preso per scagionare la commissione quindi c'è stato questo altro interessamento diciamo in questo processo poi c'è stato un altro interessamento con riferimento a fare il procedimento sempre all'omicidio Basile un altro interessamento che qua io ho saputo direttamente che sono stati pagati 600 milioni l'ho saputo anche Danino Madonia che c'era stato incaricato Mandalari un commercialista di Rina che si doveva interessare lui per questo processo e io ho saputo Danino Madonia che stava aspettando l'esito di questa sentenza che io ero andato a Ciovallo a quell'epoca che doveva parlare per motivi di Cosa Nostra e mi disse che era là che doveva aspettare questa sentenza che poi questa sentenza è stata positiva che è stata annullata di un giudizio un giudizio fatto da un collegio precedente poi personalmente io ho fatto qualche cosa pure per per il mio per la mia posizione che mi doveva giudicare il dottore Barrile anche qua io per un anno ci ho mandato delle cose a casa e con il fagimento signor Cancemi scusi a quale il procedimento il terri sì perché io nel primo grado sono stato condannato e nel primo grado scusate sono stato assolto in appello sono stato condannato e la Cassazione me l'ha annullato e con rinvio e poi mi ha giudicato lui mentre io stavo collaborando mi ha giudicato lui e mi ha dato una condanna a sei anni perché ha voluto dimostrare che non aveva paura di me però quello che dico io è la verità che per un anno ci ho mandato queste cose a casa allora senta signor Cancemi passiamo alla fase successiva all'esecuzione dell'attentato per cui è processo pubblico ministero scusi siccome sono le due vogliamo fare una pausa e riprendiamo come dice lei presidente noi possiamo andare avanti tranquillamente non sono problemi teoricamente tutti possiamo noi abbiamo fatto una pausa un tempo fa e quindi siamo nelle condizioni di proseguire io direi di fare una pausa magari fino alle tre e mezzo non oltre le tre e mezzo l'abbiamo sempre fatta perché mi guardate guardate con questa espressione siccome qualcuno ha parlato di pause di riflessione allora noi siamo avanti a non farle pause presidente scusi può autorizzare Biondo a rientrare in aula il colloquio come ha fatto nei giorni scorsi sta facendo il colloquio deve poi rientrare ah deve rientrare nel pomeriggio sì nel pomeriggio sì ma ho già dato l'autorizzazione in questo senso grazie io vi impegno a non riflettere più allora signorina che se è andata la signorina testaquare mi chiamate per favore l'assistente vabbè allora l'udienza viene sospesa e rinviata alle 15.30 viene reintrodotto l'imputato Cangemi Salvatore grazie il pubblico ministero può riprendere sì presidente allora signor Cangemi lei ha incontrato Ganci Raffaele dopo la strage sì ricorda quando è avvenuto questo incontro ma dopo qualche giorno sa dire che giorno della settimana era non mi ricordo sa precisare il contenuto di questa conversazione ma mi ricordo che lui mi diceva che insomma era contento del buon esito che era successo quindi in che termini commentò l'avvenuto compimento della strage che è tutto andato bene che è affilato tutto bene insomma non c'è stato nessun intoppo questo qua ho capito sa dire dove vi trovavate ma sì mi ricordo che eravamo nella zona dove abito io in via eravamo in macchina nella sua macchina sì senta lei ha incontrato Ganci Raffaele e Biondino Salvatore in quell'occasione no no dopo la strage al cantiere di piazza Principe di Camporeale ma il Biondino sì l'ho incontrato dopo però non mi ricordo con precisione quando l'ho incontrato i giorni sì sicuramente dopo la strage ma non mi ricordo il giorno preciso ricorda lei se lei si recò al cantiere dopo la strage sì io ci andavo io ci andavo spessissimo diciamo a trovare Ganci Raffaele era presente e incontrava solo Ganci Raffaele là al cantiere sì incontravo Ganci Raffaele diciamo era un'abitudine mia che andavo là incontrarlo e a volte stiamo parlando dopo la strage sì 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 anche dopo la strage a volte qualche volta c'era anche Biondino dopo la strage diciamo c'erano altri soggetti appartenenti a Cosa Nostra ma io là spessissimo vedevi i suoi figli e Paolo Anselmo che è sotto capo di Raffaele Ganci lei ricorda se la strage venne commentata da altri al cantiere in uno di questi in una di queste occasioni no in questo momento non mi ricordo senta più in generale nell'ambito di Cosa Nostra quali reazioni furono registrate dopo la strage di Capaci ma guardi la gente personaggi di Cosa Nostra volevano dire tante cose sicuramente però non parlavano la paura che arrivava qualche cosa all'orecchio a reina era una cosa terribile quindi quello che volevano commentare lo commentavano col silenzio con qualche sguardo ricordo chi fece questi commenti in particolare ma un po' tutti di quelli che si incontravano di Cosa Nostra ma ripeto non aprivano bocca col silenzio volevano dire queste cose senta lei poco fa ha fatto riferimento a una riunione a casa di Gutto in cui si fece un brindisi è così sì ecco questa riunione avvenne abbiamo detto dopo la strage di Capaci è vero sì ma è avvenuta la riunione in epoca precedente o successiva alla strage di Via D'Amerio no prima prima perché è stato dopo qualche mesetto venti giorni non mese nella strage di Capaci senta ritornando ai commenti nell'ambito dell'organizzazione di Cosa Nostra ricorda qualche frase specifica che circolò nell'ambito dell'organizzazione circa appunto il commento su quello che era avvenuto a Capaci ma guardi io mi ricordo però non mi ricordo da chi l'ho sentito ma qualcuno addirittura diceva che Rina stava trasformando Palermo a tipo Perut una cosa del genere qualcuno però ripeto la gente aveva paura non parlava riguardo a qualcuno degli imputati di questo processo qualcuno delle persone da lei già indicate sa dire se fecero dei commenti specifici ma i commenti signor Presidente mi scusi Avvocato Rina c'è opposizione mi sembra che il collaborante abbia già risposto a questa domanda una domanda Avvocato se qualcuno avesse fatto in particolare dei commenti già la seconda la terza volta che il collaborante ha detto che nessuno fece commenti perché avevano paura ha detto qualcuno in particolare degli imputati prima ho detto la stessa è la domanda ha detto che nessuno ha fatto dei commenti espliciti ma si trattava di sguardi ho usato questa espressione mi pare ora il pubblico ministero ha chiesto qualcuno in particolare degli imputati ha fatto questo poi la puoi rifare altre dieci volte ma non mi pare che l'abbia fatta questo Avvocato ma poi ne fate tante domande ripetitive ammesso che questa lo sia perfetto il pubblico ministero vuole ripetere la domanda oppure può rispondere si posso rispondere si in particolare mi ricordo di Cancio Raffaele che mi ha detto quella parola dice questo ci vuole rovinare a tutti si le disse anche qualche altro episodio qualche altra cosa di questo genere se lo ricorda momentaneamente non me lo ricordo le faccio una contestazione il verbale del 4 novembre 1993 pagina 13 lei dichiarò al pubblico ministero di Caltanissetta Biondino disse rivolgendosi al Ganci il fatto di Falcone è andato bene virgolette e Ganci annui non ricordo altro mi scusi la pagina qual è la contestazione se ci può chiarire il contrasto in relazione al non ricordo avvocato si si è chiaro però il non ricordo che cosa avrei dovuto ricordare se ci sarebbe stato un altro ho fatto nei commenti ho fatto una domanda se oltre a quella frase guardi è proprio è ultroneo stare a perdere tempo la intelligenza di tutti forse alla sua avvocato proseguiamo prego pubblico ministero forse alla sua avvocato l'intelligenza guardi ma insomma se questa è contestazione veramente dovrei chiedere il contrasto se ce lo spiegano guardi ma perché avvocato scusi ha chiesto se ci sono stati altri commenti non ricordo no no commenti di Ganci Presidente mi hanno citato un commento di Biondino ma che discorso è? ma di altri votati non di Ganci scusi scusi no io ho segnato di Ganci disse anche qualche altra cosa disse no a me pare altri io ho parlato di altri commenti in un'epoca non c'è la registrazione c'è altri commenti perché adesso Ganci la fa può rispondere il signor Cancemi si ma gentilmente mi ripetete la domanda perché ecco dunque le faccio adesso ordinatamente io le avevo chiesto se lei era a conoscenza di commenti che furono diffusi all'interno di Cosa Nostra successivamente alla strage lei ha fatto riferimento specifico a una conversazione a una frase detta da Ganci successivamente io le ho chiesto oltre a questa frase è in grado di riferire su altri commenti su altre frasi del genere dette da chi che sia ma da chi che sia non è così ma io sto spiegando 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 Presidente ma che cosa vuole Presidente rinunzio a questo punto non lo so non sono messo in grado di fare il mio lavoro ma non faccio la vittima su questa storia ma quale vittima quale vittima io sono io sono a favore scusate un attimo signor signor Cancemi risponda alla domanda sì io innanzitutto vorrei dire non è che uno tutte quelle sfomature quelle parole posso ricordarle diciamo in perfette ordine sì io ho detto in quel verbalo l'ho detto sicuramente è vero quindi momentaneamente anche non posso ricordarlo attenzione non è che qua io ho il registratore lo metta avanti e dico insomma un po' di insomma questa conversazione tra Biondino e Ganci sì 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 sicuramente sì 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 benissimo ricorda lei era presente a questa conversazione o le fu riferita il testo o le fu riferito no ero presente erano presenti altri no mi ricordo Ganci e Biondino un po' di senta qual era l'atteggiamento dentro Cosa Nostra dopo che avvenne la strage c'è opposizione atteggiamento cioè significa un'apparenza dentro Cosa Nostra c'è un modo come dire non so quanti mafiosi ci saranno di Cosa Nostra 100 2000 20.000 il pubblico ministero può riformularlo in termini un po' più qual era la considerazione che si aveva all'interno di Cosa Nostra della esecuzione della strage ma l'aveva già formulata questa domanda la considerazione l'ho parlato di commenti e allora per considerazione cosa intende appunto come dire come venne interpretata come venne vissuto come è un po' diverso ritengo Presidente come venne interpretata ne sa tanto come si possa portare no la categoria che esiste attraverso le persone fisiche non può essere più specifico signor Fugliel dica quale soggetto abbia dato delle interpretazioni guardi la mia domanda è questa non ho capito se vuole se io ritengo che sia ammissibile se il Presidente mi dice che non è ammissibile ma a me pare che sia ripetitiva perché ha già chiesto quali siano stati i commenti i commenti comprendono gli atteggiamenti comprendono le interpretazioni va bene la riforma ecco signor Cancemi all'interno di Cosa Nostra c'era il timore di una reazione dello Stato dopo l'esecuzione della strage vuole esplicitare questo concetto in che termini c'era questo timore ma il timore che lo Stato ci distruggeva a tutti che lo Stato interveniva in una maniera forte ci distruggeva a tutti e anche quella frase di Cance che dice questo ci vuole rovinare a tutti è dovuta a questo senta sussistono legami della strage di Capaci con l'eliminazione dell'onorevole Salvatore Lima l'uccisione del dottor Paolo Borsellino e l'assassinio di Ignazio Salvo ma sicuramente sì perché tutto il punto è quello del maxiprocesso ma in che senso il punto del maxiprocesso è che punto che è lì ma che non ha portato a complemento quello che doveva portare Falcone perché è l'interessamento che ci ha levato il processo a Carnevale quindi il giro è tutto quello là non sono cose diverse senta questi episodi criminosi che io ho menzionato vale a dire l'omicidio dell'onorevole Salvatore Lima l'uccisione del dottor Paolo Borsellino l'assassinio di Ignazio Salvo e la strage di cui è processo rientravano in un'unica strategia criminale messa in atto da Cosa Nostra opposizione per quale profilo avvocato Presidente si dice è un'unica strategia questo questo e questo come la chiama lei credo che non sia molto differente se esisteva una strategia mi deve consentire se il pubblico ministero avesse chiesto esisteva una strategia generale di Cosa Nostra e quale era e quali erano i fatti criminosi questo era un altro discorso ma dire questo questo e questo sono mi pare ma avvocato non mi sembra una domanda suggestiva è molto sottile la sua ma Presidente prego risponde si può rispondere il signor Cancetti si ho detto si si sai indicare qual era questa strategia sia pure sinteticamente a grandi linee ma tutto l'interessamento di Cosa Nostra il danno provocato a Cosa Nostra diciamo da questi personaggi per un motivo per un altro motivo ma è quello là senta lei ha partecipato ad una riunione inerente alle elezioni politiche del 1987 eh sì ricorda dove si tenne ma sempre nella zona della Villa Serena qua chi partecipò e quale fu l'oggetto della riunione Marriina credo Di Maggio Madonia e qualche altro sa cosa disse in particolare Salvatore Riina in questa riunione ma mi ricordo così che Riina insomma l'aveva un po' con tutti diciamo di questi che cercavano di di combattere Cosa Nostra Falcone Borsellino e tutti furono date indicazioni per le imminenti elezioni politiche del 1987 se lo ricordo ovviamente ovviamente sì sì mi ricordo che l'indicazione era per votare per i socialisti ma come mai venne data questa indicazione come come mai cioè come era motivata questa indicazione c'era una particolare giustificazione è un particolare motivo che stava alla base di questa indicazione ma i motivi sono che Riina diceva che chi ci dava pane lo chiamava papà che voglio dire che una volta ha avuto anche l'espressione di dire che se lui trovava le sue cose favorevole e dava i voti anche ai fascisti perché i fascisti erano i nemici numero uno di Cosa Nostra ma lui usava pure questa espressione e diceva pure poi se c'è qualcuno che ha qualche cosa da dire me lo venga a dire a me quindi i motivi sono qua nell'interesse che Cosa Nostra aveva lei ricorda se in questa riunione specificamente si parlò di eliminare i giudici Falcone e Borsellino no io non mi ricordo come in questa in questo momento non mi ricordo è possibile che questa frase sia stata detta e che lei non l'abbia sentita sicuramente sì avvocato lei lei ha raccolto tutte le mie avvocato Giacomo lei ha raccolto in un paderno tutte le mie opposizioni e me li sta riconvertendo contro proseguiamo pubblico ministero sì signor Canciermi vuole specificare se lei ha partecipato ad operazioni di travasamento in bidoncini dell'esplosivo utilizzato per l'attentato Capaci sì io queste bidoncine l'ho visto là come ho detto e Canci mi disse che c'era l'esplosivo là in queste bidoncine questo qua pubblico ministero le ha chiesto se lei ha partecipato all'operazione di travasamento lei conosce Giovanni Battaglia ma questo che lo chiamavano su Giovanni sì sì l'ho conosciuto là lei sa se questo signor Giovanni Battaglia è proprietario o utilizzatore di un casolare a Capaci ma diverso di quello che noi siamo andati sì no senta se lo cancendi lei può dire può riferire circostanze utili naturalmente all'accertamento dei fatti con riferimento al proposito di Cosa Nostra di combattere il fenomeno delle collaborazioni con la giustizia sì io posso dire che Zina diceva più volte che appunto si dovevano ammazzare i bambini di sei anni fino a ventesimo grado di parentela che appartenevano ai collaboratori un'espressione ci ho sentito dire che si giocava pur i denti perché il male di Cosa Nostra è la collaborazione dei pentiti io mi gioco pur i denti era un chiodo fisso che lui aveva su questo punto della collaborazione perché diceva che tutti i mali erano sulla collaborazione dei pentiti quindi lei sa cosa voleva fare in concreto il vertice di Cosa Nostra contro questo fenomeno ma lui Rina Provenzano volevano sempre attraverso di chi ci cambiava la legge sui collaboratori i 41 bis erano queste qua le cose che loro cercavano di ottenere tramite pezze dello Stato e di ammazzare i parenti dei pentiti per farci fare macce indietro tutte queste cose lei ha partecipato ad incontri in cui si è discusso tutto questo? sì ma tante volte può specificare l'epoca il luogo le persone che erano presenti eventualmente? ma il tempo era da quando sono spuntati i pentiti diciamo i luoghi i posti dove ci incontravamo Villa Serena Pollaio tutti i posti quando lui aveva sempre parlava dei collaboratori non c'era un momento che lui non parlava di questi collaboratori che in male diceva che sono loro perché cosa nostra non la può distruggere nessuno commentava sempre questi qua quindi dice io mi giochi i denti per far annullare questa legge sui collaboratori il suo articolo 41 bis insomma era tutte queste qua le cose che lui stava pensando di ottenere e attraverso chi dovevano essere realizzate queste modifiche? attraverso pezzi dello Stato politici che ci dovevano cancellare questa legge grazie a tutti 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 che potevano che potevano influire sulla modifica di queste leggi ma vedi lui non era tanto aperto diciamo di fare il nome di queste persone che lui aveva nelle mani però nell'87 ci siamo interessati per i socialisti quindi lui puntava anche questi qua e su questo punto lei sa se proprio specificamente se ci sono stati altri incontri ma sicuramente qualche altro c'è stato appunto lui ha dato ordine di votare per l'onorevole Martelli stiamo parlando del 1900 di quale anno? 87 88 quando è stato ma questo già lei l'aveva detto poco fa la mia domanda era poi lei ha risposto il fenomeno del pentitismo è ancora il tentativo di modificare il 41 bis quest'ultimo intento quando si è manifestato cioè quello di modificare il 41 bis ma lui questo qua di più io lo sentivo dire prima di arrestarlo nel 92 anche con un incontro con Provenzano che ho avuto un incontro con Provenzano in presenza di Canci Raffaele e Michelangelo Barbera io ancora facevo parte di Cosa Nostra e ci dicevo ci ho detto Zubino ma speranza ce n'è e lui mi disse siamo a buon punto stai tranquillo che il nostro pensiero è mio russuto duccio e questo qua di far annullare questa legge sui collaboratori su 41 bis nel 92 di più diciamo loro c'erano accaniti su questo nel 92 lei ha conosciuto Leo Luca Bagarella si può dirci dove può dirci l'occasione in cui è stato fatto questa conoscenza ma io l'ho conosciuto a Capace l'ho conosciuto nella casa di Gutto non c'è stato tanti tanti incontri perché lui è stato un lungo periodo in carcere qual è il ruolo rivestiva in Cosa Nostra all'epoca della strage Bagarella sì ma io quello che ho saputo lui è stato un soldato però attenzione un soldato di quelli di quelli importanti tra virgolette per Cosa Nostra che è cognato di Rina io sentivo da Rina da Ganci da qualsiasi che non aveva limite che era uno valoroso coraggioso capace di andare a sparare in qualunque posto di andare a fare qualunque cosa senza che aveva ostacoli sentivo sempre questi commenti su Bagarella anche prima di conoscerlo che io non lo conosceva prima parlavano in questo senso poco fa abbiamo parlato di Giovanni Battaglia che lei ha ricordato alcuni episodi specifici desideravo specificare se lei è a conoscenza del fatto che è un uomo d'onore Battaglia no io con tutta onestà non lo so per quanto riguarda il ruolo svolto nell'attentato lei ha già risposto circa battaglie ecco può dire se ne è a conoscenza ulteriori particolari riguardo a questo ruolo che lui ha svolto nella strage di Capaci ma io posso dire che per me lui era il padrone di casa di là di quello che io ho capito perché era lui che si muoveva diciamo di più per me era lui diciamo l'ho visto quelle volte che ci sono andato l'ho visto sempre presente là e l'ho visto che parlava con Biondino insomma che si muoveva là Battaglia conosceva i luoghi in cui si è eseguita la strage ma sicuramente sì perché Battaglia è di là è della zona è di là che rapporti intercorrevano tra Battaglia e Antonino Troia o Troia ma io di quello che ho visto là buonissime perché l'ho visto intimi che parlavano erano loro due questo Troia che è lui che si muovevano di più dentro quella casa là in questo piazzaletto che c'era là infatti Battaglia è stato quello che ha preso la tenda e l'ha messo per coprire la visuale della strada sì lei ha conosciuto Antonino Troia sì l'ho conosciuto là ma prima non lo conoscevo sa se era un uomo d'onore no nemmeno questo io né queste né Battaglia non l'ho saputo però le posso dire che erano persone intime con Biondino intimissime questo non significa niente che a volte uno che non è combinato può essere più intimo di uno che è combinato con una persona cioè io vedevo che erano intimissime con Biondino sì lei ha parlato questa mattina su mia domanda di giusto Sciaramba e ha detto che se non ricordo male abitava a Roma o comunque ha detto che ricevette l'incarico da Raffaele Ganci di osservare di seguire gli spostamenti del Dottor Falcone a Roma è così sì con quali modalità e con quali mezzi Raffaele Ganci comunicava con Sciaramba ma innanzitutto che Sciaramba è il consigliere di Ganci è il suo consigliere sì quindi per telefono lo chiamava per telefono sicuramente così perché lui mi disse oppure mi ricordo che una volta mi disse che l'ha fatto venire l'ha fatto scendere giù a Palermo e ci ha parlato di presenza per darci questo incarico preciso di vedere questi spostamenti di Falcone come girava non girava quando scendeva insomma tutte queste cose lei ha assistito a questa no io no però me l'ha riferito Ganci di Raffaele e dove avvenivano queste telefonate in quale sa dire con quale apparecchio telefonico parlava Ganci no io questo non lo so però sicuramente ho qualcuno dei suoi negozi oppure e magari lui per motivi di sicurezza citava qualche telefono con numero riservato di qualche parente insomma un telefono pulito che queste cose si guardano si sta molto attento diciamo con quale frequenza si svolgevano queste telefonate no io questo non lo so se lo chiamavo ogni otto giorni ogni tre giorni ogni giorno non lo so però Ganci mi disse che lui si stava interessando su un carico preciso di Ganci per vedere questi spostamenti e fare sapere a Ganci com'era la situazione questo mi ha detto Ganci che ruolo rivestiva in Cosa Nostra a Sharab l'ho detto prima consigliere di Ganci di Raffaele della famiglia della Noce quindi era un uomo donato di più perché era graduato lei può dire quando ha visto per l'ultima volta Sharab che so è solo 89 90 l'ho visto come nella mecelleria di Ganci in via Lancia di Brodo a Palermo lei ha conosciuto Salvatore Biondino si può spiegarci quando come dove e per quali occasioni per quali motivazioni ma io l'ho conosciuto circa una decina d'anni indietro e poi l'occasione sono state tantissime appunto perché lui era quello che gestiva eppure se il capomandamento effettivo era Pippo Gambino il mandamento di San Lorenzo per motivi di Cosa Nostra lo incontravo spesso in quell'occasione di quelle riunioni che nella Villa Serena quando c'è stata la morte di Pietro Uccello del fratello di Spera in tutta questa occasione nel cantere di Ganci e lo vedevo quindi Biondino ecco che ruolo rivestiva specificamente in Cosa Nostra Biondino quello che so io lui come carica e capo di Cina però era di più di Capo di Cina perché era la persona fidatissima di Rina di Pippo Gambino quindi era quello che coordinava tutti gli appuntamenti a Rina gli spostamenti che lui andava in giro era tutto il Biondino che faceva sapeva dove dormiva Rina io non lo sapevo e quindi partecipava alle riunioni della commissione quando aveva assunto questo ruolo Biondino ma lui diciamo è cresciuto nel tempo poi c'è stato un periodo mi ricordo che Pippo Gambino era latitante quindi lui era incensurato 8-10 anni indietro a venire qua 10 anni senta lei ha già detto di aver incontrato Biondino all'interno del cantiere di Piazza Principe di Camporeale e anche nell'appartamento di Girolamo Gundo lo ha incontrato anche altrove ma l'ho visto lo incontrava pure nel pollaio nella Casa del Sole nella macelleria di Ganci sì nella macelleria di Ganci può indicare l'epoca in cui l'ha visto 89 90 91 sì fino all'arresto più da recente dopo il 91 fino al 92 prima di arrestarlo 92 in che mese può essere più esplicito 92 prima di arrestarlo perché l'ho visto l'ultima volta nell'occasione quando ha portato l'appuntamento che c'era appunto una riunione con Rina quando l'occasione che l'hanno arrestato e l'ultima volta è stato è stato qua questo periodo l'ultima volta l'ultima volta l'ultima volta l'ultima volta commissione la commissione in cui ha partecipato ha girato per comunicare la stagia di farcone tutte queste e arce sicuramente che non mi vengono in mente momentane lei ha conosciuto l'ha mai incontrato l'ha mai incontrato nella macelleria di Raffaele Ganci qualche volta in compagnia di Biondino a quale famiglia e a quale mandamento appartiene lo sa dire? sì la famiglia di San Lorenzo e nel proseguo degli anni ha avuto modo di incontrare Salvatore Biondo in altre occasioni? ma no non spesso diciamo così senta signor Cancemi che rapporto intercorreva se ne è a conoscenza tra Salvatore Biondo e Biondino mi pare che lei ha detto di averlo visto in compagnia di Biondino se non sbaglio io quello che so io buoni rapporti ma sì buoni rapporti però è una risposta troppo generica se mi consente la mia domanda tendeva a sapere il tipo di rapporto che vi erano tra i due ma fa parte della stessa famiglia quindi Biondino rappresenta il suo capomandamento uno della stessa famiglia quindi quando dico buoni rapporti intendo questo qua lei ha mai sentito parlare Biondino di Biondo cioè preciso meglio lei ha mai sentito Biondino che parlava in caso positivo in che termine di Biondo ma non so qualche volta così diciamo che eri in compagnia con lui io lo salutava diceva che era un bravo ragazzo una persona di fiducia sua insomma sì qualche volta così ripeto non c'è stato con questo Biondo non ci incontravamo spesso invece con Biondino sì ricorda di avere notato la partecipazione di Biondo a riunione della commissione no come partecipante quindi non non è non faceva parte della commissione no ma lei l'ha mai visto in occasione di incontri della commissione io l'ho visto se noi possiamo dire incontro di commissione perché non è stato una ruota di commissione sì c'ero io c'era Canci Biondino qua nel Baglio Biondo però lui era là diciamo non è entrato là dentro diciamo è rimasto fuori l'ho visto in questa occasione lei ha conosciuto Salvatore Sveglia sì sa dire in quali circostanze di tempo e di luogo ma io l'ho conosciuto diversi anni indietro sempre tramite Raffaele Canci lo vedevo spesso nella macelleria di Canci qualche volta io ero con Canci ci andavamo che lui stava facendo una costruzione nella zona di Malaspina in questa occasione così qualche altra volta pure sa se Sveglia sia uomo d'onore a me onestamente non mi risulta però è una persona molto molto intima di Canci di Raffaele ma che rapporti intercorrevano tra Raffaele Canci e Salvatore Sveglia ma quello che io sentivo da Canci di Raffaele quello che mi diceva intimi buoni graziosi lui mi diceva che lo voleva bene a Totò una persona che aveva nel cuore però non mi ha detto mai che lui era combinato lei sa se Sveglia ha svolto un ruolo o comunque ha compiuto attività attinenti all'esecuzione della strage ma io posso dire quello che mi ha detto Raffaele Canci cosa le ha detto Raffaele Canci Raffaele Canci mi ha detto che ci ha dato l'incarico di comprare il telecomando a questo Salvatore Sveglia e questo incarico lei sa se è stato espletato sicuramente sì perché io un giorno ho visto questo telecomando nella macchina di Raffaele Canci chi glielo disse che era il telecomando procurato da Raffaele procurato dalla Sveglia lui Canci e Raffaele lei può dire se si tratta del telecomando che è stato utilizzato per la strage per l'esecuzione della strage no io non sono in condizione di non lo so non lo posso dire posso dire che io l'ho visto prima della stagge di Capaci questo telecomando nella macchina di Canci di Raffaele e lui mi disse che quello era il telecomando che aveva comprato Raffaele Salvatore Sveglia come era sistemato questo telecomando nella macchina di Raffaele Canci ma era in uno scatoletto così messo di dietro nel sedile di dietro della macchina lei sa dove abbia acquistato il telecomando Sveglia no e quanto tempo prima della strage l'abbia acquistato ma io l'ho visto prima giorni prima che sono una settimana non posso essere preciso l'ho visto giorni prima cioè giorni dell'ordine di quanto per capirci prima che so giorni prima una settimana sei giorni giorni prima della sagge sì senta signor Cancevi può dire se sveglia era conoscenza dell'uso che doveva essere fatto di questo telecomando ma sicuramente sì perché dico sicuramente sì perché con tutta onestà io non posso dire che Raffaele Cance mi disse sì ci disse a Totò sveglia che serve per la sagge Falcone e allora ecco perché dico sicuramente sì perché il rapporto con Cance erano intimissime sono intimissime quindi il suo telecomando sicuramente Cance ce l'ha detto perché cosa serviva perché lui me l'ha detto questo è il telecomando che Totò ha comprato per la sagge Falcone quindi sicuramente gliel'ha detto lei sa se sveglia appartenga a loggie massoniche ossia comunque in contatto con persone appartenenti alle stesse ma io posso dire che Cance e Raffaele anche lui aveva questi questi sospetti diciamo positivi che questo sveglia apparteneva alla massoneria perché dico questo ecco perché perché io quando non mi ricordo se è stato il terre oppure il processo dei stupefacenti io mi ricordo che parlando con Raffaele Cance perché quando uno di noi c'era un processo si cercava diciamo di poter arrivare a chi lo stava trattando si cercavano diversi canali non è che perché ce n'era una poi non si cercava più se ne cercavano diversi quindi lui mi disse dice vabbè non preoccupare ora vediamo tu vedi che io c'era il discorso di Barrile dice rivediamo perché Totò dice conosce un grosso massone un personaggio che comanda tutti i tribunali di Palermo io parlo con Totò quindi anche lui aveva questi sospetti diciamo che Totò Sveglia apparteneva alla massoneria lei ha conosciuto Raffaele Ganci da quello che abbiamo appreso dalle sue risposte è così? sì ecco può dirci quando in quali occasione e in che e dove l'ha conosciuto ma io Raffaele Ganci lo conosco di tantissimi anni dal ragazzo lo conosco poi come ho detto più volte andavamo ci vedevamo ogni giorno andavamo al macello a macellare assieme perché lui aveva le macellerie e anche io e ci andavo a casa nella stalla che lui aveva l'animale vicino alla stalla vicino alla casa quindi lo conosco come conosco le mie tasche che ruolo rivestiva in Cosa Nostra all'epoca della strage lui capomandamento della noce sa quando assunse tale ruolo e a chi subentrò sì lui dall'82 subito dopo la scomparsa di Scaglione e Salvatore come ha appreso queste notizie quale quella che Ganci subentrò a Scaglione nel 1982 io l'ho avuto presentato come come capomandamento bene lei sa dove abitava Raffaele Ganci dove? dove abitava Raffaele Ganci sì ci può dire ci può dare un'indicazione sì lui abitava nella zona di Borgo Molare a cos'è un sobborgo di Palermo in quale comune ricade questa zona? è sopra Pagliarelli qua vicino a zona Olio di Lino Borgo Molare in questa zona sotto Morreale sotto Morreale sì lei è mai entrato in questa abitazione? sì sa dire con quale frequenza è entrato in questa casa? ma spesso io ci andavo qualche volta mangiavo pure a casa sua è in grado di descrivere questo immobile? sì ecco ci vuole dire come come è strutturato? sì la casa si entra c'è un canicello automatico poi c'è un spiazzale grandissimo e c'è questa villa poi lui ha fatto qualche modifica in questa villa ci ha fatto un forno che è sopra un po' più altino dell'abitazione appena si entra c'è una cucina un soggiorno cucina poi sulla sinistra c'è un salotto poi c'è una scala che c'è la stanza da letto sopra sì senta ci sono dei rilievi fotografici che possiamo mostrare che raffigurano questa abitazione vediamo se la sai indicare signor Cancemi ecco sulla sua destra appaiono delle foto ci vuole descrivere cosa raffigurano sì questa è una delle stanze diciamo quando si entra dall'ingresso però ripeto lui proprio in quel periodo che poi io non ci sono andato più che ero latitante e lui ha fatto delle modifiche sì questa è la cucina che io parlavo la cucina soggiorno sì 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 anche questa foto fa parte della soggiorno sì 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 signor Presidente mi scusi questa foto vorrei capire il pubblico ministero ha detto le mostro delle fotografie della casa di Ganci poi gli mostra la cucina e il collaborante dice che è la cucina scusate vorrei capire se avessi detto che era il bagno lei avvocato deve mettersi d'accordo con se stesso perché quando io dico le mostro delle fotografie e basta lei vuole sapere che cosa raffigurano quando io dico quello che raffigurano lei eccepisce che io suggerisco quindi lei si mette d'accordo con se stesso intanto non sono stato io e poi vorrei capire che quello sia un salone o che quella che è una cucina io mi sono limitato sicuramente si è trattato di un lapsus o di una parola dal sé sfuggita ma sicuramente la domanda è stata posta in modo suggestivo perché dire le mostro le foto che ritraggono la casa di Ganci o di chi per lui equivale io intendevo dire rende superfluo la ricognizione ma non è una ricognizione mi rendo conto che è sfuggita ma comunque il dato fattuale è questo il dato fattuale è questo scusate grazie che sia un lapsus sementis più che lingue prego poi me lo spiegherà la differenza io mi sono limitato semplicemente a dire qual era il tema dell'atto che stiamo facendo poi non è una ricognizione chiaramente è semplicemente comunque ecco questa foto ecco questa foto cosa rappresenta? sì questo è il salone dell'abitazione di Ganci e poi scusi vorrei anche completare la mia osservazione dicendo che avevo chiamato il signor Cancemi a descrivere la casa di Ganci successivamente avevo indicato che sarebbero state raffigurate delle fotografie quindi era assolutamente pacifico che avremmo proiettato le fotografie che raffiguravano la casa di Ganci il motivo di questo atto non è quello della ricognizione ma è semplicemente un altro evidente a tutti quindi io non ho suggerito nulla è più che corretto questo modo di procedere in dibattimento mi perdoni ma io non ho capito qual è questa cosa evidente a tutti ecco mi spiace per lei direi che è inutile continuare il presidente credo che abbia dato atto che in effetti la domanda è stata formulata in modo suggestivo punto e basta ormai quello che è successo è successo no presidente punto e basta no perché credo che la conseguenza sia e va bene la conseguenza le domande inerenti alle fotografie quelle già fatte quelle che il PM si propone di fare non sono utilizzabili quindi non credo che si possa procedere nell'esibizione delle fotografie questa per me è il vero punto e basta in questo senso ma voglio dire è inutile continuare a polarizzare io ho dato atto che effettivamente non avrebbe dovuto dire le mostro la casa di Gangi ma le mostro una casa mi dica se la riconosce e noi cambiamo argomento e non mostriamo più fotografie abbiamo registrato la sua richiesta di inutilizzabilità la corte valuterà e si riserva se la riconosce si 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 la riconosce scusami la suggestione no allora signor Gancemi cosa rappresenta questa foto che vi viene mostrata si questa è l'abitazione l'ingresso dell'abitazione di Gance lei qui si è mai recato si 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 è recato diverse volte tantissime volte lei Raffaele Gangi lo conosce da quanto tempo ha detto come? da quanto tempo lo conosce Raffaele Gangi dal ragazzo questa foto cosa ritrai? sì questa è sempre là è tutta l'abitazione diciamo la davanti perché lui proprio in quel periodo ha fatto delle modifiche ha fatto un forno un pochettino più sopra l'abitazione un po' ce lo vuole scrivere questo forno sì e poi va accanto diciamo entrando sulla destra c'è una scala di ferro che porta sopra questo dove ha fatto questo forno che ripeto accanto alla casa un forno a legne senta noi dimostriamo una foto ci vuole dire con riferimento a questa no quella con riferimento a questa foto lei sa dirci dove si trova dove è posizionato questo forno dunque allora entrando di questo cancello si attraversa un spiazzale grande che ci sono degli alberi di Parma poi girando un pochettino sulla sinistra c'è l'ingresso della casa accanto a destra accanto alla casa c'è una scalina di ferro ripeto quando ultimamente ci andavo io poi lui ha fatto delle modifiche questa scalina di ferro che porta un pochettino su sopra il giardino e qua sopra ha fatto questo forno a legno un forno senta noi ora le mostriamo le mostriamo un filmato e le chiediamo di dirci che cosa rappresenta che cosa ritrae in sostanza ecco ci vuole dire cosa appare sullo schermo si questa è la villa dove si fermi così questa è la villa dove abita Canci perché non ci abita lui solo ecco chi abita ci abita anche una sua cognata come si chiama Anselmo si chiama Spina e che era sposata con Anselmo quindi non ci abita lui solo credo che ci abita anche suo figlio Mimmo sì quello è il portone quella è la stradina quello è il cancello e là si entra sulla destra c'è l'entrata di ganci e un pochettino ancora sulla destra c'è il forno un pochettino più sopra ecco ci vuole dare un riferimento a dove si trova questo forno sì così ancora se andiamo un pochettino sulla sinistra ecco ecco non ne ha c'è poco ecco quello là quello là dove? quello accanto alla casa quello ci sono i canali rossacci vedi? sì va bene senta lei ha detto sì che Raffaele Gangi investiva il ruolo di capomandamento della noce lei ricorda di aver notato sue partecipazioni a riunioni della commissione provinciale ganci sì sì io la vuole indicare brevemente queste riunioni cui ha partecipato io la prima volta l'ho visto nell'83 in quella di San Giuseppe Iato poi nel tempo l'ho visto in quella della della riunione della morte di Aucello di Fratello di Spera quella di Lima e tutte queste qua lei ha fatto menzione di riunioni svoltesi in località San Lorenzo presso il Baglio Biondo vuole specificare nei pressi di cosa si trova questo Baglio Biondo dove si trova? sì nei pressi di quale località di quale zona vuole essere più preciso in sostanza sì si trova nella nella via regione siciliana prima un po' prima del Siglos a San Lorenzo c'è il Siglos un pochettino prima c'è una stradina stretta sulla destra andando verso Sperracavallo diciamo andando verso là e qua Senta lei ha conosciuto Domenico e Calogero Gangi sì ecco lei sa quale ruolo rivestivano in cosa nostra? ma come gradi soldati tutte e due perché la famiglia è composta da Raffaele Gangi di capomandamento Paolo Anselme sotto capo e il consigliere Sciarabba Ino quindi loro due erano soldati Senta lei ha conosciuto Giacomo Giuseppe Gambino sì quando come dove per quale motivo ma io lo conosco da una vita addirittura quando lui aveva un camioncino che trasportava gli animali al macello quindi quando lui mi portava questi animali a me quando io li dovevo a macellare lo conosco da più di 25 anni Quale ruolo rivestiva in cosa nostra all'epoca della strage? Lui dall'82 e capomandamento di San Lorenzo Sa dire quando assunse tali ruolo l'82 ha detto no? Sì Sempre di Giacomo Giuseppe Gambino Sì E a chi subentrò? A Saro Riccobono Senta All'epoca della strage Sa se fosse libero o se fosse detenuto Cioè qual'era la posizione del Gambino all'epoca della strage la ricorda? Ma io perché lui in questo periodo aveva gli arresti domiciliari poi c'è stato che l'hanno messo in carcere ma se non faccio confusione mi sembra che era in carcere Senta O quantomeno gli arresti domiciliari Lei ha detto che era o meglio da chi era sostituito? Lui Sì Ma lui come diciamo sostituto sotto capo come effettivo è Giuseppe Buff Buffa però Giuseppe Buffa era un pochettino considerato non nel cuore di Rina quindi quello che lo sostituiva in tutti gli effetti era Biondino Salvatore Senta Quali rapporti intercorrevano tra il capomandamento e il sostituto? Biondino e Sì in particolare tra Gambino e tra Biondino e poi in generale tra il capomandamento che era detenuto comunque impedito e il sostituto Sì in quel caso ottime e buonissime diciamo con Pippo Gambino appunto che era Biondino che girava per creare le appuntamente per Rina gli spostamenti che lo portava in giro a Rina Biondino erano ottimi e buonissimi i rapporti Senta con riferimento alla partecipazione alla commissione provinciale e quindi alle decisioni che in seno alla stessa si dovevano adottare il capomandamento sebbene impedito riusciva a manifestare la propria volontà c'era qualcuno che lo rappresentava in commissione? Sì in commissione ci andava il sostituto ma c'erano delle situazioni per dire che Rina appunto come ho detto prima diceva per i caccerati appunto il capomandamento ci penso io comunicava lui diciamo aveva lui il canale per comunicare con i detenuti ecco la responsabilità delle decisioni quindi con riferimento a ciascun mandamento su chi ricadeva quando il capomandamento era impedito a partecipare cioè ricadeva sia sul capomandamento che sul sostituto oppure su uno solo di loro ma la porri formulato perché non mi è chiara il pubblico ministro allora senta lei sa se con riferimento specifico alla strage di Capaci Gambino fosse stato informato del proposito omicida e se avesse aderito a questa decisione ma guardi io le posso dire questo che Rina più volte diceva tantissime volte per i caccerati ci penso io a farglielo sapere a comunicare ci penso io me la sbrigo io usavo i suoi canali però se lei mi fa questa domanda così Pippo Gambino è nel cuore di Rina quindi il pupillo di Rina il numero uno di Rina è Pippo Gambino come mai si è venuto a creare questo tipo di rapporti privilegiati tra Gambino e Rina eh vabbè la storia dobbiamo andare un pochettino indietro nei tempi diciamo prima ancora di prendere il comando Rina c'era una storia che Pippo Gambino era aveva conciasti con Sarorricobono con Badalamenti con tutte queste quindi Rina le porte per entrare a Palermo ce l'ha aperto proprio a Pippo Gambino i Madonie quindi così diciamo la cosa si è andata coscendo piano piano diciamo è arrivato al punto che Gambino era il numero uno per Rina in sostanza vuole dire una fiducia che c'era una fiducia che Gambino si è conquistato nel corso del tempo si sicuramente dando prove di fedeltà si senta lei ha detto che diciamo Gambino era il capo mandamento di San Lorenzo sin dall'82 vuole dirci quando dove come ha preso questa notizia ma questo io nel tempo dopo che hanno formato questi mandamenti che Rina nei vari mandamenti ci ha messo tutte persone sue di fiducia poi nel tempo io l'ho saputo tutti diciamo che in cosa nostra poi si sa il mandamento che Pippo Gambino a San Lorenzo alla noce che i ganci insomma è una cosa automatica diciamo che si sa senta quali rapporti intercorrevano tra Gambino e Bernardo Provenzano buoni ottime perché stiamo parlando di di Colleone diciamo quindi il discorso vale quello che ho fatto per Rina forse un punto in più con Rina ma buonissimi e che rapporti c'erano tra Gambino e Raffaele Gangi ma Raffaele Gangi e Gambino sono cognati Raffaele Gangi ha sposato una sorella di Gambino quindi sono ottime senta lei ha detto di aver incontrato Pietro Ranculla in occasione delle riunioni a cui ha partecipato ci vuole dire se ha avuto modo di vederlo anche in altre occasioni oltre che in quelle di cui già ha parlato io onestamente non ho nessun ricordo non mi ricordo ma i ricordi che io ho sono quelli che ho parlato che l'ho visto a Capace momentaneamente non mi ricordo allora senta quando è che lei ha preso il nome e il cognome di Pietro Ranculla ma io lo chiamavo uno grosso poi mi hanno dimostrato un album fotografico e l'ho riconosciuto in fotografia e senta quale ruolo ha svolto Pietro Ranculla nella strage ma io l'ho sentito da Ganci che era un esperto di di preparare l'esplosivo cose diciamo però io non ci avevo confidenza non ci parlavo là ma Ganci mi ha detto che era uno che doveva preparare l'esplosivo là senta sa dire chi si era incaricato di rintracciarlo per partecipare alla strage per svolgere questa funzione nell'attentato a questo Ranculla si no io l'ho visto là arrivare in compagnia con Brusca Giovanni con Bagarella con quelli nomi che ho fatto prima senta lei sa se qualcuno degli appartenenti al comando operativo si sia attivato per prendere contatti con Pietro Rampulla appunto in vista della preparazione della strage c'è posizione ha detto che non sapeva chi l'avesse contattato sa dire chi lo abbia contattato questo è stato per la verità pubblico ministero allora senta signor Cancemi noi contestiamo quello che lei ha detto nel corso del verbale del 4 novembre 1993 a pagina 20 ecco lei quel verbale ha detto il terzo particolare che intendo precisare è che l'uomo che ho indicato in fotografia e che sentii chiamare con il nome di Pietro era effettivamente l'artificiere ciò mi fu detto dallo stesso Brusca nella villetta lo stesso Brusca mi disse che era stato lui ad incaricare ricorda di aver avuto riferito a questa circostanza ma io mi sembra di avere detto che Cancemi disse che era quello che questo voglio dire che era quello che per preparare l'esplosivo per preparare il da fare questo qua voglio dire magari là mi sono espresso così e qua mi esprimo così cioè ma lei lei ha detto in quel verbale che sarebbe stata proprio Brusca Brusca a dirle che lui stesso si era incaricato beh sì sicuramente se l'ho detto così è così se l'ho detto vuol dire che ora momentaneamente non mi sono ricordato è così lei ricorda quando Brusca le disse questa cosa in che circostanze ma sicuramente quando lui mi disse che era che aveva era lui che era stato lui a premere il telecomando in quella circostanza senta quando dove per quale motivo lei ha conosciuto Gioacchino La Barbera non ho capito la domanda quando ha conosciuto Gioacchino La Barbera in occasione della billetta di Capace lei sa se sia uomo d'onore sì sa dire di quale famiglia appartenga lui appartiene alla famiglia di di Artofonte come dove e quando lo ha preso ma io l'ho appreso la diciamo in quell'occasione perché io non lo conoscevo quella è stata la prima volta che io l'ho visto senta quando dove e come ha conosciuto Giovan Battista Ferrante ma Ferrante io l'ho conosciuto prima di quell'occasione perché come ho detto prima qualche volta l'ho visto presidente c'è opposizione ha detto che dove quando e come ha conosciuto Giovan Battista Ferrante finora il signor Cancemi non ha detto di aver conosciuto il signor Giovanni Battista Ferrante lo ha nominato ha detto di un tale che si chiama Giovanni Ferrante mi pare che sì che non aveva già citato il Ferrante con riferimento alle persone presenti nella casa non ha detto che si trattava di Giovanni Battista Ferrante io non ricordo se disse Giovanni o Giovanni Battista una volta lo chiamò Ferrante una volta l'ha chiamato Giovanni Ferrante non mi pare che sia la stessa cosa e allora invitiamolo a precisare chi è il Ferrante di cui aveva in precedenza parlato sia quantomeno viziata la suggestiva sì sì ma a questo punto non c'è una domanda che non è suggestiva avvocato secondo non è che è colpa mia la sua interpretazione della questione sono chiarissimi il Ferrante che lei aveva nominato stamattina con riferimento a quella persona che aveva visto in quella casa lei lo conosce con quali nome e cognome sì io lo conosco come Giovanni Ferrante ora il pubblico ministero sta chiedendo di tale Ferrante e Giovanni Battista è la stessa persona sì 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 la stessa persona dico la stessa persona perché è quello che ho visto io là è quello che io vedevo qualche volta in compagnia di Biondino Salvatore stiamo parlando se ha due nomi io non lo so si chiamava Giovanni Ferrante lo dice lei ha detto che c'è coincidenza in sostanza tra queste due persone allora vuole rispondere adesso alla domanda comunque gradirei che il pubblico ministero quando deve chiedere notizie su singoli soggetti formulasse la domanda preliminarmente in questi termini lei conosce Tizio? sì signor Presidente ecco per evitare noi prendiamo atto di questo giusto rilievo che potrebbe esserci una parziale suggestività sì signor Presidente noi prendiamo anche se mi prendo conto che a volte è difficile formularne in termini diversi noi prendiamo atto del giusto rilievo che lei ci ha mosso tuttavia ci permettiamo anche di evidenziare che talvolta magari certe domande per brevità vengono fatte diremmo così saltando qualche passaggio logico la cui diremmo così che sicuramente non va ad incidere la conoscenza di una persona anche perché già di questa persona se ne è parlato è emersa è emersa la notizia della conoscenza della persona e sicuramente in termini di responsabilità il fatto di aggiungere un secondo nome nel caso specifico non incide su un'eventuale pronuncia comunque quando c'è una difformità di nome di battesimo potrebbe avere anche rilevanza sì ma chiedere ma se non conosce gli atti perché ha avuto la possibilità di esaminarli sa che nel caso di specie non si presentano dubbi sull'identità del soggetto la corte non lo sa dice lei quindi presidente poi si avrà modo di notare il pubblico ministero credo che avrà sicuramente poi si avrà modo di notare che per quasi tutti quelli che ha nominato o per i quali il PM ha chiesto delle notizie quasi per tutti ha chiesto indicando solo il cognome vedi caso questo è quel tale Ferrante che non era stato indicato fra le persone che con certezza avrebbero operato nella strage e che il PM poi ha indicato come Ferrante cioè Ferrante c'era pure vedi caso ci sono delle coincidenze su Ferrante che lasciano veramente che ci preoccupano e che segnaliamo all'attenzione della corte perché al momento giusto se ne tenga conto grazie non è una dura coincidenza signor Cancemi certe cose accadono su Ferrante allora signor Cancemi sappiamo anche il perché signor Cancemi lei vorrei dirci quando ha conosciuto dove e come Ferrante ma io ma Giovanni Ferrante l'ho conosciuto prima ancora di quell'occasione nella villetta qualche volta lo vedevo in compagnia di Salvatore Biondino qualche volta l'ho visto anche nella macelleria di Cance sempre in compagnia di Biondino e poi l'ho visto in quella quando quando ha visto Ferrante con Biondino nelle occasioni di cui ha fatto menzione 90 91 89 in questo periodo sa quale lavoro rivestisse in Cosa Nostra si lui è soldato della famiglia di San Lorenzo della famiglia di Biondino lei è mai stato presentato come uomo d'onore da Biondino lei sa dire quali rapporti intercorrevano tra Ferrante e Biondino buone fanno parte nella stessa famiglia lei ha conosciuto Bernardo Brusca si quando dove come e per quale motivo io l'ho conosciuto nell'83 proprio in quell'occasione di quella riunione a San Giuseppiato nella tenuta sua di Brusca quale ruolo rivestiva in Cosa Nostra all'epoca della strage ma lui sempre di quella data dell'82 83 lui era il capomandamento di San Giuseppiato quindi in quella data che dice lei già lui da un pezzo era il capomandamento come ha appreso perché anche all'epoca della strage era il capomandamento ma nel tempo l'ho saputo come come dire una cosa comune così diciamo che lui era il capomandamento compare di Todorriina senza vuole dirci a chi è subentrato come capomandamento Bernardo Brusca ma io ho sentito che prima era il capomandamento era Salamone Antonino Salamone a San Giuseppiato e dopo era è stato lui Bernardo Brusca se ne vuole specificare meglio quali rapporti intercorrevano tra Bernardo Brusca e Salvatore Lina ma i rapporti San Giuseppe per Lina era la roccia suo compare era come dire come Pippo Gambino così per fare un esempio San Giuseppe era la fortezza di Rinina di Bernardo Provenzano rapporti intimi e vedi in questo momento mi sta venendo in mente e lo devo dire è che anzi io vorrei che Brusca Bernardo fosse qua non lo so se è qua presente e allora le dico una cosa le dico una cosa che suo compare Totorrina nel 91 ha dato ordine in mia presenza e in presenza di Salvatore Biondino e Ganci Raffaele di ammazzare suo figlio Giovanni assieme a Salvuccio Madonia Salvatore Madonia figlio di Francesco perché lui diceva che erano due puletre senza capezza queste due che sapeva tramite i suoi informazioni che andavano a Mazzara del Vallo nel Trapanese e lui non ci stava bene questo e ci disse a Salvatore Biondino Totuccio Salvatore lo chiama Salvatore mandala a chiamare e affughi a tutte e due a queste due cavalline grazie grazie in questa occasione a Salvatore Biondino grazie lo devono dire loro e ci disse Sototo ci dobbiamo dare il suo dispiacere dei suoi compare perché sono tutti e due compare Bernardo Brusca e Francesco Madonia sono tutti e due compare di Salvatore e Reina ci fa una strigliata dice poi dice eventualmente non la vogliono sentire poese fa e Reina ha accolto quello che ci ha detto Salvatore Biondino quindi io desideravo che c'era pure Francesco Madonia qua per valutare Chietto Torriina loro lo devono valutare li voleva ammazzare lei era presente presente io Ganci Raffaele e Salvatore Biondino ma quando è che le ha detto questa cosa quando è che ha sentito questa cosa nel 91 è stato così posso sbagliare qualche mese nel 91 e loro possono trovare il riscontro quello che dico io loro i due Salvuccio Madonia e Giovanni Brusca perché in questo periodo andavano a Mazzara del Vallo nel Ciavanese a lui non ci stava bene lui soffriva della presenza di queste due a Mazzara del Vallo e quindi per questo motivo li voleva strangolare aveva dato ordine a Salvatore Biondino mandala a chiamare e le strangola tutte e due il Biondino ripeto ancora ci ha detto Sototuccio ci dobbiamo dare il suo dispiacere dei suoi compadri io mi annacchiamo e ci fanno assigliata se non lo vogliono sentire poi poi lo facciamo quindi sono vivi per Salvatore Biondino questi due cioè Uzzobernardo io mi sta facendo piacere che qua presente sente queste cose così valuta chi è il suo compadre Salvatore Reina favore questi commenti sono del tutto fuori luogo e non è la prima volta che accade al corso della mattinata prego di voler adottare se si ripetono gli opportuni provvedimenti per fare in modo che non ci siano più queste interruzioni allora allora all'epoca della strage sa se fosse detenuto Bernardo Brusca sì da chi era sostituito suo figlio Giovanni lei ha conosciuto Giovanni Brusca sì vorrei dirci quando come dove per quale motivo ma i motivi sono quelli di Cosa Nostra e da un diversi anni indietro in diverse occasioni nella nella casa del sole la casa nel pollaio dietro la villa serena sempre questi qua erano nella mecelleria di cance qualche volta senta sa se Bernardo Brusca fosse stato portato a conoscenza dell'attentato da compiere nei confronti del dottor Falcone guardi io devo ripetere le stesse cose io lo posso dire con assoluta certezza che lui diceva per i cacciarati ci penso io me la sbrigo io io lo faccio sapere io erano questi i discorsi che faceva quindi lo dirò sempre erano questi i discorsi che lui faceva senta lei ricorda di aver notato la partecipazione di Giovanni Brusca a riunioni della commissione sì lui quando c'è stato la riunione della morte di fratello di Spera quella della morte di Auccello era pure presente senta lei ha detto che ha partecipato a quali riunioni lo vuole puntualizzare meglio non ho capito lei ha detto di avervi veduto Giovanni Brusca a partecipare a delle riunioni di commissione sì nella riunione quando c'è stata la morte di Petra Ucello che Rina voleva sapere come era successo sì ecco dove è avvenuta questa riunione dietro la villa la villa la casa del sole nel pollaio lo chiamavo così per capirci perché abbiamo dato questo nome dove si trova questa casa a passo di rigono dietro la casa del sole e sa chi avesse la disponibilità di questa casa del sole Michelangelo la berbera senta lei ha conosciuto Giuseppe Calò sì era il mio capo mandamento il mandamento si chiama Portanova sa dire quando assunse tale ruolo chi Giuseppe Calò io quando sono entrato a fare parte di nella famiglia di Portanova lui già era capo mandamento senta che rapporti intercorrevano tra Giuseppe Calò e Salvatore Rina ma è quello che ho saputo io buoni e quali rapporti intercorrevano tra lei e Calò nella gestione del mandamento buone buone perché poi lui l'hanno arrestato buone ma diciamo lui veniva portato a conoscenza in genere di quanto accadeva in seno al mandamento le cose diciamo così comune me la sbrigava io le cose come ho detto prima era Rina che diceva caccerate ci penso io me la sbrigo io io lo faccio sapere io questo era il da fare era questo qua così lei ha informato il suo capo mandamento Giuseppe Calò della decisione che era stata comunicata da Salvatore Biondino no sa se comunque Giuseppe Calò sia stato portato a conoscenza della strage di quello che ha detto Rina sì perché Rina diceva caccerate io lo faccio sapere io ci penso io ma lo diceva più volte più volte senta in termini generali ci vuole dire quali erano i tramiti quali erano gli anelli di collegamento tra i capi mandamento detenuti e il mondo esterno di Cosa Nostra ovviamente Presidente in termini generali non li possiamo controllare ci deve dire le cose che sa ovviamente questa è una domanda che è fondamentale per capire qual è diremo così il tipo di rapporti e conseguentemente di responsabilità che sono all'interno di Cosa Nostra e d'altro canto qui siamo di fronte a un passaggio fondamentale per la responsabilità della Commissione quindi diventa estremamente importante capire i meccanismi di comunicazione così compresi collaboratori signor Presidente per un verso egli ha risposto per quanto riguardava Caloggiuseppe perché la domanda c'era stata specifica esatto perché dice veniva portato a conoscenza genericamente delle cose del mandamento e gli ha detto delle cose comuni mi occupavo io qual è la sua opposizione l'opposizione è precisa ma credo che la domanda del pubblico ministero non riguardasse specificatamente la posizione di Caloggi ma in genere quali fossero i canali di collegamento tra il capo mandamento detenuto e il resto dell'organizzazione e io chiedevo che se questa domanda non riguardava Caloggi venisse fatta in termini specifici perché in termini generali non vuol dire nulla ma in termini generali bisogna intendersi cosa si intende per termini generali giusto ma perché si attribuisce a Tizio che nel caso di specie è quello che mi interessa perché potrebbe dire il collegamento era telefonico è generale ma cosa vuole sapere di altro il meraviglio di questa opposizione è una domanda che abbiamo fatto decine di volte mi consente signor Presidente io ho interesse ad oppormi perché difendo Caloggiuseppe ma io forse non ho quel senso della sua opposizione se me lo vuole chiarire il senso della mia opposizione è preciso per poter attribuire responsabilità a chiunque occorre avere dei fatti specifici se il termine generale deve servire per poi poter estendere questo è un argomento di responsabilità questa è una valutazione giuridica che il giusto il ministero non pretende di fare in questa sede nella può fare lei non avevo ultimato il problema mio era questo non si possono fare domande generiche perché dalle domande generiche si possono avere risposte generiche e quindi mi consente credo che sia questo o almeno questo vuole essere il senso della mia opposizione le domande devono essere specifiche per poterci dare modo di controllare se le domande sono troppo specifiche sono suggestive quali erano le modalità di collegamento non può che essere in termini generici nel senso che ci preciserà quali erano normalmente i canali poi per ciascun imputato se il pubblico ministero lei o chiunque altro vorrà chiedere qualcosa di più specifico e altrettanto legittimo sul piano generico si fissa un principio potrebbe questo in carenza di diversa prova significare un principio generale per tutti io non lo farai mai ma non un principio è un principio giuridico con un dato con un dato fattuale ma come lo controllo stiamo cercando di scandagliare in grado generico come lo controllo io come difensore avvocato anche nel controlesamento pubblico ministero le dispiace che formo la domanda e che spero di averla capita bene era quella che io ho detto quali erano i canali di collegazione avverso quali canali tra capo mandamento e l'ambiente esterno di cosa no tra l'altro si tratta di una domanda apposta già stavano le seconde e con le precedenti di questa domanda solo è una domanda una domanda signor Cangene prego sì io quello che so scusi lei è in grado di riferire specificatamente per Tizio o per Caio quali erano i canali lo dica evidente sì io quello che so c'è qualche avvocato che fa parte di Cosa Nostra in tutti gli effetti questo è uno dei canali i familiari qualche familiare che è combinato che fa parte di Cosa Nostra che va a fare i colloqui e i detenuti questo è un altro canale ci sono quelle diciamo di Rina che sono molti riservati che secondo me sono a livello più alto diciamo e questo è un altro canale quindi ce ne sono diverse diciamo di potere comunale signor Cancemi lei ha fatto riferimento anche agli avvocati sa riferire casi specifici in proposito non ho capito bene lei ha detto che le comunicazioni venivano mantenute anche tramite avvocati sì lei ha conoscenza di episodi specifici sul punto sì io vi posso dire che l'avvocato Zarcone che appartiene alla famiglia della Guadagna questo ha avuto l'incarico di quando c'è stato il tentato omicidi a Berti di entrare la seringa di entrare diciamo in medicinale per uccidere a gelanda Berti questo l'ha fatto l'avvocato Zarcone poi c'è l'avvocato Caracani che fa parte pure di Cosa Nostra questi questi avvocati altri ma poi ci sono quelli diciamo che non anche che non fanno parte però sono molto vicino che li possono anche usare lei ha avuto dirette esperienze sul punto sì come dirette diciamo perché cose che ho vissuto anche io direttamente riferisca di queste per esempio quella l'ho sentito direttamente quella di Gellanda Berti da Carlo Giuseppe che poi è stato Caracani che si è interessato a entrare queste cose nel caccio del Lucerdone questo in che periodo grosso modo ma io sono 82 83 senta allora abbiamo visto quali sono i canali che normalmente vengono utilizzati per questo tipo di comunicazioni lei sa dire specificatamente Salvatore Rina di quali tramiti si servisse per curare queste comunicazioni guardi io se lo saprei sicuramente già l'avrei detto però sicuramente saranno più alti di quelle che ho detto io perché lui mai si è aperto diciamo le persone che usava per comunicare mai ma sicuramente saranno più importanti di quelle che ho detto io senta lei con riferimento al ruolo di Salvatore Rina all'epoca della strage lei ha detto già che era capomandamento di Corleone lei sa dire quando assunse tale ruolo e a chi è subentrato Irina ma Irina era lui assieme a Bernardo Provenzano capomandamento dobbiamo andare dopo diciamo all'arresto di Luciano Liggio diciamo sono state loro che hanno preso il comando di Corleone che so 72 73 io ancora non facevo parte di Cosa Nostra però queste cose le ho sapute nel tempo senta mi ricorda di aver notato la sua partecipazione alle riunioni della commissione da parte da chi da parte di Irina lui sempre presente ma lui era il capo c'è stato un periodo che era c'è stato Michele Greco che era il capo ma era una figura così diciamo che lo giostrava lui coperrino Salvatore questo Michele Greco era lui lui era il capo quindi mancava lui come si formava la commissione senta lei ha conosciuto Pietro Aglieri si sa se fosse conosciuto con uno pseudonimo come? sa se avesse un soprannome si un signorino in quali circostanze lo ha conosciuto Pietro Aglieri? ma lo conosco da una decina d'anni a venire qua lui è diventato capomandamento circa l'86 così perché prima qua c'era dopo la morte di Stefano Bontade c'era la reggenza che il reggente era Pullarà Ignazio Pullarà Giovanni il fratello è uno dei Bontade Nino Bontade questa era la reggenza dopo per volere di di Provenzano in particolare di Rina ci hanno fatto il mandamento a Pellarà Ignazio e Carlo Greco come cariche sotto capo però avevano la stessa la stessa carica diciamo di capomandamento vuole spiegare meglio questo concetto cosa vuol dire ma l'ho spiegato prima lo spiego ancora che il capomandamento era per ieri però questo Carlo Greco siccome erano a pari meriti del bene di Rina quindi uno come qualifica era il capomandamento e quello sotto capo ma erano tutte e due che facevano tutto che giostravano che fanno attuale sa se partecipassero entrambi alle riunioni di commissione si io l'ho visto come in diverse occasioni come quella del fratello di Petro di Benedetto Spera quella di Petra Ucello e qualche altro si interessa dire per volontà di chi assunse il ruolo di capomandamento Pietro Aglieri io l'ho detto un attimino prima di più quello che ho saputo io anche da Ganchi e Raffaele è stato il volere di Provenzano perché ho sentito pure che c'è qualcosa di parentela fra il Provenzano e Petra Aglieri non vi so dire come ma c'è qualcosa di parentela senta quando dove come ha preso questa queste notizie ma subito dopo che ci hanno fatto il mandamento nell'86 subito dopo gli ho disse qualcuno in particolare ma Totorrina le vedevo là presenti in commissione Petra Aglieri Ganchi e Raffaele Biondino Salvatore tutti senta vuole indicare le riunioni di commissione in cui ha visto presente Petra Aglieri e questi questi qua mi ricordo benissimo questi del fratello di Petra Ucello del di Petro del fratello di Spera Benedetto quelli di Petra Ucello in questi qua l'ho visto tutti e due presenti in che periodo siamo in che epoca ci troviamo grosso modo 91 così in grosso modo senta lei sa dire se Petra Aglieri condividesse le strategie di Salvatore Rina e Bernardo Provenzano guardi assolutamente dopo la morte di Stefano Bontate di Salvatore in Serillo e tutto il gruppo questi qua non veniva concesso un mandamento se non erano persone di Rina quindi i Petra Aglieri con Carlo Greco quelle non erano persone di Bernardo Provenzano e di Rina Salvatore senta lei ha avuto modo di vedere Pietro Aglieri all'interno delle cantiere di Piazza Principe di Campo Reale sì mi ricordo che qualche volta l'ho visto che eri in compagnia di Carlo Greco lei ha visto se in una di queste occasioni che vi fosse anche Raffaele Gangi sicuramente sì perché andavano a trovare a lui non è che andavano così per farsi una passeggiata senta lei ricorda quando ha visto Pietro Aglieri all'interno del cantiere può essere più preciso che sono 91 un po' più avanti del 91 così 92 sì e in epoca più vicina alla strage lei ricorda di averlo visto Pietro Aglieri sì prima sì a che distanza dal giorno della strage che so mi ricordo prima due tre mesi un mese prima così senta sa dire per quale motivo Pietro Aglieri si trovasse in quel luogo cioè all'interno del cantiere ma sicuramente con assoluta certezza per motivi di cosa nostra per copia per rapporti di cosa nostra con Raffaele Ganci lei riflette solo nelle pause senta lei ha conosciuto Antonino Geraci Antonino il Nenè sì Nenè Geraci sì e quando dove e come sì io la prima volta che l'ho conosciuto è stato nell'83 in quella riunione di San Giuseppeato e poi 90-91 90-91 l'ho visto in un'altra occasione dietro la casa del sole nel pollaio pure in questa in questa occasione senta quale ruolo rivestiva in cosa nostra all'epoca della strage lui capomandamento di Partenico sa dire quando assunse tale ruolo e a chi subentrò guardi io in quella occasione dell'83 già lui era capomandamento di Partenico però onestamente chi c'era prima non lo so senta e come l'ha appreso che Giaraci era il capomandamento di Partenico ma da Totorriina da Cancio Raffaele da Pippo Galò da tutti senta lei sa se all'epoca della strage esistesse un mandamento denominato di Cinisi sì io sapevo che qua c'era come capomandamento un certo Procopio di Maggio ma esisteva anche all'epoca la strage o no? sì credo di sì perché qua c'è stato un po' di movimento nel senso che a questo ci hanno sparato poi per un periodo si è messo un po' da parte poi è ritenciato di nuovo lui insomma c'è stato un po' di movimento su questo senso vogliamo fare una pausa di qualche minuto allora facciamo una breve pausa magari di dieci minuti alle sei riprendiamo Presidente scusi prima che cominci il PM c'è la mia richiesta che si è dichiarato inutilizzabile la dichiarazione del Cangemi nel momento in cui il PM lo indica come ferrante Giovanni Battista questa è una richiesta della chiesa ma l'avevamo già registrata la sua posizione no no la richiesta la sto formulando la sto formulando l'aveva già detto e quindi era stata registrata era forse implicito però è meglio essere esplicito per quale motivo questa dichiarazione ma l'aveva già spiegata dopo la riflessione che abbiamo fatto no se la vuole sintetizzare nuovamente Avvocato Bonsignor la vuole esplicitare meglio questa opposizione le ragioni di questa opposizione si dette basterebbe leggere la richiesta in quella parte lei stesso riconosce che la domanda è semisuggestiva io non so come si fa a stabilire se è suggestiva a metà o per intero quindi io mi richiamo alla sua affermazione secondo al riconoscimento esplicito da parte sua che la domanda era semisuggestiva io non la ritengo semi la ritengo interamente suggestiva per questi motivi non c'è nessuna suggestività rafforzati dalla tua affermazione richiedo che non sia utilizzata la dichiarazione del tangere grazie e invece è ovvio che non c'è nessuna suggestività perché si è trattato di una domanda e le domande che sono state rivolte con riferimento a Ferrante attenevano a un nome di battesimo quello ufficiale peraltro che risulta dagli altri e quindi non c'è nessuna suggestività perché è una domanda né per la goccia identica a quella fatta per altri coimputati signor Cancemi all'epoca della strage per cui è processo chi si occupava del territorio di Cinisi? Procopio di Maggio grazie a tutti Grazie. Allora, lei ha conosciuto Giuseppe Lucchese? Sì. Quando, come, dove e per quale motivo? Ma il motivo è sempre quello di Cosa Nostra. L'ho conosciuto circa una decina d'anni fa. Lui c'è stato un periodo che gestiva il mandamento di Sciaculle, fino all'arresto. Senta. Durante la sua detenzione da chi è stato sostituito? Dopo l'arresto di Lucchese, i fratelli Graviano. E vuole dire in particolare chi dei fratelli Graviano assunse questo ruolo? In particolare all'inizio, io dico quello che ci ho sentito dire a Rina, era il fratello Benedetto. Poi ci sembrava un pochettino stonato, un pochettino, diciamo, non sveglio. E quindi ci ha messo, diciamo, anche a Giuseppe e Filippo. Senta. Quindi sostanzialmente Benedetto è stato messo in disparte? No, no, non è che è stato messo in disparte. Lui, diciamo, ha rafforzato la cosa, ci ha messo accanto i suoi fratelli, gli riteneva più svegli, più abile, diciamo, alla situazione. Senta. Lei sa se, con riferimento a questo ruolo assunto dal Graviano, vi sia stato un cambiamento nel nome del mandamento di Ciaculli? Sì, io posso dire che Rina più volte diceva che a Ciaculli ci doveva portare un trattore e lo doveva portare a suolo. Lui diceva che i mali di Cosa Nostra partivano in buona parte da Ciaculli, quindi ci doveva portare un trattore e portarlo a suolo. E questa era, diciamo, l'occasione che lui ha detto che il mandamento si chiamava quello di Brancacci. Cosa vuole dire Rina con quell'espressione? La cosa si riferiva? Stiamo registrando o no? Possiamo? Aspetti. Sì, Rina voleva dire che, secondo lui, che alcune male, anzi diceva che quasi tutti i mali per Cosa Nostra partivano da Ciaculle. Per esempio, lui sottolineava che Michele Greco non ha voluto ammazzare Giovannello Greco, Nicola Greco e Pietro Marchese. All'inizio, cosiddetta questa guerra di mafia, che così non è stato, l'aveva dentro casa e non l'ha voluto ammazzare. Quindi ci attribuiva questa importanza che lui non ha voluto ammazzare a questi tre personaggi. E quindi aveva questa espressione, innanzitutto aveva detto che anche Michele Greco doveva essere ammazzato, perché non meritava vivere. E qua, in questa occasione, più volte diceva che doveva portare un trattore a Ciaculle e li doveva portare a suolo. Non doveva esistere più questo Ciaculle, nemmeno il nome. E quindi dopo l'arresto di Lucchese ha messo davanti a questi fratelli graviani, dicendo addirittura i brancacci. Quindi lui non diceva più nemmeno Ciaculle, diceva che il mandamento era i brancacci. Allora, sa dire quali rapporti in sostanza intercorrevano tra Lucchese e Rina? Ma io quello che ho saputo io, buoni, rapporti di fiducia, intimi. Senta, lei ha conosciuto Filippo e Giuseppe Graviano? Sì. Vuole dire quando, come e dove? Ma sempre, vedi, anche in quell'occasione della morte del fratello di Spera, di Uccello, in quell'occasione erano anche presenti. Sa dire con più precisione quando Costoro assunsero il ruolo di sostituti di Lucchese, capomandamento di Brancaccio? No, quasi subito dopo l'arresto di Lucchese. E questo è avvenuto in epoca precedente alla strage o successiva? No, prima. Senta, di questo ruolo rivestito di Graviano, vuole specificare in quali circostanze l'Edo ha preso? Ma l'ho preso in particolare da Totorriina, da Biondino, da Ganci, quando per dire c'è un cambiamento nei mandamenti, lui lo dice che da questo momento è il tizio che funziona di capomandamento, quindi lo comunica. Senta, quali rapporti intercorrevano tra Filippo e Giuseppe Graviano in particolare e Salvatore Rina e Bernardo Provenzano? Ma io le posso dire che i fratelli Graviani, il conto Torriina, io ci sentevo dire che li voleva bene, l'aveva nel cuore, in particolare anche Salvatore Biondino le rispettava, insomma, le sentivo parlare bene. Mai ho sentito parlare un negativo, diciamo, nei loro confronti. Lei sa se i due, Filippo e Giuseppe Graviano, condividessero le strategie di Rina e di Provenzano? Guardi, io questo l'ho spiegato più volte. Rina non metteva in un mandamento se non erano persone sue di grande fiducia, quindi questo con assoluta certezza. Senta, lei è in grado di riferire, se ha avuto modo di notare la loro partecipazione a riunioni della Commissione? Sì, io l'ho visto con i miei occhi, in quelle che ho detto prima, del fratello di Benedetto Spera, quella di Pietro Uccello, questo l'ho visto io. E qua chiaccia sicuramente che a un momento non mi viene in mente. Senta, lei ha conosciuto Salvatore Buscemi? Sì. E in quali circostanze? Io l'ho conosciuto, la prima volta mi ricordo che l'ho conosciuto proprio in quella riunione a San Giuseppeato nell'83, che già c'era fatto il mandamento di Bocca di Falco a Salvatore Buscemi. E poi negli anni, infine, quando l'hanno arrestato. Senta, quale ruolo rivestiva in Cosa Nostra all'epoca della strage? Lui, capo mandamento di Bocca di Falco. E quando assumse tale ruolo? E a chi subentrò? Ma lui, qua il capo mandamento di Bocca di Falco era Salvatore Inserillo. Dopo la morte di Inserillo, che il periodo di questi mandamenti che sono stati, diciamo, spasciati, che c'è stata la morte come quella di Stefano Bontate, quella di Inserillo, quella della Noce. Quindi il periodo è stato quello là, verso la fine dell'82 e nei primi dell'83. E quando, dove e come ha preso questa notizia? Ma sempre uguale, come ho spiegato più volte. Quando c'è un mandamento, poi nel tempo, diciamo, si fa sapere che il capo mandamento è il tizio che gestisce il mandamento. Sempre da parte d'Arriina, principalmente. Quali rapporti intercorrevano tra il predetto Gucemi e Salvatore Arrine? Intime, buone, di fiducia, perché se no non ci dava il mandamento. Se da lei ha conosciuto Michelangelo La Barbera? Sì. In quali circostanze? Ma le circostanze sono state tantissime, perché io lo conosco da 15 anni, in diversa occasione, perché lui quando aveva bisogno del mandamento di Porta Nuova... il condimento della planta Nuova... Che era un'altra parte che è stata da 15 anni, perché io lo conosco da 15 anni, invece... a un po' di più, perché è stato un'altra parte che è stata un'altra parte che è stata un'altra parte che è stata un'altra parte... Grazie a tutti. 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 Ora noi dimostriamo delle fotografie. Ci vuole dire che cosa raffigurano? Sì, questa è l'abitazione di Girolamo Guddo. Quello è il cancello dell'ingresso, quello è il cancello verde e quella è la casa, diciamo, il primo piano che si vede. Il cancello verde è quello che si trova sulla destra? Sì, 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 dritto così, questo è il cancello. Poi, sì, questo è il cancello, sì, questo è la ferriata che gira, diciamo, attorno alla casa, le piante, sì. Senti, ora dimostriamo un filmato. Sì, questa è l'abitazione. La conosco benissimo. Si è stato fatto il mandamento di Villa Abate, poi dopo poco tempo l'hanno arrestato e poi non l'ho rivisto più. Quale volo rivestiva in Cosa Nostra all'epoca della strage? Lui, capo mandamento di Villa Abate. Come ha appreso, come ho spiegato prima, che quando Rina formava un mandamento lo comunicava, io poi nel tempo l'ho saputo. Sa se fosse detenuto all'epoca della strage? Sì, credo di sì. Da chi era sostituito? Suo figlio, suo figlio Giuseppe. Quali rapporti intercorrevano tra Salvatore Montalto e Rina e Provenzano? Guardi, qua i rapporti erano intimissimi, che c'è un particolare di quello che io ho saputo, che proprio Salvatore Montalto ha avvisato qualche cosa per la morte di Inserillo, per l'appuntamento che ci avevano mandato a Rina per strangolarlo, allora Salvatore Inserillo, Stefano Bontate e quelle della sua gordata. Quindi è stato lui a avvisarle. In sostanza Montalto ha avvisato Rina della trappola mortale che gli era stata attesa da Montalto e Bontate. Sì. Questo vuole dire. Sì. Sa se condividesse le strategie di Rina e di Provenzano? Eh, se no, lui non era il capomandamento di Villabbate, se era diverso. Lei ha avuto modo di notare la presenza di Giuseppe Montalto a riunioni della Commissione Provinciale? Sì, io l'ho visto sempre in quell'occasione che ho detto prima, c'era anche lui. Senta, lei ha precisato già nel corso dell'esame che Matteo Motisi era capo del mandamento di Pagliarelli e di averlo anche conosciuto. Ci vuole dire come ha appreso in particolare e del ruolo che questo Motisi rivestiva in Cosa Nostra? Sì, appunto dopo che Rina ci ha fatto il mandamento di Pagliarelli, poi io nel tempo l'ho saputo che era lui il capomandamento di Pagliarelli. Però devo dire una cosa, che questa è una brava persona, pure se lui è capomandamento in tutti gli effetti. In che senso è una brava persona? Una persona brava, non è una persona aggressiva, non è una persona saggia, una persona che ragiona. Però è capomandamento di Pagliarelli. Fa parte anche lui della Commissione. Senta, lo vuole descrivere fisicamente? Sì, è una persona su un metro e settanta, un po' pienotto, diciamo, un po' robusto, non è magro. Sì, 73, 75 anni, uno scuro, incarnagione. Lei ricorda di averlo riconosciuto nel corso delle indagini preliminari, in fotografia? Sì. La domanda su quello che si è fatto negli altri preliminari è consentita. Perché le sue domande negli stessi termini non sono state ammesse? Presidente, no, solo per ricordarlo, il Ministero quando poi censurerà le domande degli avvocati su quanto si è fatto nelle indagini preliminari. Nessuno si è lamentato. Ma lei cosa sta facendo in questo metro? Questa qui è una forma di attesione. No, io non è che censurare, non è la sua domanda, era solo per ricordarlo, per annotarlo. Lei ha personalmente conosciuto o incontrato Bernardo Provenzano? Sì, un paio di volte, sì, personalmente. L'ha incontrato in altre occasioni, oltre a quelle di cui già ha fatto riferimento nel corso dell'esame? Un due o tre volte l'ho visto in questo Provenzano, in quell'occasione che già ne ho parlato ampiamente. In epoca precedente alla strage l'aveva conosciuto, l'aveva incontrato? Mi sembra dopo l'assaggio. Senta, vuole precisare bene i rapporti con Rina, con riferimento alla partecipazione in Commissione? Da parte da chi? Di Provenzano. Ma guarda, io, quello che ho saputo, che in tutti questi anni, che erano loro due, quelli che gestivano il mandamento di Corleone e tutti i mandamenti della Sicilia, perché non c'erano persone più alto livello di loro due, e questo io le posso dire di più, che il Provenzano, dopo l'arresto di Rina, quindi non è che non esisteva, è spuntato, era presente, infatti in quell'incontro che abbiamo fatto con Raffaele Gance e Michelangelo Barbera, il popa lui, il Provenzano, rivolgendosi a Rina, a Gance e Raffaele, ha detto che c'era la possibilità di prendere il capitano ultimo dei carabinieri per interrogarlo, che aveva partecipato all'arresto di Rina, quindi questa è la prova che lui, il comando era unitamente a Rina. Lei era presente quando sono stati fatti questi discorsi? Sì, era presente io, Raffaele Gance e Michelangelo Barbera. E dov'è che vi trovavate in particolare? Come? Dove, in che posto vi trovavate? Sempre in quella zona di, qua di Villa Serena, sempre in questa zona qua, e mi ricordo benissimo che quando lui ha detto che c'era la possibilità di prendere vivo, rivolgendosi a Gance, c'è il suo falò, c'è la possibilità di prendere vivo il suo capitano ultimo, se non ci riesce, dice, ci spariamo, lo ammazziamo. Mi ricordo che il Gance ha avuto un'espressione dicendoci, ma Zubino, dice, mi chiamiamo a fare veramente a quel rossato. E io facendo un gesto con le mani così, ci ho fatto capire pure, di finirla, diciamo, ma non mi potevo pronunziare più di tanto, perché non avevo il potere di poter dire di più. Il gesto con le mani era questo. Senta, lei ha saputo da qualcuno il diretto coinvolgimento di Bernardo Provenzaro nella strage per cui è processo? Ma guardi, io le posso dire con assoluta certezza che tutte le decisioni di tutto quello che è successo a Palermo, principalmente, partivano sempre da loro due. Loro erano uno, erano due, ma erano uno nelle decisioni. Senta, lei stamattina nel corso dell'esame ha già fatto riferimento ad un appuntamento che l'aveva dato Bernardo Provenzano. Vuole precisare ora meglio la circostanza, ponendo in rilievo, se a sua conoscenza, il motivo per cui Bernardo Provenzano voleva incontrarla? Ma io i motivi, diciamo, proprio di quell'appuntamento non li conosco. Posso dire che lui mi ha mandato questo appuntamento tramite Callo Greco, che io alle sei di mattina mi dovevo trovare in un luogo vicino il Bebeluna, a Palermo, proprio all'angolo dove c'è il trionfante, quello delle cose antiche, delle mobile. Qua, che veniva Callo Greco a prendermi e portarmi da lui. Ma i veri motivi io non li conosco. Ma aveva capito quali erano questi motivi? No. No. Ma lei poi è andato a questo appuntamento? No, guardi, devo ripetere quello che ho detto stamattina. Per quale motivo non ci è andato? Io a questo appuntamento non ci sono andato, perché già io avevo deciso di fare questo salto. Poi c'è stato appunto Raffaele Ganci, che un po' prima, prima di arrestarlo, mi aveva detto quelle parole, se ti mandano qualche appuntamento non ci andare. appunto, lui ha fatto un gesto, riferendosi a Bagarella, dice sì, perché non me lo manda a me l'appuntamento a Bagheria, che ci vado io. E quindi appunto mi disse a me, se ti mando l'appuntamento non andare in nessun posto. Ma ripeto, già io questa decisione ero quasi pronte per prenderla. E questa è stata la spinta finale, diciamo, di fare questo passo. Senta, lei ha conosciuto Benedetto Spera? Sì. In che occasioni? Ma le occasioni sono state diverse, perché lui era imputato anche nel Marchi e Seterri. In quell'occasione della morte del fratello, di quella di Petra Uccello, è diversa occasione. Lui è il capomandamento di Belmonte Mezzagna. Quando è che ha assunto questo ruolo? Lui l'ha assunto dopo, un po' dopo, la morte di Petra Uccello. Ha preso il posto del capomandamento di Belmonte Mezzagna. Lei sa se Benedetto Spera condividesse le strategie di Salvatore Arina e di Bernardo Poranziano? Sicuramente sì, perché il mandamento è stato fatto principalmente per il volere di Provenzano e di Rina. Quindi come non poteva condividere, se no non si trovava a quel posto. Lei ha constatato personalmente che Benedetto Spera partecipava a riunioni della Commissione? Sì, sicuramente, era anche io presente. Lei ha conosciuto Giuseppe Farinella? Sì, qualche volta sì. Quale ruolo rivestiva in Cosa Nostra? Lui è il capomandamento di San Mauro, Castelvenio, di San Mauro, questa zona. Anche con riferimento all'epoca della strage? Sì, sì, sì. Come lo ha appreso? Sempre, come ho spiegato prima, anche quando Rina faceva il mandamento lo comunicava, si doveva sapere che era il capomandamento in quella zona. Lei ha conosciuto Francesco Madonia? Sì. In quali circostanze? Ma la prima mi sembra di averlo sicuramente in quell'occasione di San Giuseppeato e poi anche nel tempo l'ho conosciuto. Che ruolo rivestiva in Cosa Nostra all'epoca della strage? Lui il capomandamento di Risottana. E quando ha assunto tale ruolo? Ma sempre quando, dopo la scomparsa di Saro Riccobono, sempre in questo periodo, diciamo, in questo periodo, perché il territorio di Risottana faceva mandamento a Riccobono, quindi sempre dopo la scomparsa di Riccobono. E come lo ha appreso? Ma da Rina, da Calò, da Ganci. Sa se Francesco Madonia condividesse le strategie di Rina e di Provenzano? Ma Francesco Madonia compare di Totò Rina. La famiglia Madonia è stata quella che l'ha fatto crescere a Rina in particolare. E sono state loro con Gambino, con Ganci, diciamo, a portarlo a questo punto. Lei ha conosciuto Antonino Giuffrè? Sì. Quando, come e dove? Io l'ho conosciuto nel 1987-88 nella Casa del Sole dove c'è il Pollaio. in quest'occasione l'ho visto più volte che si incontrava con Rina Salvatore. Quale ruolo rivestiva? Lui è capo mandamento di Caccamo, perché prima c'era Francesco Intille e dopo il Rina ci ha messo a lui. Come l'ha saputo? Sempre da Rina, da Ganci, da tutti. Lei ha conosciuto Benedetto Santa Paola? No. Sa quale ruolo rivestisse la cosa nostra? Sì, lui è capo mandamento di Catania. Lei sa se a Catania vi fosse un rappresentante provinciale? Sì, io ho saputo che lui, Santa Paola, però io personalmente non l'ho conosciuto. L'ho saputo da Rina, da Ganci, da Biondino, che lui è capo mandamento di Catania. Perché lei dice capo mandamento? Perché la famiglia dove appartiene lui, ci sono altre famiglie che sono aggregate nella sua famiglia e che formano il mandamento. Lei sa se questo mandamento territorialmente coincide con l'intera provincia di Catania? Non ho capito. Lei sa se questo mandamento che è capeggiato da Benedetto Santa Paola coincida con l'intera provincia di Catania? Sì, sicuramente. Questo io intendo dire. Lei ha conosciuto Mariano Agati? Sì. In quali circostanze? Io l'ho conosciuto personalmente e l'ho visto dietro la Casa del Sole, in quella che ho detto prima, che si è incontrato con Rina. Vi posso dire che Mariano Agate è una persona nel cuore di Rina, ma Zara del Vallo era come una fortezza per Rina, appunto, che Mariano Agate è il capo mandamento. Lei sa se vi fosse un rappresentante provinciale a Trapani? Sì, uno di questi è Mariano Agate. Come uno di questi? Cosa vuole dire? Sì, uno perché c'è qua un altro Messina, Francesco Messina, non Mastro Ciccio, un altro Messina che è pure questo capo mandamento della provincia di Massala. No, con riferimento alla provincia di Trapani. Lei sa chi fosse il rappresentante del relativo territorio? Maria Agate. Quando, dove e come ha preso questa notizia? Da Rina Salvatore, da Ganchi Raffaele, da Biondino Salvatore. Quindi in più occasioni avete parlato di questo? Sì. Senta, lei ha conosciuto Antonino Ferro? Sì. Qual è il ruolo che vestiva in Cosa Nostra all'epoca della strage? Lui è il capo mandamento di Canegatti. Sì. Lei sa chi fosse il rappresentante della provincia di Agrigento? Lui, Antonino Ferro. Quando, dove e come ha preso di questo ruolo rivestito da Antonino Ferro? Io l'ho conosciuto personalmente, 83-84, 84. Che si è incontrato con Rina, 84 mi sembra, si è verso la fine dell'84. E l'ho saputo dopo, nel tempo, anche da Rina, da Calò, da Ganchi, che è Antonino Ferro, è il capo mandamento di Canegatti, nella zona di Agrigento. Da lei ha conosciuto Giuseppe Madonia? No, personalmente no. Però ho saputo sempre da Rina, da Ganchi, anche da Calò, che lui è il capo mandamento di Cartanissetta. Ma io personalmente non l'ho conosciuto. Lei sa se a Caltanissetta vi fosse un rappresentante provinciale? E lui, Giuseppe Madonia. Lei vuole specificare come l'ha preso? Da Rina, da Ganchi, da Calò. Senta, signor Cancemi, conosce, ha conosciuto Di Matteo Mario Santo? No. Senta. Sa se qualcuno dei capi mandamento di cui abbiamo parlato oggi era in rapporti con personaggi politici? Salvatore Buscemi. Con chi era in rapporto? Con Lima, con l'onorevole Lima. Ci vuole parlare di questo tipo di rapporto? Che tipo di rapporto c'era fra loro? Ma io sapevo che l'avevano nelle mani loro, i Buscemi, i Salvatore Buscemi e Nino Buscemi, fratello. Povallino l'avevano nelle mani. Povallino l'avevano nelle mani. Povallino l'avevano nelle mani. Senta. Da Senta. Non. Signor Cancemmi, puoi precisare di quali macellerie era titolare o comunque di quali aveva la gestione, la disponibilità Raffaele Ganci? Ma la macelleria, poi non lo so se le licenze erano intestate a lui, le macellerie, quelle di via Lancia di Brodo, amici a tavola e un'altra, il pianotobarto, la via Francesco Loiacono. Sa se questa via era posta nelle vicinanze di uno stabile adibito all'abitazione del dottor Falcone? Sì, lui qualche volta, Ganci me lo diceva, che qua vicino ci abitava Falcone. Grazie. Lei è in grado di riferire se se vi erano altri soggetti al di fuori di Cosa Nostra che avevano interesse all'eliminazione del dottor Falcone? O che comunque avevano deliberato questa eliminazione? No, io le posso dire che quando stavamo andando a Capaci, nella macchina che io mi trovavo assieme a Ganci, Ganci mi disse che Uzzotto Duccio si aveva incontrato con persone importanti. Quindi io, se devo capire le sue parole, persone importanti in Cosa Nostra, più alte di Riina e di Provenzano, non ce n'erano. Io non ne conosco, quindi lui intendeva persone importanti di altro rame, no di Cosa Nostra. Grazie. 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 Se le ragioni sono di questo genere, oltre che per quanto espresso ieri, è inutile reiterare, segnalo alla signoria vostra che nell'ordinanza che aveva ammesso l'uso della strumentazione informatica, era pure contenuta l'indicazione che attraverso la stessa non si potessero formare. Non si potesse servire per sostanziare fatti probatori in questo processo. Di fatto la stessa ordinanza emessa dal collegio tre giorni fa ora, se non vado errato, faceva appunto riferimento a esibizioni di album, non al reperto informatico che non contiene tutte le foto, tra l'altro, ma una selezione delle fotografie operata dallo stesso pubblico ministero. Devo peraltro chiedere, oltre quanto ho appena detto in opposizione a che venga usato questo sistema, per quanto riguarda i miei assistiti, la ricognizione formale, secondo il metodo di creazione della prova voluto dal codice. Rappresento che, se si dovesse intendere come prova atipica, quella che viene posta in essere dal pubblico ministero attraverso il mezzo che dicevamo, la richiesta di prova atipica in questi termini non è stata formulata dal pubblico ministero a termini dell'articolo 493 codice di rito. Cioè non è stato in sede di esposizione preliminare dei mezzi di prova detto che avrebbero usato questo mezzo, come prova atipica, come si voglia, per il dibattimento. Ancora, ritengo che se si tratta di una prova, essa debba essere legittimamente posta in essere fuori dall'esame che è esso di per sé tipico mezzo di prova. Intendo che è indispensabile che sui problemi che riguardano la raffigurazione delle persone possano prima interloquire i difensori. Devo ancora rappresentare all'attenzione del Presidente della Corte che, per quanto riguarda gli imputati di cui ha parlato il signor Cancemi oggi, soltanto per uno, se le mie annotazioni non sono inesatte, è stata posta in essere una descrizione, anche se sommaria, mentre per nessun altro è stata richiesta descrizione somatica. Quindi, anche sotto questo profilo avremmo una rappresentazione, un'esibizione di foto prima della descrizione. Debbo ancora significare, signor Presidente, che, come emerso anche dall'udienza di ieri, numerose di queste fotografie sono state già rassegnate dai mezzi di stampa, sono state diffuse dai mezzi di stampa al pubblico, di tal che chiunque può essere messo in condizione di indicare con il nome tra l'uno degli imputati. Diversa cosa sarebbe, anche se certamente la diffusione della fotografia già la indebolisce, una ricognizione formale degli imputati medesimi. Ricorderò per tutti il fatto che un collaboratore di giustizia ieri ha riconosciuto per due volte una foto di cavo Giuseppe pur avendo lealmente prima detto che non l'aveva mai visto, ma che ne aveva visto naturalmente la foto sui giornali. Sono da tutti i dati di fatto che conducono univocamente, nel senso che questo mezzo atipico, come dir si voglia, oltre che per quanto detto ieri e per queste ulteriori e particolari e specifiche notazioni odierne, non debba essere ammesso a questo momento e in questi termini. Ultimo e diverso problema, ma che per economia di trattazione rappresento subito, signor Presidente, noi non siamo stati posti in condizione di sapere quali sono le foto che si vogliono esibire, in particolare, per esempio, se ci sono delle foto diverse da quelle di ieri, e quindi controllare anche sotto questo aspetto il tipo di atto che viene posto in essere. Grazie per l'attenzione. Presidente, l'Avvocato Scozzo, la Presidente si associa anche per quanto riguarda la questione della ricognizione, facendo presente che l'ordinanza dell'altro giorno della Corte di Assise, di questa Corte di Assise, parlava proprio di esibizione di album e non di foto estrapolate da alcuni album, così come i pubblici ministeri, che nel mentre avevano detto che facevano parte di un documento, le foto che avrebbero dovuto far vedere, successivamente hanno dovuto ammettere che facevano parte invece, che erano foto estrapolate da più album, bene, quindi dico sotto tale aspetto, già vi è un'ordinanza, a parte l'ordinanza del luglio dello scorso anno, per quanto riguarda questi mezzi tecnici che vengono oggi utilizzati, e peraltro quest'ordinanza di questa settimana della Corte di Assise, che faceva presente, che al più autorizzava, sia pur sotto quella forma, secondo noi tra l'altro anche irregolare sotto questo aspetto, ma è un problema che non attiene in questo momento logicamente, comunque faceva presente quell'ordinanza di autorizzare i pubblici ministeri ad utilizzare album integrati. Non dico di utilizzare gli album che logicamente nessuno di noi ha qui, ma dico quantomeno sotto, anche con l'ausilio di questi mezzi, i pubblici ministeri dovrebbero individuare, avrebbero dovuto portare gli album integrali, mostrare le singole foto contenute in ogni album, e lì chiaramente l'imputato avrebbe potuto fare, levare i riconoscimenti positivi o negativi. Scusi signor Presidente, devo pure rilevare questo, che come incidentalmente ha detto dall'imputato, signor Cancemi, egli ha già avuto mostrate queste foto in sede di indagini preliminari, ne abbiamo preso atto, quindi si tratterebbe di rivedere delle foto già viste, fatto che poteva avere un rilievo in sede di indagini preliminari, vedere delle foto appunto per le indagini, a fini inquirenti, ma non lo ha certamente, non può averlo in dibattimento a fini provatori. Volevo semplicemente far rilevare, senza alcuna anticipazione ovviamente, che nella nostra ordinanza la parola album non esiste, soltanto per ristabilire la verità storica di un documento che è registrato, che io ho scritto e che posso rileggere. Presidente, se mi consente proprio telegraficamente, mi pare che in questi interventi sia enfatizzato oltremisura il valore del compimento di quest'atto. Noi abbiamo chiesto di... No, dico no, l'Ufficio del Pubblico Ministero ha chiesto di procedere al compimento di quest'atto unicamente per una ragione molto semplice, molto elementare, per sapere se a livello di identificazione quelle persone di cui il signor Cancemi ha parlato così come Di Matteo aveva parlato di altri sono proprio cioè al fine, al fine, al fine di escludere eventuali omonimie, eventuali errori di persona, scambi di persona, eccetera. Viceversa, la ricognizione, dico naturalmente, lo ricordo a me stesso, la ricognizione formale o atipica o quella richiamata negli interventi dei difensori degli imputati è tutt'altra cosa. E quindi non c'è bisogno che io sottolini che ripeta, peraltro, quello che già è stato illustrato a proposito del compimento dell'atto per Di Matteo che questo atto sostanzialmente è una sorta di prosecuzione naturale, vorrei dire intrinsecamente e strettamente consustanziale all'atto dell'esame dell'esame stesso. Perché evidentemente questo non è che con questo atto noi dimostriamo che queste persone sono responsabili della strage. Con questo atto dimostriamo semplicemente non dimostriamo con questo atto tendiamo a verificare che abbiamo parlato che le persone indicate nel racconto nella dichiarazione nell'interrogatorio da parte del signor Cancemi sono proprio quelle persone raffigurate nella fotografia e quindi voglio dire da un punto di vista probatorio ha una rilevanza diciamo assolutamente relativa. signor Presidente no 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 basta avvocato repliche non ce ne sono più signorina allora il pubblico ministero chiede di poter esibire all'imputato sono le stesse fotografie mostrate al di Matteo no ci sono delle variazioni una serie di fotografie che ritraggono persone fisiche l'avvocato ci sono imputati o ci sono anche non imputati imputati e anche altri soggetti quindi fra i quali anche alcuni degli odierni imputati scusi presente c'è l'imputato Reina che vuole fare una rilevanza io sto verbalizzando il signor Reina attende il suo turno l'avvocato Oddo si oppone per le ragioni meglio specificate nella trascrizione integrale del verbale di udienza opposizione alla quale si assogia l'avvocato Scozzola e anche gli altri difensori mi pare la parte civile molto brevemente io credo che i rilevi mossi dal pubblico ministero siano assolutamente esatti si tratta sostanzialmente di dare articolazione visiva a dichiarazioni già effettuate dal collaborante si dirà al collaborante nel momento in cui parlava del signor Tizio e questo raffigurato tutto qua la parte civile si associa non si oppone alla richiesta del pubblico ministero signorina prego non la sento bene le dispiace ma non so ora la sento quella fotografia dell'altro giorno che hanno fatto vedere a De Matteo è la fotografia quanto io sono assistato che per tutti i giornali di tutto il mondo sono state sono mandate e sono e mettono sempre questa fotografia quindi io desiderio e dico che cosa che significato ave mettere quella fotografia alla televisione che io sono stato messo per tutti i giornali e per tutte le televisioni di tutto il mondo solo questo voleva fargli presente quindi l'imputato Rina Salvatore rende spontanee dichiarazioni la corte si riserva e si ritira per sciogliere la riserva tra le ore 19 a 45 il Presidente della lettura della seguente ordinanza sciogliendo la riserva sulla richiesta del PM e sulla relative eccezione rilevato che nel caso di non si verte in tema di formale autonomato di ricognizione bensì di un atipico atto di riconoscimento che si inserisce nel contesto di una prova tipica ritualmente richiesta e ammessa qual è l'esame dell'imputato che tuttavia al fine di garantire la genuinità dell'atto ricognitivo ha pure opportuno far precedere detto riconoscimento ad una descrizione somatica della persona da riconoscere che sotto altro profilo appare infondato il rilevo difensivo secondo cui non potrebbe essere utilizzato il supporto informatico atteso che la proiezione di alcune foto contenute negli album fotografici acquisite al fascicolo per il dibattimento non comporta l'utilizzazione di prove documentali diverse da quelle ammesse che devono intendersi richiamate alle modalità relative all'espletamento dell'atto ricognitivo indicate nell'ordinanza di questa corte in data 17.486 per questi motivi ammette l'esecuzione di fotografia all'imputato Cangemi Salvatore con le modalità specificate in motivazione era il 17 l'ordinanza che abbiamo fatto non era ieri altro ieri allora se i pubblici misteri gentilmente possono preventivamente invitare l'imputato con una descrizione somatica invitando anche a precisare se è stato chiamato in precedenza a effettuare ricognizioni di persona o informali della persona di cui parliamo poi in serie mostrerete le foto senz'altro signor Cancevi ci vuole descrivere fisicamente Ferrante Ferrante è un po' robusto poco più di 1,70 di carnagione chiara nel viso pieno un po' cicciuttello Pietro Rampulla è più grosso di Ferrante è un po' più alto capelli scuri meno quando l'ho visto io là sui 40 anni così Leo Luca Bagarella è bassino un po' pieno capelli corti Bernardo Brusca è una persona che si commette i 70 un po' pieno sui 65 anni così Salvatore Biondino è un po' più di 1,70 pieno chiaro di carnagione la faccia piena Salvatore Avine è un po' bassino è pieno pure tipo pieno Carlo Reco sì un po' più di 1,70 puro pieno di statura normale carnagione normale portabaffi barba no lui faceva tantissimi cambiamenti perché era latitante un corpo si faceva crescere i baffi la barba capelli corti lunghi quindi faceva tutti questi cambiamenti Raffaele Gangi sì su 1,75 così un po' più di 1,75 normale di statura Pietro Valieri ecco pure lui poco meno di 1,70 scarnato un pochettino in viso la faccia no piena un po' ovale Antonino Giuffre è Antonino Giuffre magro su 1,75 con un braccio un pochettino offeso cioè un braccio non normale Francesco Madonia beh anche lui circa 1,70 così un po' più bassino almeno quando me lo ricordo io era pieno grossotto e Giovanni Brusca è su 1,65 così con i capelli zici è un po' pienotto pure Giuseppe Graviano è un 1,75 meno quando quando era fuori era un po' pienotto Domenico Gangi ecco anche lui su 1,70 un po' pieno colore degli occhi colore degli occhi colore dei capelli se è chiaro diciamo un oscuro Giovanni Battaglia Bassino è un corporatura normale Salvatore sveglia è un po' più di 1,70 più altino normale di statura è chiaro di carneggio porta occhiali sì sì la barba baffi no io con i baffi con la barba non l'ho visto mai Karogiano Gangi sì 1,75 così bello pieno anche lui chiaro di carneggio i capelli un po' soscuro Antonino Troia sì poco più di 1,70 pieno oscuro di carneggio Giuseppe Montalto è anche lui un po' pieno poco più di 1,70 chiaro di carneggio e Antonino Giaraci ma una persona più di 75 anni appesantito quando l'ho visto io anche robusto diciamo Benedetto Spera Bassino su 1,65 così corporatura normale Michelangelo la barbera anche lui su 1,70 un po' pieno su biondo su 2,70 su 2,76 Salvatore Biondo? Circa con un metro e settanta, capelli corti, me lo ricordo così, su scuro. Nel senso di carnagione scura? Sì. E Bernardo Provenzano? Anche lui, un metro e sessantacinque circa, in corporatura normale, su carnagione chiara. E Giuseppe Ducchese? Bassino, su un metro e sessantacinque così, me lo ricordo io, era un tipo magro, ora non lo so. E Giuseppe Farinella? Su un po' più di un metro e settanta, capelli brizzolate, corporatura normale, diciamo, un po' sul grosso e no sul magro. E Giacomo Giuseppe Gambino? Sì, anche lui, un metro e settanta circa, senza capelli, chiaro di carnagione. Salvatore Buscemi? Sì, su un metro e settanta pure, così, un po' più di un metro e settanta, canneggiore normale, diciamo. E Salvatore Montalto? Sì, pure su un metro e settanta, un po' più di un metro e settanta, chiaro di carnagione. Portaocchiali, baffi? No, quando io l'ho conosciuto, non avevo chiaro. Giuseppe Calò? Un po' più di un metro e settanta, con capelli brizzolati, chiaro di carnagione. E Filippo Graviano? Pure questa altezza, così, un po' sul biondo. Allora, signor Cancemi, ora proiettiamo sul monitor una serie di fotografie. Questo è, diciamo, l'ultima attività che, almeno per il Pubblico Ministero, verrà chiamato a svolgere oggi. Questo è quello, Rampullo, quello che io ho visto là, a Capaccio. Siamo presente, mi scusi. Soltanto io ve lo farei rilevare, che sopra la foto, Danilo Tiposi, c'è scritto Polizia Scientifica Catania. C'è un dato di fatto. Tutti gli aerei di domani e di domenica sono pieni. Se noi non rientriamo con gli aerei di domani e di pomeriggio... Certo, lei ci pensa 24 ore prima, il giorno alla vigilia dell'elezione, per notare... No, Presidente, è da tempo che gli aerei sono pieni. Avete tutti prenotato per sabato pomeriggio? Sì, Presidente. Ma domani vediamo, avvocato. Il problema è questo, non è... Il problema non è... Cioè, al suo punto ci è un dato di fatto, tutti gli aerei... Ma sarebbe troppo comodo questo modo di procedere, avvocato? Perché questo diventa una specie di... Non lo so come chiamarlo. Ma come non abbiamo mai avuto udienza di sabato pomeriggio, noi riderevamo... E lei è insegnato male, come si dice in sicurezza, no, ha insegnato male. Qui purtroppo lavoreremo anche la domenica se necessario. Sì, signorale, però... Lo vogliamo pure di domenica, se l'avessimo saputo. L'avremmo prenotato prima, per domenica mattina, ma ora non abbiamo più... Tenda, avvocato, guardi che queste trasferte sono massacranti per tutti. E mi consenta di dire, soprattutto per il Presidente che deve presiedere, sentire tutti voi, non potersi distrarre un minuto. E anche io ho dei limiti fisici. Però io ho il dovere di portare avanti questo processo perché va avanti con ritmi troppo lenti. Ora, se cominciamo a sottrarre i pomeriggi, le quattro ore, le tre ore, quando si parte, quando si va fuori, bisogna sfruttarle appieno le giornate. Non mi può venire a dire, avvocato, che lei ha prenotato per sabato perché se lo poteva prenotare per domenica. Come ho trovato posto io? L'avrebbe trovato... Dell'interesse anche degli imputati che sono detenuti ed è un processo che dura da un anno e che possibilmente durerà ancora un altro anno. Ma è una situazione eccezionale. Non è eccezionale, avvocato. Il terremoto è una situazione eccezionale, non una competizione elettorale che è nota da parecchio tempo. Ma l'Italia è uno stivale, noi siamo all'ultimo, alla periferia del paese e non è facile trovare un posto. Va bene, avvocato, comunque, credo... Abbiamo pochi voli, pochi colmi e quindi non è possibile che... Prego i signori pubblici ministeri di procedere e poi domani... Però non ho presso la parola, signor Presidente, per favore. Sì, signora, ne do atto, signorina, per favore. Diamo atto che la foto, il primo fotogramma mostrato all'imputato, Reca nella parte superiore, la scritta, come c'era scritto, Polizia Scientifica di Catani. È a caratteri quasi illegibili, Presidente. Vabbè, mostriamo la seconda fotografia. Con molto acutezza di vista. Presidente, scusi, presente, prima che venga mostrata una seconda foto, posso avere la parola? Presidente, brevemente, se... Avvocato Michalizzi, se lei... Sono ancora problemi commessi con l'Alitalia? No, 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 Presidente, in relazione ai riconoscimenti fotografici. Siccome le descrizioni che ha fatto il collaborante sono... Sostanzialmente si riducono all'altezza, ed è proprio un connotato che non si può apprezzare, dalle fotografie, se non ritiene di consentire che ognuno dei difensori possa chiedere un qualche dato particolare in relazione ad ognuno degli imputati. Avvocato, sta procedendo il Pubblico Ministero all'esame, come le consento? Per favore, le possiamo riproiettare poi in serie di controesame, Avvocato? Pubblico Ministero, proseguiamo. Allora, mostriamo la fotografia successiva. Questa fotografia chi ritrae? Bagarella. La prego di dire anche il nome. Leo Luca Bagarella. Bernardo Brusca. Salvatore Biondino. Salvatore Rina. Callo Greco. Ma questo, in questo momento, non mi viene in mente, in questo momento. la dimostrazione del fatto che vengono esibiti sempre. Raffaele Ganchi. Petro Ieri. Questo è Priolo Vito, questo è un mio cugino, questo non fa parte di Cosa Nostra. La riconosce? Si vede lontano, così... Non c'è una foto? Ma si può rendere più, la si può ingrandire questa foto? Un po' ingrandire. Grazie a Picco. Grazie a Picco. ma così guardandolo così però onestamente non sono sicuro mi sembra Antonino Giuffre Francesco Madonia Giuseppe Graviano No, questo non mi dice niente Sì, questo è un altro mio cugino Salvatore Priolo che non fa parte di Cosa Nostra Questi chi è? Giovanni Brusca Questo è un ragazzo che io conosco che è della zona dove abitavo io addirittura in una serie a rotelle questo qua non fa parte di Cosa Nostra Sa come si chiama? Angelo Pecorelli Pecorella, Pecorelli Pastorelli, una cosa di queste Pastorelli mi sembra Mimmo Ganci Battaglia Giovanni Salvatore Sveglia Calogero Ganci Matteo Motisi Antonino Troia Tummenia Salvatore Tummenia Salvatore questo non fa parte di Cosa Nostra Reneggeraci il Vecchio Giuseppe Montalto Benedetto Spera Benedetto Spera Sì, questo si chiama Seidita Girolo, ma questo non fa parte di Cosa Nostra Michelangelo Barbera Salvatore Biondo Bernardo Provenzano No, questa fotografia Giuseppe Lucchese Pippo Gambino Filippo Graviano No, questa Nemmeno questa Salvatore Montalto Salvatore Montalto No, questo no Pippo Galò Giovanni Ferrante Scusi un attimo Questo sarebbe Quello che le ha chiamato anche Giovanni Battista È la stessa persona Sì, sì, Giovanni Ferrante Sì, questo è quello che ho parlato Che Ganci mi disse Che era anche Partecipato anche Nella strage Gioe Di Battesimo lo ricorda? No, in questo momento Non me lo ricordo Comunque le ricorda chiaramente Che i Ganci Antonino Gioe Sì Allora Abbiamo mostrato Tutte le fotografie Che complessivamente sono 42 Le abbiamo mostrate Nel seguente ordine Pietro Rampulla Leo Luca Bararella Bernardo Brusca Salvatore Biondino Salvatore Arino È presente Scusi Capo Eccos Giuseppe Agrigento Raffaele Gangi Si potrebbe dare atto Prima presente Quali sono le fotografie Nelle quali non è avvenuto Il riconoscimento Da parte Lo faccio dopo Ora mi costringe A ripetere nuovamente L'elenco Ma io credo Che si dovrebbe fare Prima questo tipo Di attività No, veramente Questo lo scegliamo Noi come dare Le informazioni sul punto Lei non può Censurare Le metodologie espositive Ma faccia finire Poi se ha da dire qualcosa E poi lo dice Non interrompa Allora Le dispiace Ricominciare da capo Si Prima foto Pietro Rampulla Poi nell'ordine Leo Luca Bagarella Bernardo Brusca Salvatore Biondino Salvatore Ariina Carlo Greco Giuseppe Agrigento Raffaele Gangi Pietro Aglieri Vito Priolo Antonino Giuffre Francesco Madonia Giuseppe Graviano Alessandro Sapienza Salvatore Priolo Giovanni Brusca Angelo Pastorello Domenico Gangi Giovanni Battaglia Salvatore Sveglia Calogero Gangi Matteo Motisi Nato il 16 aprile 1918 Antonino Troia Salvatore Tumminia Antonino Giaraci Giuseppe Montalto Benedetto Spera Girolamo Seidita Michelangelo da Barbera Salvatore Biondo Bernardo Provenzano Giuseppe Farinella Giuseppe Ducchese Giacomo Giuseppe Gambino Filippo Graviano Salvatore Buscemi Carmelo Saccone Salvatore Montalto Vincenzo D'Agostino Giuseppe Calò Giovanni Battista Ferrante Antonino Gioe I riconoscimenti Sono stati tutti positivi Con deccezione di Giuseppe Agrigento Alessandro Sapienza Giuseppe Farinella Salvatore Buscemi Carmelo Saccone Vincenzo D'Agostino In relazione ad una fotografia è avvenuto con non assoluta certezza e si tratta di Antonino Giuffre però occorre dare atto che questa fotografia era di piccole dimensioni e non perfettamente nitida Mi dà la parola signor Presidente io in difesa e nell'interesse di Biondo e Rampulla in ogni caso dei miei assistiti e c'è visco l'inutilizzabilità di questa ricognizione sotto il profilo che non mi pare che il pubblico ministero per ciascuno degli imputati e in particolare dei miei assistiti abbia ottemperato a quanto disposto dalla signoria vostra con l'ordinanza in particolare mi riferisco alla necessità da parte del collaborante di indicare se avesse effettuato già il riconoscimento fotografico prima di effettuare la ricognizione in questa sede non mi pare che sia stato chiesto al Cangemi per ciascun imputato se aveva riconosciuto in precedenza la foto di chi è stato fatto vedere in successione in sequenza la signoria vostra con l'ordinanza aveva disposto questa incompenza al pubblico ministero ritengo che questa incompenza debba precedere il riconoscimento stesso quindi sotto questo profilo mi dà la parola mi dà la parola signor Presidente mi dà la parola Presidente su questo punto dato che è stata fatta questa eccezione abbiamo diritto prego facciamo in questo caso è nullità prego oltre ad associarmi a quanto ho detto dal mio collega per quanto riguarda i miei assistiti chiedo di essere ammesso a produrre la pagina 11 del giornale di Sicilia di oggi nella quale è ritratta riprodotta la fotografia di Filippo Graviano tra l'altro nella stessa pagina è citato c'è l'articolo sulla strage di Capaci e sul processo che si sta celebrando Avvocato Tipo signorina chiede la inutilizzabilità dell'atto ricognitivo perché non preceduto Filippo Graviano è sfuggito non preceduto dalla domanda rivolta all'imputato Presidente Avvocato Petroni anch'io mi associo tutti ci associano tutti ci associano non preceduta dalla domanda rivolta all'imputato se avesse in precedenza effettuato ricognizione prego gli altri difensori si associano l'Avvocato Oddo chiede di essere ammesso a produrre la pagina 11 del quotidiano giornale di Sicilia di oggi venerdì 19 aprile 1996 che riproduce le immagini di Filippo Graviano e Salvatore Sveglia a me interessa in particolare naturalmente per i Filippo Graviano nella stessa cosa questa richiesta non mi oppongo su questo non si opponga la parte civile non lo osserva scusi un attimo la corte si riserva Presidente possa avere la parola non ho finito per quanto riguarda la difesa credo che dovrei avere la parola è una richiesta autonoma scusi che riguarda questo argomento lo può fare dopo no no riguarda questo argomento per quanto riguarda l'inutilizzabilità mi dà la parola brevemente no poi le do la parola per tutto in difesa di Graviano Giuseppe chiedo di essere ammesso a produrre e quindi è un'emergenza processuale che nasce ora proprio per l'espletamento di questa atipica prova tutte le pubblicazioni di tutti i quotidiani sì che dall'epoca della strada l'enciclopedia Treccani pure avvocato prego Presidente pubblico ministero la prego Presidente posso? certo tutte le pubblicazioni in cui sia stata pubblicata la fotografia del mio assistito affardata dalla strage di Capaci fino ad oggi sì va bene va bene allora l'avvocato Giacobbe al momento che si tratta di fotografie che ormai sono di patrimonio della nazione che chiaramente ci produrrà lei avvocato no? sì sì Presidente l'avvocato Giacobbe chiede di essere ammesso a produrre può aggiungere me pure Presidente copia non so se sono tutti i quotidiani di tutti i quotidiani che hanno pubblicato immagini dell'imputato dell'imputato imputato Giuseppe Graviano e Calogero Ganci Presidente da me assistito Graviano Giuseppe e Ganci Calogero dalla strage di Capaci ad oggi l'avvocato Bozzignone si associa per Ferrante vabbè si assoggiano tutti i difensori si assogiano prego pubblico no faccio riserva si assogiano alla riserva di produrre questi giorni certo l'avvocato Giacobbe si riserva detta produzione sì per quanto riguarda le eccezioni di inutilizzabilità volevo far rilevare soltanto due volevo esporre due osservazioni si tratta di un'eccezione è chiaramente infondata prima di tutto perché non ricorre l'ipotesi dell'articolo 191 del codice di procedura penale laddove si parla di divieti stabiliti dalla legge in secondo luogo l'invito che era stato fatto nella ordinanza della corte una cosa che si può riscontrare immediatamente era ricollegato era posto non come condizione essenziale dell'atto non come presupposto se mi lasciate completare forse non come presupposto come dire di validità come presupposto di esistenza come condizione essenziale dell'atto ma ai soli fini della genuinità e della appunto della genuinità della identificazione e del riconoscimento ora poiché ancora non è stato completato il controesame la difesa ha in ogni caso la possibilità attraverso gli strumenti idonei di saggiare di far verificare appunto la genuinità di quell'atto e quindi per questo motivo è un atto pienamente utilizzabile quindi il pubblico ministero si oppone alla richiesta di inutilizzabilità come rientra nei poteri del presidente valutare la genuinità della prova e verificare il rispetto di quelle formalità previste dalla ricognizione di persona richiamate anche da norme in particolare dal 200 dal 200 dal 200 sì dal 216 sono io che chiedo all'imputato Cangemi di precisare se durante le indagini preliminari lei è stato invitato ad effettuare delle ricognizioni fotografiche e in particolare se lei ricorda di avere visto già visionato queste foto che le sono state mostrate oggi ma che sì qualcuna sì ma diverse no cioè vuole dire alcune di queste foto le erano già state mostrate sì però che io l'ho riconosciuto in fotografia no no non mi interessa se lei le ha riconosciuto o meno durante le indagini preliminari i pubblici ministeri che hanno proceduto che l'hanno sentita le hanno mostrato foto di persone alcuna sì e tra queste ve ne erano anche di quelle che oggi ha visto sì va bene ci sono pubblico ministero esaurito l'esame allora signorina a questo punto esaurito l'esame lei si può accomodare presidente mi consente un secondo crescimando perché io devo porre in serie di controesame non più di quattro forse cinque domande rapidissime posso chiedere di farle stasera egoisticamente non ho difficoltà ad ammetterlo tre minuti o quattro minuti non più di tanto io non ho domande presidente credo di essere l'unico difensore di partecipare ma vado prego se sono avanti cominciamo prima domani lei se la sente o bisogna riposarsi qualche altro minuto i minuti in senso proprio parlo il difensore pare che non debba fare l'esame il difensore non deve fare il controesame l'esame va bene allora l'avvocato crescivano l'ho chiesto ma non lo faccio signor Cancemi lei oggi ha detto che Rina disse o a lei o diceva comunque all'interno di Cosa Nostra che vi erano stati degli interventi del dottor Falcone e del ministro Martelli per togliere la trattazione del maxiprocesso al presidente Carnevale ricordo bene? sì le disse o lei apprese all'interno di Cosa Nostra da chi il Rina aveva appreso tale circostanza? no perché Rina alcune fonti le teneva preziose quindi non diceva la situazione però non diceva le persone che lui aveva effettivamente nelle mani quindi a lei non risulta da chi l'avesse appreso come? quindi a lei non risulta da chi l'avesse appreso no io l'ho sentito direttamente da Rina sì esatto però il Rina onestamente non l'ha detto diciamo a me non me l'ha detto sì 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 per carità che lei sappia furono prese da Rina o da altri iniziative di altro genere per impedire che il processo il maxiprocesso si celebrasse in Cassazione o comunque che se ne ritardasse la celebrazione in Cassazione sono fatte altre prese altre iniziative decisi altri interventi gentilmente mi deve ripetere la domanda che lei sappia furono adottate da cosa nostra dalla commissione dal capo della commissione iniziative di altro genere per evitare o comunque per ritardare lo svolgimento del maxiprocesso in Cassazione ma l'intervento era a meno quello che so io di farlo restare nella prima sezione di carnevale questo diciamo Rina diceva che il Falcone dottor Falcone e l'onorevole Martelli stavano facendo di tutto lui sapeva per non lo fare celebrare a carnevale questo quello che io ho sentito lei non sape di nessun'altra iniziativa adottata ma questi qua poi anche si commentava con Ganci con Biondino diciamo queste cose ma principalmente la fonte quella autorevole è stata quella di Rina che io l'ho sentito che lui aveva saputo di persone suoi non affatti in nome che Falcone e Martelli stavano facendo di tutto per non ci fare celebrare questo processo a carnevale questo mi è chiarissimo io forse non sono stato chiaro e quindi insisto soltanto un secondo ma non vado più avanti desideravo adesso sapere a parte questo discorso che è chiarissimo se Cosa Nostra in senso lato adottò iniziative o scelse di mettere in atto azioni per impedire o ritardare la celebrazione del processo in Cassazione è un discorso diverso che le faccio adesso se a lei naturalmente risulta io in questo momento non mi ricordo quello che dice lei in questo momento non mi ricordo io non dico niente io le chiedo per carità lei mi scandalizzo che lei non ricordi ci mancherebbe per quanto attiene la sentenza lei oggi ha fatto un riferimento a una sentenza annullata nel processo per l'omicidio del capitano Basile e ha fatto un riferimento al pagamento se ho ben capito tramite Mandalari di 600 milioni ricordo bene benissimo lei sa apprese da chi furono pagati questi 600 milioni ma guardi quando si trattava di pagare soldi per processi di Cosa Nostra ce ne erano tutti quelli che si volevano e quindi i soldi li usciva diciamo Riina se così possiamo dire la cassa di Riina ma questi soldi sono stati consegnati a questo Mandalari e Mandalari l'ha dato a chi l'ha dato che io onestamente non lo so fino a qua io l'ho saputo che i 600 milioni sono stati consegnati a questo Mandalari poi realmente a chi a chi li abbia dati non le risulta no a me non lo so sa però se lo sa ovviamente a quale dei tantissimi processi per l'omicidio del capitano Basile facesse riferimento questo pagamento in sintesi per spiegare meglio la domanda questo processo ha avuto più processi in primo grado più processi in appello più processi in cassazione lei è in grado di individuare quali dei tanti processi il termine processo ovviamente è improprio ma per intenderci meglio a quale dei tanti processi si riferisse questo pagamento lei vuole dire il giudizio che c'è stato nella condanna no intendo dire per quale per quale fase di processo per quale grado di giudizio sarebbero stati pagati questi 600 milioni in primo grado in appello in cassazione no quello che so io è stato in cassazione in cassazione sì infatti io quella giornata che si è celebrato questo processo in cassazione mi sono incontrato con Nino Madonia figlio di Francesco Madonia e lui era in una macelleria nella zona di via Meraglio Rizzo appunto che stava aspettando questa telefonata da questo mandalare per comunicarci l'esito della sentenza però ancora non arrivava fino a quell'ora che io mi trovavo con lui poi io me ne sono andato dopo l'ho sentito dopo qualche giorno che l'esito era stato positivo l'annullamento c'era stato ho capito sulla cassazione e poi vado rapidamente a chiudere lei sa che per il processo che poi si concluse al 30 gennaio del 92 era stato designato un sostituto procuratore generale per la trattazione di questo processo in cassazione e chi era questo sostituto procuratore generale? pubblico ministero per intenderci no si si l'ho capito benissimo in questo momento non mi ricordo non si ricorda per l'omicidio del dottor Falcone lei oggi ha detto Rina avrebbe incontrato persone importanti questa è l'espressione che lei ha adoperato e non ha saputo dire chi fossero esatto? si ricorda però se questo questo tipo di incontri erano avvenuti anche con riferimento ad altre vicende di Cosa Nostra ad altri omicidi cosiddetti eccellenti se in altre circostanze Rina disse di aver incontrato persone importanti o si seppe che aveva incontrato persone importanti? no io l'ho saputo non da Rina l'ho saputo da Ganci Raffaele mentre stavamo andando verso Capaci lui mi disse queste parole e se c'è stato in qualche altre circostanze io non l'ho sentito quello che l'ho sentito è stato come ho detto l'ultima cosa e ho finito a proposito del funzionamento della commissione se un capomandamento sta fuori in Palermo abitualmente come fa a partecipare alle riunioni della commissione? ma guardi il capomandamento se abita fuori di Palermo non è che ci sono problemi per rinciacciarlo e farlo partecipare assolutamente problemi non ce n'è perché il primo diritto e dovere che lui ha è di partecipare non è che può dire io non posso venire perché ho impegni perché il vincolo è tale che nessuno può dire non vengo quindi le vie di poterlo chiamare ce ne sono tantissime e questo avveniva abitualmente per esempio nella sua famiglia? ma io posso dire che Calò abitava a Roma però lui spessissimo veniva a Palermo si incontrava con Riina partecipava appunto quando l'ho accompagnato a San Giuseppeato quindi lui abitava qui a Roma però era sempre quasi a Palermo faceva andato e ritorno grazie nessun'altra domanda allora signorina a questo punto stante l'ora tarda il Presidente rinvia il processo all'udienza di domani 20 aprile 1996 ore 9 avvertendo del rinvio al pubblico ministero e i difensori ordinando per tale data la traduzione degli imputati l'udienza è tolta grazie grazie grazie